Buonasera a tutti. Procediamo con l'appello nominale. La parola al segretario generale. Landucci, Nossa, Pastorino, Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romaniello, Teormino, Titta Ferrante, Torraco, Tremolada, Bavassori. Allora risultano 21 consiglieri presenti e 4 assenti. Il consigliere Pavan e la Miranda risultano assenti giustificati. Servono sempre i tre scrutatori, Bavassori, Cremonesi e Torraco. Allora invito tutti ad alzarsi in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie. 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 Buonasera. Allora siamo qui questa sera per presentare il bilancio delle farmacie comunali relativo all'anno 2012. Questo bilancio che viene presentato oggi differisce in alcune voci dal precedente bilancio che era stato redatto dal Consiglio di Amministrazione precedente. Questo in seguito anche alla due diligence che era stata richiesta da parte mia e del Commissario nel momento in cui siamo stati nominati all'azienda delle farmacie. Quindi nel momento appunto in cui siamo stati nominati per avere anche una contezza e avere una chiarezza rispetto ai numeri della situazione delle farmacie abbiamo chiesto ad una società esterna la validazione dei numeri e quindi avere una situazione chiara di quello che ci veniva rappresentato. Questa due diligence ha evidenziato come prima a Chito alcuni valori che differiscono in modo importante rispetto alla valutazione e ai dati che c'erano stati forniti. In questo l'espressione differiscono in poche voci ma quelle poche voci riferite essenzialmente alle errate valutazioni del magazzino. Quindi fatta questa piccola premessa illustro un attimo il contesto in cui ha operato l'azienda farmacie nell'anno 2012 come settore generale sia a livello nazionale che a livello regionale. Quindi il trend della spesa farmaceutica nell'anno 2012 ha continuato in trend negativi quindi di diminuzione di costo che aveva iniziato negli anni precedenti e in particolare dagli anni 2010 e 2009. Nell'anno 2012 a livello nazionale si è registrata una diminuzione del costo del servizio sanitario quindi della spesa farmaceutica relativa al servizio sanitario di circa il 9%. Questo è un dato evidenziato come valore economico in controtendenza però dal numero di ricette che hanno avuto un incremento rispetto alle ricette registrate nell'anno precedente. Quindi è chiaro che in questo caso c'è stata la manovra a livello nazionale di riduzione della spesa sanitaria e le farmacie in genere hanno dato un grosso contributo su questo valore. Come dicevo prima ci sono stati vari elementi che hanno contribuito a questa riduzione. Uno di questi elementi è sicuramente il taglio dei prezzi dei medicinali. L'altro sono l'aumento delle trattenute che a livello centrale vengono imposte alle farmacie. Un altro aspetto direi importante su cui si è fondata la campagna nazionale è l'incremento dei medicinali equivalenti dovuti anche alla progressiva scadenza dei brevetti e quindi il farmaco generico viene erogato ad un prezzo più basso rispetto a quello che sono i farmaci con brevetto ancora attivo. Altro aspetto che è inciso sulla riduzione del fatturato del servizio sanitario è il continuo aggiornamento delle liste dei farmaci che passano sul doppio canale cioè dove vedono le farmacie dei semplici distributori per conto delle ASL dove le farmacie quindi non hanno le marginalità della vendita diretta ma hanno semplicemente un rimborso per il servizio erogato per conto delle ASL. Quindi abbiamo illustrato un piccolo specchietto dove viene evidenziato il costo delle imposte a carico delle farmacie che varia a seconda del prezzo del farmaco e a seconda del fatturato delle farmacie. Considerando che un ricarico medio, un margine teorico da parte delle farmacie si attesta intorno al 30-35 e le trattenute del servizio sanitario in media per le fasce di farmaco che vendiamo variano da un 6% ad un 21% di trattenute ci attestiamo a circa un 20% di margine di contribuzione contro i margini ben più alti degli anni precedenti. Questo anche come dato ci tenevamo ad evidenziare che le trattenute rispetto all'anno precedente sono sostanzialmente rimaste invariate a livello di valore economico con un leggero aumento dello 0,1% a fronte di una riduzione di fatturato del servizio sanitario del 2,8%. Quindi mantenendo più o meno invariato il costo delle trattenute a fronte di una diminuzione di fatturato si evidenzia quindi la minore marginalità dell'attività rispetto all'anno precedente. Questo è il primo dato che secondo me è abbastanza importante, cioè una media nazionale che mi dà una riduzione del 9% a fronte di una riduzione del 2,8% delle farmacie comunali di Sesto. Quindi vuol dire che il territorio di Sesto ha mantenuto e quindi ha, tra virgolette, incrementato le vendite a livello quantitativo che chiaramente ha avuto un risultato negativo per la riduzione del prezzo del farmaco. Quindi in questo senso ci sono anche delle statistiche e comunque dei valori presi anche dal Federfarma piuttosto che gli istituti di riferimento dove evidenziano questo valore non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale e a livello provinciale. Quindi il valore che abbiamo detto prima della spesa sanitaria ha una diminuzione della spesa lorda del servizio nazionale in Lombardia di circa il 5,22% nella provincia di Milano il 4,36% e come ho detto prima la spesa delle farmacie è diminuita soltanto del 2,8%. Quindi ha mantenuto sostanzialmente l'attività e in qualche caso, ripeto, in termini di volumi incrementato. Stesso discorso per il ticket dove a fronte di un aumento medio in regione Lombardia del 4,16% e del 3,82% nella provincia di Milano le farmacie hanno incrementato del 4,6% il ticket. Numero di ricette, anche qui c'è un incremento a livello regionale dell'1,85%, spesa sanitaria della provincia di Milano più 1,39% mentre le farmacie hanno avuto un incremento del 2,75% del numero delle ricette che sono state gestite. Quindi da questo punto di vista, ripeto, le farmacie a livello, sull'attività propria delle 10 farmacie sostanzialmente ha mantenuto il fatturato e, ripeto, in alcuni casi anche migliorato rispetto all'andamento della spesa nazionale. Per quanto riguarda le singole farmacie, quindi il fatturato l'abbiamo visto più o meno in calo su quasi tutte le farmacie, delle piccole variazioni sul valore complessivo, nel senso che ci siamo attestati ad un fatturato, e qui, ripeto, parliamo delle 10 farmacie, di 11,9 milioni con una diminuzione dell'1,64% rispetto all'anno precedente. Ci sono alcune farmacie che in termini percentuali hanno avuto un grosso incremento, queste sono le farmacie più piccole, quelle che erano maggiormente penalizzate negli anni precedenti, sia da dislocazioni territoriali che erano un po' sfortunate, la comunale 9 che ha visto il bacino di utenza ridotto, ha avuto nell'anno 2012 un incremento del 23% rispetto all'anno precedente, che vanno poi a compensarsi con le altre farmacie che hanno avuto delle perdite di fatturato, ma sempre nei limiti, che dicevo prima, quindi molto contenuti. Diciamo che gli 11,9 milioni, quindi quasi 12 milioni di euro di fatturato delle farmacie sono suddivise su due grossi filoni. Il primo sono le vendite dirette, quelle che dicevamo che hanno avuto quel piccolo incremento, e si attestano circa su 4,9 milioni di fatturato a fronte delle vendite del servizio sanitario, quindi sulle ricette, di circa 7 milioni di euro. In questo contesto, diciamo che l'attività delle farmacie comunali ha mantenuto quello che era l'obiettivo di non perdere grosso fatturato e ha svolto anche delle attività sociali e promozionali, quali alcune campagne trimestrali con prodotti in sconto su alcuni panieri che vengono selezionati dalla direzione e dai vari direttori per offrire al pubblico dei prezzi un po' più calmirati, piuttosto che delle tessere per gli over 65, delle tessere di fedeltà che danno la possibilità di ottenere degli sconti da un 7 a un 10% con accumulo di punti e quindi sconto poi sugli acquisti successivi e nel 2012 è stata anche messa in campo una promozione della tessera baby, dove per tutte le neomam sestesi dava diritto ad uno sconto sia sui prodotti che ad alcune visite gratuite per i bambini. Nell'ambito di queste attività sono stati impostati anche alcuni servizi come una convenzione sottoscritta con l'ospedale della città di Sesto per ritirare le terapie anticoagulanti e quindi la scheda terapeutica TAO direttamente presso le farmacie dando quindi un servizio alla cittadinanza che non doveva recarsi per forza in ospedale ma poteva ritirarlo anche presso le nostre 10 farmacie. Altra attività che è stata messa in campo nell'anno 2012 era la farmacia cardiometabolica che è stata attivata con la collaborazione del CNR di Roma ed è stata presentata a inizio gennaio alla cittadinanza. Questo era il primo esperimento in Italia per le strategie di prevenzione sulla prevenzione cardiovascolare. È stato poi anche attivato presso la farmacia Marelli 7 un punto di riferimento su uno dei settori che si spera possa essere uno dei settori in crescita che è quello della veterinaria cercando di farlo diventare uno dei centri di riferimento del territorio per questa attività. Sono stati portati a termine anche dei progetti di magnetoterapia sulla salute e bellezza su due farmacie principalmente sulla farmacia di Tino Sadi e la farmacia 9 del Restellone. oltre al servizio CUP che è stato attivato sulle varie farmacie. Per quanto riguarda gli investimenti nell'anno 2012 non ci ha visto impegnati in grossi investimenti se non in una ristrutturazione della farmacia della 7 la notturna per rivedere un po' gli arredamenti e il layout della farmacia per riammodernarla un po' e dare un servizio anche ai cittadini in quanto è stato creato all'interno una cabina da dedicare anche all'autoanalisi. L'investimento comunque è stato contenuto nell'ordine di un 60.000 euro. come tutti gli anni ci si è dedicati anche ad una formazione del personale dedicando circa 236 ore di formazione per tutto il personale suddiviso in alcuni gruppi. Innanzitutto queste ore di formazione va dato atto appunto ai dipendenti che sono state fatte tutte al di fuori dell'orario di lavoro quindi l'attività non ne ha risentito e sono stati pagati gli straordinari ovviamente per questa formazione. Quindi l'attività ha avuto un costo di circa 12.000 euro e sono stati dedicati 116 ore riguardando corsi per l'approfondimento di procedure gestionali e delle farmacie quindi il sistema degli inventari piuttosto che il sistema di spedizioni SIS eccetera mentre altri corsi di formazione per la sicurezza e l'HCCP che sono corsi anche obbligatori da erogare. Sono state poi dedicate 140 ore per la formazione professionale dei farmacisti su attività dedicate e concordate con i vari direttori quindi passando poi alla seconda attività oggetto delle farmacie viene evidenziata l'attività di magazzino questa è un'attività che ha visto nell'anno 2012 un primo grosso calo di fatturato infatti nel 2011 l'attività di magazzino quindi di vendita dei prodotti dal nostro magazzino centrale a altri grossisti o farmacie e clienti si attestava circa sui 7 milioni di euro nel 2012 ha visto un calo importante arrivando fino ai 2 milioni e 7 circa di fatturato quindi questo ha evidenziato anche alcune problematiche nella gestione appunto di questo settore tant'è che è stato uno dei primi punti che il commissario e io abbiamo valutato nel momento in cui siamo stati nominati e oggi diciamo c'è un piccolo aspetto positivo perché anzi più che piccolo direi importantissimo abbiamo avviato la gara per affittare il ramo di azienda e dopo una prima gara deserta comunque con procedura negoziata è stata aggiudicata provvisoriamente e questo ci permetterà di risparmiare parecchi centinaia di migliaia di euro in quanto come vi dicevo il fatturato non era più in grado di coprire i costi fissi di questa attività per quanto riguarda l'andamento della gestione dicevo prima i ricavi a livello totale sono diminuiti dai 18 milioni e 8 che avevamo nel 2011 a 14 milioni e mezzo e questa riduzione è dovuta quasi esclusivamente alla riduzione dell'attività di magazzino quindi alle mancate vendite rispetto ai clienti vicini delle farmacie vicine questa riduzione di ricavi ovviamente si è riversato anche sul lato degli acquisti di materie prime ovviamente mancando la vendita le farmacie hanno avuto un forte decremento anche degli acquisti e quindi le due voci di grossa variazione fra i due anni sono uno il fatturato in decremento e due i costi di acquisto di materie prime sugli altri costi direi che sostanzialmente le voci non si discostano molto dagli anni precedenti se non sul personale che ha visto nell'anno 2012 alcuni pensionamenti che non sono stati integrati come interiore personale dipendente e l'incremento di una risorsa che era dipendente in libera professione proprio per non ingessare anche l'attività quindi c'è stato uno spostamento di costi dal costo del personale dipendente al costo dei servizi la voce che salta un pochettino all'occhio è appunto quello che si diceva prima sulle variazioni delle rimanenze che era oggetto in modo particolare della due diligence c'è stata una riallocazione di questi importi in parte per la cifra che si riteneva di competenza dell'anno nelle variazioni delle rimanenze mentre per le cifre che si riteneva potessero essere di competenza di esercizi precedenti negli oneri straordinari oltre queste cifre che sono state viste ripeto con la relazione della due diligence nella redazione di questo bilancio sono state prese in considerazione alcune poste che abbiamo trovato traccia nei fatti aziendali quindi sono stati accantonati principalmente circa 160 mila euro per la precisione 162 mila euro di di un fondo cause in corso in quanto sono state riscontrate pendenti delle situazioni dimorosità dell'azienda nei confronti di alcuni soggetti che si sembrava doveroso inserire nel bilancio per una corretta valutazione della situazione quindi per quanto riguarda i servizi direi generali anche qui non ci sono grosse variazioni l'unica variazione anche qui degna di nota era nei servizi amministrativi dove c'è una riduzione importante di circa 120 mila euro che viene collegata comunque alla gestione del magazzino in quanto per la gestione del magazzino ci si avvaleva di alcune consulenze esterne sia prestazioni di servizi da parte di aziende specializzate sia di persone in libera professione per la gestione di questa attività che venendo meno questo fatturato e quindi questo lavoro sono state ridotte e hanno come dicevo una riduzione di 120 mila euro sul fronte del godimento beni di terzi sostanzialmente il valore rimane invariato ed è rappresentato esclusivamente dagli affitti che l'azienda sostiene per le 10 farmacie e oltre quindi all'affitto anche per le spese condominali ma non ci sono variazioni rispetto all'anno scorso di fatti si registra una variazione di circa 100 euro sostanzialmente invariato per quanto riguarda il personale dicevamo prima c'è una riduzione di circa 150 mila euro attribuibile a questi pensionamenti che non sono stati sostituiti con personale dipendente sul fronte ammortamenti e svalutazioni non non ci sono anche qui grosse variazioni rispetto agli anni precedenti l'altra variazione importante come avevo detto prima è la variazione delle rimanenze per la riclassifica e la corretta valutazione impostata da parte della società esterna che ci ha redatto la due diligence e direi quindi sotto questo aspetto non ci sono grosse differenze ci sono delle differenze degne di nota negli oneri diversi di gestione ma sono dovuti in modo principale alle imposte e tasse che sono state pagate per il servizio sanitario quindi è dovuto all'incremento della tassazione in modo particolare per la trattenuta del decreto legge del 2010 che imponeva la tassazione appunto sul farmaco sul fronte degli oneri finanziari anche qui è abbastanza in linea rispetto agli anni precedenti non ci sono grosse variazioni l'unica direi nota leggero incremento dell'utilizzo del filo bancario che ci ha portato a incrementare di qualche cosina gli interessi passati la voce appunto che è più consistente sono gli oneri straordinari che come dicevo prima racchiude quelle valutazioni quelle differenze dei criteri di attribuzione del valore delle rimanenze che sono state illustrate nella due diligence quindi a livello di investimenti abbiamo riportato uno schema che evidenzia gli acquisti dell'anno anche qui come dicevo prima non ci sono stati grossi investimenti ci sono stati 7.000 euro di software migliorie su beni di terzi 26.000 impianti per 4.000 arredamente di attrezzature 63.000 riferiti come ho detto precedentemente alla farmacia 7 per la creazione del laboratorio e per l'arredamento e 6.000 euro di macchine elettroniche quindi direi assolutamente nella norma questo era un po' come relazione andando sulle differenze anche patrimoniali vediamo che nella voce crediti c'è una diminuzione di circa 500.000 euro rispetto all'anno precedente questo è attribuibile come dicevo prima alla diminuzione del fatturato ovviamente diminuendo le vendite e quindi i crediti nei confronti dei clienti nel momento in cui incassiamo le fatture più vecchie di importi più elevati c'è una sostanziale riduzione dei crediti e quindi direi in linea con la diminuzione del fatturato altra diminuzione importante che viene evidenziata è quella dei crediti tributari questo perché nell'anno 2011 era stata presentata una dichiarazione IVA con un credito importante che era stato certificato da un professionista esterno di circa 400.000 euro questo credito è stato utilizzato in compensazione sia per i versamenti diretti dell'IVA sia per i versamenti dei contributi quindi utilizzando questo credito nel 2012 sostanzialmente era quasi tutto utilizzato si evidenzia questa grossa variazione sulle altre voci anche qui non ci sono grossi scostamenti lo scostamento anche qui più evidente più importante nella perdita di esercizio la perdita di esercizio che riporta un valore direi importante di 1.957.000 questo è dovuto come dicevo prima alle problematiche di errata valutazione di alcune poste di bilancio che abbiamo già evidenziato precedentemente questo cosa comporta comportato nella nella redazione del bilancio l'evidenziazione di un patrimonio netto negativo di circa 900.000 euro questo valore quindi come dicevo della perdita di 1.957.000 ancora presenti al 31 dicembre dell'anno precedente e per un residuo di 900.000 che appunto si porta qui all'attenzione per la copertura sul quindi sugli altri importi direi che non non ci sono differenze l'altra voce che è stato oggetto anche di rivisitazione del bilancio sono le imposte anticipate nella prima stesura del bilancio predisposto quindi dal precedente consiglio d'amministrazione erano state appostate delle imposte anticipate sulle perdite fiscali degli anni precedenti su questo i revisori che hanno visionato il bilancio quindi la società esterna della due diligence ha ritenuto non ci fossero i criteri previsti dai principi contabili e quindi abbiamo sterilizzato e l'abbiamo tolto il valore è di circa 164 mila euro questo va ulteriormente come dicevo a ridurre il patrimonio ma è già compreso nel valore che dicevo precedentemente della perdita e del patrimonio residuo relativo al bilancio in approvazione del 2012 direi che altri aspetti importanti non ce ne sono l'organico delle farmacie al 31 dicembre del 2012 era composto di 39 unità di cui 7 dirigenti e 32 impiegati direi che su questo la relazione può essere considerata conclusa conclusa si dottor con la santa stia stia qui un attimo magari se qualcuno o qualche consigliere vuole fare qualche domanda di chiarimento sì grazie presidente io volevo fare una domanda magari entra più nel merito tecnico di un dato che ci ha fornito in particolar modo sui crediti dove ha anticipato che c'è stata una riduzione di 500.000 euro rispetto al bilancio precedente che era stato approvato sul 2012 giusto e la motivazione ha asserito che è una conseguenza di una riduzione del fatturato giusto una curiosità volevo capire se stiamo parlando di crediti dell'annualità quindi dell'anno in corso erano vetusti e di che anni eventualmente e se c'erano diciamo da visure camerali delle inesigibilità riscontrabili già nelle annualità precedenti in questo caso e perché non sono stati creati dei fondi di svalutazione negli anni competenti grazie puoi rispondere subito grazie allora come dicevo prima direi che la situazione dei crediti non ha creato grosse problematiche all'azienda non c'erano le condizioni e queste sono state verificate anche dalla società che ha certificato la situazione quindi la due diligence e anche i revisori esterni diciamo che erano dei crediti assolutamente in linea con l'attività che veniva svolta tant'è che a fine 2012 i crediti verso clienti su un fatturato di 14 milioni di euro erano circa 800 mila possiamo dare un ulteriore dato che a fine 2013 questi crediti si sono ridotti a 230 mila quindi il credito non è sicuramente una posta problematica per l'azienda anche perché gran parte di queste attività sono svolte nei confronti del servizio sanitario e quindi incassati senza problemi e moltissima parte di questa attività fatta direttamente col privato e quindi incassati in contanti sulle farmacie erano quasi tutte esclusivamente farmacie comunali dove il credito diciamo non ha grossi rischi di insolvenza quindi ritengo che anche per questi motivi non erano stati appostati dei fondi in quanto non risultavano crediti incagliati da lungo periodo grazie se ci sono altre domande facciamo se non ci sono domande consigliere ditta ferrante prego buonasera a tutti buonasera a lei dottor colassanto volevo chiederle poteva darci qualche delucidazione sulla relazione che la società è stata chiamata sulla società che è stata chiamata per certificare il bilancio quindi sulla new diligence può darci qualche illustrazione sulla relazione che hanno fatto per favore grazie si è dottor raccogliamo un paio di domande così come avevo detto in precedenza è stata nominata appunto questa società esterna per la redazione di questa due diligence questa due diligence è un'attività di tipo gestionale quindi ha evidenziato una serie di diciamo punti su cui lavorare e si è focalizzata come dicevo precedentemente in modo particolare sulla valorizzazione del magazzino nel mese di agosto a farmacie sostanzialmente chiuse è stata fatta in tutte e dieci le farmacie e nel magazzino centrale una rilevazione puntuale di tutte le giacenze di magazzino quindi con l'aiuto sia delle software house sia del personale nostro e loro per questa attività nelle due settimane centrali di agosto appunto è stata completata questa operazione di rilevazione delle giacenze fisiche e di valorizzazione del magazzino quindi questa diciamo era l'attività principale su cui si sono dedicati poi nella loro relazione sono stati evidenziati alcuni punti organizzativi che secondo loro andavano migliorati ma sono attività su cui noi abbiamo lavorato e direi che alcune attività a livello organizzativo proprio di flussi informativi piuttosto che organizzazione degli acquisti eccetera sono state già oggetto di attività dai primi giorni del nostro insediamento quindi ci ha evidenziato quello che in qualche modo avevamo già considerato e visto come attività quindi a livello di due diligence ripeto i valori che sono stati evidenziati sono quelli del del magazzino grazie naturalmente qualche domanda può rispondere anche il commissario straordinario dottor Luca Finazzi quindi se vogliamo coinvolgere anche il commissario prego grazie grazie mi risulta consigliere De Noi vuole fare una domanda prego la mia domanda è di chiarezza anche perché almeno ci capiamo tutti volevo volevo sapere la mancata approvazione del bilancio che cosa comporterebbe grazie un attimo adesso non so chi può rispondere se aspettiamo che magari c'è qualche altra domanda un attimo dottor Finazzi risponde lei risponde lei dottor Finazzi prego la mancata approvazione del conto consuntivo che è ovviamente una prerogativa di questo consiglio così come quello dell'approvazione porterebbe nella sostanza all'interruzione dell'attività societaria vi è un ragionamento di interpretazione giuridica aperta sul fatto se le aziende speciali siano fallibili o meno e la prevalenza della dottrina è nel senso della non fallibilità rimane il fatto che una perdita di questa natura che non trovasse copertura in buona sostanza porterebbe all'interruzione dell'attività societaria cioè l'azienda non avrebbe più le risorse minime per fare fronte agli impegni né a breve né a medio periodo e potrebbe trovarsi di fronte alla richiesta dell'istituto di credito di rientrare rispetto al castelletto che può essere utilizzato nonché a un blocco sostanziale da parte dei fornitori non si tratterebbe di un fallimento in senso tecnico ma di un blocco dell'attività societaria è chiaro che una perdita di questa natura dove il bilancio non venisse approvato e non ci fossero azioni conseguenti concluderebbe l'esperienza dell'azienda farmacie comunali grazie a dottor Finazzi se ci sono altre domande prego consigliere Landucci prego una domanda legata a quello che è stato appena detto cioè noi adesso dovremmo andiamo a discutere ed eventualmente approvare il bilancio 2012 quindi un bilancio molto vecchio in linea teorica ma non ci sono dei termini di approvazione questo non ho ancora mai capito cioè il fatto che non si venga approvato a distanza di un anno e mezzo sostanzialmente un mese prima di quando forse dovremmo approvare quello nuovo cioè quello del 2013 mi ha sempre lasciato un po' perplesso questo lungo lasso di tempo e vorrei capire come è stato possibile come e perché è stato possibile grazie grazie alla consigliera Landucci prendiamo un'altra domanda dal consigliere Caponi prego sì grazie presidente io sulla base della sua relazione mi è sembrato di capire che è una situazione tranquilla cioè non ho colto situazioni di difficoltà mi passa un po' di risentire una relazione di qualche mese fa dire la verità però mi risulta che è stato presentato anche un esposto alla Corte dei Conti allora volevo sapere lei nell'analisi e nel nel suo mandato si era avvisato e si vuole spiegare quali tipi di anomalie sono state da lei ravvisate riscontrate e cosa ha segnalato alla proprietà su tali comportamenti degli organi societari precedenti grazie grazie consigliere Caponi le due domande chi risponde il dottor finanzi o dottor finanzi prego allora la consigliera Landucci ha posto una domanda sulla tempistica chiunque abbia un minimo di esperienza di pratica in un consiglio comunale sa che il bilancio delle aziende speciali delle società partecipate quello consuntivo deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo e deve essere poi approvato dall'azienda e deve essere poi approvato dal consiglio ordinariamente entro l'anno è quindi evidente che ci troviamo in una situazione straordinaria sottolineata dal fatto che l'azienda la cosa si concluderà nel giro di qualche giorno dal 10 di luglio è commissariata e dal fatto che la necessità che insieme col direttore abbiamo ravvisato anche alla luce del mandato del sindaco è stata proprio quella di fare effettuare una due diligence per una puntuale verifica dei conti e delle scritture societarie il dottor Colassanto credo poi integrerà però credo che la sostanza infatti io non so ciascuno ha la sua percezione il consigliere avvocato Caponi ha percepito questa relazione la relazione del direttore sostanzialmente come una relazione quasi ordinaria beh devo dire che al di là dell'understatement sabaudo del dottor Colassanto che ha definito importante una perdita di un milione 957 mila euro a me pare che questo dato indichi invece l'assoluta straordinarietà della situazione e che ha richiesto una verifica puntuale perché i primi riscontri da prima anche del solo direttore poi anche della gestione commissariale avevano portato a verificare come il bilancio approvato dal Presidente Consiglio di Amministrazione avesse una scarsa corrispondenza con la situazione societaria che abbiamo trovato fatti alcuni primi riscontri abbiamo ritenuto che fosse bene fare quella verifica esterna sulla quale è stata posta una domanda prima verifica esterna che ha acclarato inventarietà inventariando ricostruendo i prezzi di costo delle merci affiancando all'analisi economica l'analisi organizzativa ha acclarato una perdita corrente che è passata da 340.000 euro a 722.000 in realtà un po' meno perché c'era la questione delle imposte anticipate che è stata più una discussione tecnico-giuridica e sopravvenienze per sopravvalutazione di magazzino oltre a qualche altro piccolo elemento per oltre un milione quindi è evidente una situazione di assoluta straordinarietà che ha portato sia il sottoscritto che il direttore non solo a informare puntualmente la proprietà nella persona del sindaco e nelle numerosissime riunioni di commissione nel rendere immediatamente pubblica la due diligence sia la relazione dei due professionisti che hanno fatto l'analisi di bilancio che la relazione di revisione dei dottori commercialisti che hanno fatto l'operazione di certificazione devo dire relazione talmente pubblica che è stata addirittura postata in omaggio a un principio di fortissima trasparenza da qualche soggetto esterno all'azienda sui siti internet e quindi ha avuto il massimo di conoscenza è stata trasmessa alla procura della corte dei conti sottolineo alla procura cioè all'organismo inquirente della magistratura contabile tutta la documentazione cioè il bilancio approvato dal precedente consiglio amministrazione la documentazione della due diligence la documentazione della certificazione e tutte le pezze giustificative gli inventari e tutta la documentazione di appoggio perché la procura della corte possa fare le sue valutazioni sia sul piano diciamo di eventuali irregolarità contabili e amministrative noi abbiamo segnalato anomalie non compete a noi una funzione né inquirente né giudicante però abbiamo segnalato anomalie che ci sembravano di estrema rilevanza stanti anche i dati economici differenti che emergevano della due diligence e alla procura della corte dei conti come organo inquirente compete non solo di attivare eventualmente l'azione di responsabilità contabile ma anche di trasmettere alla procura della repubblica la documentazione qualora riscontrasse che ci siano possibili ipotesi di reato e possibili profili di responsabilità penale in questo senso noi riteniamo di avere assolto sia al dovere e all'obbligo di comunicazione e puntuale raccordo con la proprietà con la quale si è anche costantemente sviluppato il confronto sulle soluzioni da adottare sia la funzione che ci competeva come incaricati di pubblico servizio di dare conto all'autorità competente di quello che avevamo trovato su cui non avevamo una piena e completa serenità grazie a dottor finazzi grazie presidente ma lei ha toccato un tema che avrei voluto toccare alla fine però è bene discutere perché l'ha introdotto lei commissario straordinario lei dice avere trasmesso gli atti alla procura contabile che ha un potere inquirente dal punto di vista amministrativo e dell'indagine dei conti per poi esercitare l'azione di responsabilità bene su questo ne siamo contenti ne siamo lieti perché vuol dire che avete ravvisato probabilmente delle anomalie tali che sono emerse in maniera copiosa e molto forte dalle due diligence questo io dicevo al direttore perché mi è sembrato che ha cominciato a parlare dalle 20.57 fino alle 21.21 ha descritto una situazione di anomalità tranne dedicare tre minuti al magazzino e al problema della mancata informatizzazione delle farmacie ma io la mia domanda che le pongo è questo concordo con lei sulla circostanza e ripeto ne siamo lieti come gruppo politico che ha trasmesso alla corte dei conti tutta la documentazione e le pezze giustificative ma il timore è che il rischio dell'indagine contabile possa influire sull'indagine penale che lei giustamente ha richiamato io non ne ho fatto cenno ha fatto cenno lei ha detto qualora poi la corte dei conti ravvisasse elementi di natura penale trasmetterà gli atti alla propria repubblica beh io credo che a fronte di questa sua affermazione che ritengo che sia molto grave perché il rischio è che poi decorano i termini di prescrizione e credo che sesto la prescrizione sia diventata un po' di moda nell'accertamento dei reati ecco io non vorrei che chi sia veramente reso responsabile di certi reati aspettando che la corte dei conti con i tempi ovviamente non soltanto quella questione contabile di sesto debba svolgere delle indagini per poi trasmettere tra due o tre anni alla procura della repubblica ripeto facciamo domande tecniche riguardando l'argomento non andiamo il dibattito sulla giurisprudenza lì andiamo troppo lungo grazie consigliere franciose e poi e poi la consigliera Antonioli e poi chiudiamo prego grazie presidente allora io qualche tempo fa vi ho fatto una domanda in merito alla mancanza dei regolamenti di controllo di gestione e vi avevo chiesto come mai durante l'attività commissariale non aveste preso in considerazione l'idea di implementare finalmente un reale controllo di gestione perché da quello che emerge dalla revisione dei conti emerge che nonostante avessimo un consulente che doveva fare controllo di gestione il controllo di gestione è mancato completamente essendo inesistenti regolamenti e voi mi avete risposto che l'approvazione di eventuali regolamenti sarebbero stati poi a carico dell'attività ordinaria quindi post commissariamento allora la mia domanda è per quale ragione non considerate la condizione di mancanza di regolamenti di controllo di gestione una condizione di straordinarietà che avrebbe dovuto secondo noi catturare la vostra attenzione assieme a tutte le altre procedure che avete implementato in questi mesi grazie c'è la consigliere Antoniolli e poi facciamo rispondere no grazie signor Presidente non era una domanda era semplicemente il fatto che dobbiamo fare delle domande non dobbiamo entrare nel merito perché la discussione viene fatta dopo e non siamo in un lavoro del tribunale grazie grazie prego dottor Finazzi se vuole rispondere allora ma sentendomi del tutto sereno rispondo volentieri alla domanda dell'avvocato Caponi così come a quella della consigliera Franciosi l'avvocato Caponi pone un rilievo e dice perché non avete trasmesso la documentazione alla procura della Repubblica è stata una scelta adottata d'intesa con la proprietà ritenendo che allo stato degli atti non competesse non competesse a noi non vi fosse obbligo di adire anche quel canale e che adire un canale che non è velocissimo ma rispetto che rispetto al rischio di prescrizione come dire sarei un attimino più prudente fosse il canale proprio ovviamente nel totale rispetto di quello che l'avvocato Caponi rappresenta perché la sua domanda comporta ovviamente anche un elemento di giudizio e di valutazione che era stato posto anche nei lavori della commissione la gestione commissariale ha fatto allo stato degli atti una scelta diversa per quanto riguarda il tema posto dalla consigliera Franciosi io distinguerei i piani nel senso che sul piano non formale che sarebbe liquidare l'argomento ma sul piano giuridico e della predisposizione dei documenti regolamentari sicuramente non l'abbiamo fatto devo dire che sarebbe stato anche bello poterlo fare ma nove mesi di tempo che sembrano tanti sono sostanzialmente volati ricordo tuttavia che ho dato il mandato al direttore di conferire un incarico per l'attuazione della legge sulla responsabilità dell'azienda legge 231 che produrrà dei risultati e che il controllo di gestione ancorché non formalizzato e cristallizzato in un regolamento è stato però attuato fin diciamo dalla preassunzione dell'incarico del dottor Colassanto nel senso che nel giro di poche settimane risolta una inutile collaborazione con il consulente per il controllo di gestione è stato attivato grazie anche alla collaborazione del consulente di organizzazione dottore Tranchida un modello di rilevazione dei dati che ci ha permesso per esempio di costruire le ipotesi del piano industriale che vi sono state illustrate nel senso che i dati oggi disponibili dalle farmacie probabilmente con una tecnica ancora un po' artigianale che chi verrà dopo potrà perfezionare e come è doveroso cristallizzare in norme regolamentari però ci hanno consentito di avere esatta contezza del fattura diciamo di ogni centro di costo di ognuna delle dieci farmacie di sapere quanto incassava qual'era la marginalità quali erano i costi e di sfatare per esempio da questo punto di vista qualche opinione consolidata perfino anche nel mio pensiero quando sono arrivato lì che alcune farmacie fossero necessariamente in perdita per una collocazione strutturale fatti i centri di costo verificati i dati abbiamo visto che insomma la realtà era abbastanza diversa è stato messo sotto controllo il percorso degli acquisti dove il controllo di gestione si è abbinato a una rigorosa centralizzazione della funzione e riduzione della funzione stessa di questo ci sarà probabilmente probabilmente anche qualche riscontro positivo nel conto consuntivo 2013 ma certamente questo dato è stato monitorato e messo sotto controllo subito perché era uno dei punti di difficoltà non so se si possa definire controllo di gestione in senso stretto ma la verifica di tutte le attività legate al trasporto dei medicinali e l'avere anche riorganizzato prevedendo diciamo in attesa di affittare come poi è avvenuto di concludere la giudicazione della gara per l'affitto del magazzino per quelle poche farmacie ancora clienti esterne per esempio è stato adottato un modello per cui le consegne si facevano solo a fronte di una certa quota di fatturato quindi nella sostanza non un controllo di gestione formalizzato ma una contezza molto precisa dei conti che risulta come dire anche dai dati che sono stati più volte illustrati in commissione naturalmente sarebbe come dire a me rimane rimane un piccolo rimpianto di non aver potuto completare questa questione regolamentare e di e di non avere concluso la questione sulla responsabilità d'azienda ma lo farà lo farà chi verrà dopo augurandogli anche di trovare una situazione se non di assoluta serenità comunque un po' ricondotta ha una normalità che non è stata quella di questi nove mesi grazie dottor finanzi c'era c'era prima il consigliere romaniello poi mi è sparito dal monitor chiede la parola per fare la domanda sì allora prima il consigliere romaniello e poi il consigliere fitta ferrante prego sì grazie presidente due domande molto semplici la prima chiedo al direttore Colasanto se le risulta che nel bilancio 2012 non ci siano elementi presenti nella due diligence come dichiarato dal collega Caponi durante la commissione la seconda domanda che non è una domanda ma è un invito approfittirei della sua cortesia perché spiegasse bene la differenza tra due diligence e bilancio perché a molti questa cosa è sfuggita consigliera titta ferrante prego dottor Colasanto volevo chiedere un particolare che secondo me è molto importante dalla due diligence sono emerse lei sa meglio di me ma noi ce lo siamo letto e riletto perché eravamo sbalorditi naturalmente da quello che era emerso che le problematiche finanziarie così come anche in parte ha detto il dottor Finazzi le problematiche finanziarie economiche organizzative rilevate appunto dalla due diligence rilevavano in un passato recente c'era scritto dal si pensa dal 2010 comunque in un passato recente e con alta probabilità appunto negli anni precedenti il 2012 una tenuta dei conti lacunosa con significativi divari tra le scritture contabili e la realtà operativa se questa è la base il bilancio 2012 è stato rettificato nei modi in cui ha detto ma anche il 2013 visto che la due diligence è stata fatta nel periodo estivo e comunque le vostre iniziative sono da un certo periodo nell'ultimo trimestre del 2013 quanto tutto questo influisce sul bilancio 2013 se erano falsi i bilanci precedenti a che titolo come si va ad andare a votare e a dare come facciamo ad avere la certezza di questi dati non solo per il 2012 ma anche per il 2013 chiara la domanda dottor Colasanto se vuole rispondere rispondo prima alla domanda del consigliere Romagnello sentite ok allora dicevo la due diligence rispetto al bilancio hanno una funzione completamente diversa cioè la due diligence dà delle indicazioni e fa delle verifiche sui conti determinando nella due diligence effettuata dalla società incaricata quali erano le problematiche organizzative e in seguito a questo viene riclassificato il bilancio secondo quello che sono i criteri di una corretta organizzazione aziendale il bilancio per rispondere alla sua risposta alla sua domanda ha dei criteri di valutazione che sono dettati dal codice civile quindi ci sono delle regole ben precise quindi la riclassificazione se ci riferiamo a questo dei dati di bilancio di una due diligence possono differire dalla riclassificazione dei dati in un bilancio ovviamente nel bilancio devono essere riportati i corretti criteri di valorizzazione lei diceva prima se dalla due diligence emergevano dei dati che non risultavano corretti come facciamo ad essere sicuri che questi dati oggi sono corretti ma proprio perché abbiamo attivato questa attività con la società non sono emerse mancanze documentali nel senso che dalle verifiche fatte sia dalla società che ha redatto la due diligence sia dai revisori che hanno prodotto la relazione sul bilancio non ci sono state delle poste a parte la corretta valutazione del magazzino che erano state omesse non sono state riscontrate delle grosse anomalie nelle registrazioni non ci sono state delle mancanze o quello che si può considerare una non corretta tenuta delle scritture contabili relativi ai fatti di gestione sono state riscontrate delle valutazioni non corrette su alcune poste di bilancio ma non delle omissioni ok quindi questo mi sembra importante nel senso che la struttura ha sempre recepito il tutto correttamente poi sono stati adottati dei criteri di valutazione che non erano conformi a quelli che erano i principi contabili ma non ci sono state delle omissioni quindi questo mi sembra un dato direi importantissimo anche perché nelle normali attività di revisioni come si faceva riferimento prima al discorso dei crediti viene fatta un'attività analoga anche per i debiti verso i fornitori cioè viene fatta una circolarizzazione dei debiti esistenti in bilancio alla fine dell'esercizio con i fornitori e viene richiesto il saldo e l'estratto conto dei fornitori da tutte queste attività non sono emersi rilievi quindi vuol dire che tutte le attività poste dalla struttura amministrativa erano corrette quindi direi da questo punto di vista mi sentirei abbastanza tranquillo che non ci sono state delle omissioni per intenderci non ci sono state delle fatture non registrate sarebbero emerse da queste attività di verifica fatte sia dalla società di due diligence sia dai revisori incaricati sempre dalla società che ha redatto la due diligence quindi ripeto da questo punto di vista riterrei che non ci siano estremi per essere preoccupati mi scusi appunto sempre riferito a quello che ha detto e lei è stato molto chiaro però nella due diligence si legge proprio questa frase le elaborazioni di bilancio si sono svolte con applicazioni di criteri non riscontrati non non riscontrati i criteri non riscontrati non conosciuti non si sa che criteri sono stati usati non documentati in azienda e non riferiti nella relazione di bilancio mi scusi ma questo significa qualcosa quindi capisco quello che dice lei ma questo dice e poi comunque la domanda era come tutto questo che ripercussioni ha tutto questo nel bilancio 2013 no non è un dibattito le ripercussioni sul 2013 infatti è l'ultima l'ultima prego dottor Colassano via l'ultima risposta che dopo riprendiamo il normale consiglio per cortesia per cortesia vado avanti dottor allora consigliere Romaniello per cortesia per cortesia consigliere Romaniello per cortesia una prego ho capito bene la domanda ma come le dicevo si sta parlando di criteri di valutazione quindi non di mancanza di pezze o di omissioni o cose di questo tipo quindi cioè sono dei criteri di valorizzazione che gli amministratori hanno adottato probabilmente non le hanno esplicitati in modo esaustivo e quindi la società ha ritenuto di scrivere quello che le leggeva però non mancano dei pezzi i pezzi ci sono tutti mi chiedeva che riflesso avrà nel bilancio 2013 ovviamente nel bilancio 2013 ha avuto un riflesso per i primi mesi dell'anno però mi sento di poter confermare che rispetto a quello che è stata una previsione della società che ha redatto la due diligence le operazioni che sono state messe in campo nel secondo semestre hanno portato dei benefici e sicuramente si vedranno nel risultato 2013 rispetto a quelle che erano le previsioni grazie dottor colasanto grazie anche al dottor luca finanzi per la disponibilità quindi riprendiamo agli atti risultano due relatori di commissione il consigliere rivolta e la consigliere landuccia inizia il consigliere rivolta prego grazie grazie presidente sarò breve anche perché la lunga e dettagliata relazione del dottor colasanto credo che abbia fatto gran parte del lavoro noi questa sera dobbiamo deliberare il bilancio consuntivo del 2012 così come è stato illustrato e spiegato abbiamo in realtà fatto due commissioni io mi cercherò di concentrare cercherò di come dire di puntare la mia attenzione sullo sviluppo del dibattito in commissione più che sull'illustrazione della delibera che credo come dire sia chiara a tutti anche perché come dire propone il ripianamento fondamentalmente della perdita di un milione novecento e non mi fate dire rotti perché mi sbaglio sempre abbiamo fatto in realtà due commissioni anche se le delibere sono state nella seconda del secondo appuntamento nella prima discussione abbiamo ascoltato la relazione dell'introduzione del commissario Luca Finazzi del dottor Luca Finazzi e del dottor Michele Colasanto che ha nella sostanza fatto quella che poi è la relazione che tutti quanti oggi noi abbiamo ascoltato evidenziando le azioni intraprese per contenere i costi nel 2013 e tutte le azioni che sono state messe in campo per risanare le farmacie comunali e l'evidenziazione appunto di come si va a ripianare le perdite e allo stanziamento ulteriore di centomila euro come dote per l'azienda speciale farmacie comunali quindi con il ricorso alle riserve ancora presenti nell'azienda speciale farmacie comunali con l'accantonamento dei cinquecentomila euro fatto nell'anno precedente e con una posta di bilancio che andrà messa nel bilancio del 2014 per arrivare a un totale di un milione e sei centomila quattrocento quarantuno no un milione e sei mila quattrocento quarantuno per carità di Dio non aumentiamo gli importi la discussione fondamentalmente si è sviluppata dunque all'inizio della commissione i consiglieri Titta Ferranti e la consigliera Miranda hanno confermato l'intenzione di promuovere un'azione legale presso la procura della repubblica chiedendo per quale ragione no in realtà prima di tutto hanno chiesto per quale ragione non si fosse promosso un'azione nei confronti della procura della repubblica ma piuttosto nei confronti della corte dei conti la spiegazione è stata quella che alla corte dei conti sono stati mandati tutti i documenti sin da subito ed è stata la scelta dell'amministrazione comunale quindi si aspetta l'esito del magistrato della corte dei conti il consigliere la Miranda e la consigliera Titta Ferranti hanno comunque voluto precisare che avrebbero loro i consiglieri comunali di opposizione o loro come consiglieri comunali di opposizione promosso un'azione nei confronti presso la procura della repubblica in realtà il dibattito ci sono state poste una serie di domande da parte dei commissari riferiti soprattutto in parte ad alcune poste di bilancio così come era stato costruito il bilancio è stata posta la questione dei revisori dei conti si è chiesto la consigliera Landucci ha chiesto con forza la ragione per cui i revisori dei conti non sono stati non sono stati come si dice non sono revocati non sono stati revocati il consigliere la Miranda ha posto poi una serie di domande rispetto alla due diligence anche in questo caso ai revisori dei conti e si è fatto anche un breve passaggio rispetto alle previsioni del 2013 che dal dottor Colasanto sono state come dire annunciate meno gravi di quanto la due diligence avesse avesse previsto si è fatto il punto rispetto alla scadenza del mandato del dottor Luca Finazzi che è appunto nei prossimi giorni come mi sembra di ricordare il 5 di aprile e poi appunto ancora una serie di domande dalla consigliera Iosa soprattutto e della consigliera Franciosi sul bilancio questa è la prima serata quella in cui non sono state illustrate le delibere si è affrontato il bilancio del 2013 nella serata successiva di commissione si sono state illustrate le due delibere quella del bilancio e quindi tutta la discussione che abbiamo finito di ascoltare fino adesso e che ho relazionato nella prima parte della relazione e poi la seconda delibera la illustriamo facciamo una delibera alla volta nella seconda serata è stata come dire evidenziata in maniera netta e decisa da parte di alcuni consiglieri comunali la necessità di rendere omogenei i dati della due diligence e del bilancio proprio perché due diligence e due bilancio hanno come dire due ispirazioni diverse sono due atti profondamente diversi e quindi è stato assicurato dal dottor Colasanto e poi tutti i consiglieri l'hanno ricevuto è stato prodotto nei giorni successivi una sorta di parallelo o comunque di rendiconto che cercava di rendere più interpretabili questo è un documento che non è allegato alla delibera ma è stato dato proprio per facilitare e comprendere l'interpretazione e l'interpretazione della delle due dei due dei due documenti altro non c'è perché poi in realtà la discussione è la seconda delibera che appunto vedremo quando andremo all'illustrazione della delibera grazie grazie consigliere rivolta la parola alla consigliera Landucci prego grazie io credo che sia necessario rivedere non soltanto come dire le singole parole che non sempre rendono chiaramente una situazione quanto piuttosto l'atmosfera che c'è stata nelle commissioni non soltanto nelle ultime due ma anche nelle precedenti e come dire le riflessioni che sono alla base di queste preoccupazioni perché io credo che prima quello che diceva il consigliere Caponi voleva dire qui c'è stato illustrato un bilancio come se fosse un bilancio normale è chiaro che non lo è parte dell'understatement e sabaudo e siamo di fronte ad una situazione di estrema gravità io credo che questo la relazione di minoranza deve mettere in evidenza una situazione di estrema gravità dovuta ad una continua perdita delle farmacie dell'azienda delle farmacie negli ultimi cinque anni quindi non è che noi nel 2012 abbiamo avuto un terremoto terremoto non c'è stato o abbiamo avuto un bradisismo che è cominciato nel 2006 2007 ed è continuato con la maggioranza prima di Oldrini e poi della Chitocchi ha finto di non vedere fin quando il bradisismo ha fatto crollare il tetto e allora quando è crollato il tetto abbiamo detto è crollato il tetto c'è stato qualcosa che non va quindi questo ha portato e questo io credo che vada detto alla cittadinanza vada lasciato agli atti è stato più volte detto in commissione che il milione 957 mila euro di perdita del bilancio 2012 è l'ultima perdita di una lunga serie in realtà l'azienda delle farmacie ha bruciato praticamente 5 milioni di euro nel corso del tempo e in pratica si è mangiata totalmente tutto quello che aveva costruito nel corso di 50 anni tutta la riserva legale e adesso è arrivata un patrimonio negativo come abbiamo detto che dobbiamo ripianare con soldi freschi ma non è che i milioni di euro di soldi freschi che mettiamo traendoli dai capitoli della spesa corrente del comune sono tutto quello che devono pagare gli azionisti che mi spiace dover dire al consigliere finanzi non è il sindaco la proprietà sono i cittadini di sesto cioè più volte lei ha detto mi sono mettere la proprietà ce l'ho detto al sindaco il sindaco è il rappresentante in questo momento però credo che in un'azienda speciale gli azionisti siano i consiglieri comunali che rappresentano la cittadinanza è vero che il bilancio dobbiamo approvare noi non il sindaco quindi non è il sindaco la proprietà la proprietà siamo noi in rappresentanza di 80.000 cittadini sestesi questo tanto per chiarire come dire giuridicamente come stanno le cose perché se il proprietario protempore fosse il sindaco e non il consiglio comunale il bilancio la proverebbe il sindaco con la giunta che è quello che si vorrà fare con la srl perché è così che sarà perché la vera perdita a cui stiamo per andare incontro con la trasformazione della società da azienda speciale a srl è che davvero in quel momento il proprietario sarà giuridicamente l'azionista non più il consiglio comunale ma il sindaco e la giunta e quindi nulla più passerà dal consiglio comunale dal controllo del consiglio comunale questo mi pare la cosa veramente grave che si sta preparando soprattutto dopo una gestione così terribile negli ultimi cinque anni cioè non capisco come si possa pensare di affidare serenamente a chi ha rovinato l'azienda una gestione senza neanche il controllo dell'aula consigliare questo è una cosa che ritengo veramente grave però tornando alla delibera è vero che ho chiesto un prospetto di raccordo devo dire che purtroppo non ho cioè devo dire la mia confesso la mia ignoranza e mi spiace sicuramente il consigliere Romaniello ha tutto capito e tutto imparato e tutto immediatamente come dire metabolizzato perché noi abbiamo un genio in consiglio e siamo felici di questo cioè siamo onorati onorati di questa presenza onorati onorati e devo dire che cioè nulla mi commuove di più di questo perché io riconosco il genio quando lo vedo e mi inchino perché l'intelligenza è un bene raro e prezioso e vederla così incarnato in una persona così proprio così disposto a concederla a tutti è una cosa che commuove ma io non sono all'altezza non sono all'altezza e quindi non essendo all'altezza non ho capito quasi niente cioè nel senso che non ho capito quasi niente di questo foglietto che non è allegato per il semplice fatto che io chiedevo le stesse voci qui invece le voci girano allora però mi ha aiutato molto devo dire una un raffronto che ha fatto e devo qui ringraziare il gruppo del Movimento 5 Stelle che ha fatto un lavoro molto molto bello sparagonando i bilanci e ho visto ho fatto la differenza perché ha messo uno accanto all'altro il bilancio il vecchio bilancio del vecchio consiglio la due diligence e il nuovo bilancio con poi facendo le differenze e devo dire che lì ho capito anch'io pensi lei ho capito anch'io ho capito e ho visto che alcune differenze ci sono ma sostanzialmente la differenza sostanziale che ho visto poi ci sono delle cifre più piccole capisco che chi è dentro come dire è un tecnico dei bilanci tutte le cifre sono importanti ma noi che non siamo tecnici qui non è questo il caso di entrare nei particolari quello che mi ha colpito è che la svalutazione della due diligence è avvenuta soprattutto svalutando il prodotto finito così lo chiamano loro un milione e tre e qui invece nel bilancio redatto questo appare semplicemente come svalutazione del magazzino ma alla fine le due cifre sono sostanzialmente analoghe ma cos'è che mi ha colpito negativamente primo che e su cui bisogna anche pensare che l'azienda speciale in realtà a prescindere dal magazzino aveva un netto negativo nella differenza tra valore e coste della produzione siamo già a 957 mila euro di negativo il che vuol dire che era la gestione corrente anche che non funzionava a cui si aggiunge poi un altro 900 mila euro grosso modo della della svalutazione del magazzino però questo era evidente da molto tempo ed è questo che per questo noi insistiamo sul problema di un esposto e soprattutto di un esposto contro i revisori dei conti c'è stata data una relazione dei revisori dei conti che è veramente come dire che ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere cioè questi signori che hanno approvato senza fiatare quello che era stato fatto in precedenza adesso senza fiatare altrettanto approvano la nuova situazione con la stessa con la stessa identica protervia con la stessa identica ecco ecco la qui con la stessa identica protervia è una roba che leggere questa relazione del collegio dei revisori è una cosa allucinante cioè questi qui praticamente dicono è stato il bilancio del 2012 così come c'era stato presentato non andava bene e noi l'avevamo fatta noi abbiamo fatto i cui dati sono presentati a finito si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 18 maggio 2013 loro 2012 loro hanno fatto le verifiche hanno fatto tutto e che lì deve essere 2013 per errore e avevano approvato adesso ci sono convinti che era tutto finto quindi che praticamente non erano stati capaci di revisionare nulla e adesso approvano questa nuova ma dico non è pensabile cioè veramente non è pensabile e qui io credo che primo andavano immediatamente revocati così come è stato revocato il consiglio di amministrazione immediatamente quindi questo io lo imputo naturalmente non al dottor Corasanto che non c'entra niente che ringraziamo con il dottor Tranchida questo lo diciamo subito e tutti mi accusano di ringraziare abbastanza ringrazio per il lavoro svolto per carità ma io questo lo imputo come responsabilità pesante al dottor Finazzi perché bisognava immediatamente revocare i revisori sono i massimi responsabili i revisori sono i nostri garanti della serietà del procedimento che evidentemente non c'è stata un magazzino gonfiato di un milione di euro sostanzialmente di un milione di euro e questi mi firmano certificazione mi firmano bilancio ma i revisori devono controllare il magazzino l'inventario del magazzino non è che devono prendere la cifra che mi dà il direttore questo veramente inficia totalmente questo bilancio cioè secondo me questo bilancio la come dire la possibilità di votare serenamente questo bilancio è inficiata in primi se l'abbiamo detto più volte dal mantenimento dei medesimi revisori che avevano firmato il precedente senza fare alcuna notazione senza fare alcun rilievo come si fa cioè i revisori dei conti non è che sono un esercizio di un giochino così mettiamo non è un visto si approvi che è rispettato l'italiano io questo credo che infici profondamente questo bilancio non capisco perché sia stato fatto mi sembra veramente un errore grosso non c'è stato verso non c'è stato verso di farli cambiare l'abbiamo chiesto direi dall'inizio e naturalmente nelle ultime due sedute la cosa è spedettata come dire più pressante perché abbiamo visto la loro relazione firmata e soprattutto come dire siamo veramente colpiti da questa pervicace volontà del del commissario che chiaramente è la volontà del sindaco non è che posso imputarla al commissario Finazzi questa cosa qui di non fare non è che deve fare una denuncia in procura non esiste la denuncia si fa se si vede un reato come ha detto come è stato detto il reato non sembra noi non abbiamo trovato tracce evidenti tracce evidenti sicure però c'è una tale cattiva gestione che non è solo quella dell'ultimo anno ma è chiaramente anche quella degli anni precedenti no? in cui c'è stato tentativi di vari oggetti io credo che sia sia doveroso noi l'abbiamo detto in commissione più volte su questo voglio insistere tutta l'opposizione ha chiesto più volte a gran voce un esposto in procura dopodiché se la come dire la strada della corte dei conti una strada che va per il suo conto fa anche rima va bene è una strada amministrativa che che comunque dà un risultato amministrativo noi dobbiamo invece tutelare l'azienda tutelare l'azienda anche dal punto di vista giudiziario civile civilistico reale perché secondo me noi dobbiamo mettere in come dire in conto la possibilità di un'azione di responsabilità ma se noi non facciamo un esposto adesso e approviamo serenamente il bilancio secondo me diamo a coloro che hanno guidato questa azienda un argomento una tour forte per potersi difendere in maniera civilistica e dire scusate cosa ci venite a dire non ci hanno neanche fatto un esposto contro quelli a cui abbiamo appiccicato una perdita di 5 milioni di euro perché chiariamo i 5 milioni di euro nascono praticamente tutti sotto la gestione di quelli che poi sono andati via e questa è una cosa che bisogna risolvere cioè non capisco il perché ho capito cioè purtroppo non vorrei fare come Andreotti per cui a pensare male si fa peccato ma ci si azzecca perché è chiaro che tutti noi dell'opposizione abbiamo sottolineato con forza più volte due cose molto antipatiche cioè l'ex presidente che c'era stato presentato come si ricorda benissimo il sindaco che allora era assessore alla cultura della giunta Aldrini che c'era stato presentato da Aldrini come il salvatore della patria è un signore di Abbiategrasso che non solo è del PD ma al momento è assessore all'attività produttiva in conto PD al comune di Abbiategrasso e uno dei revisori dei conti la signora che non mi ricordo come si chiama è assessore al bilancio nel comune di Monza nella giunta Scanagatti che guarda caso il sindaco è stato per sei mesi assessore al bilancio al comune di Sesto quindi io credo che quello che noi dobbiamo come opposizione come relazione di minoranza sottolineare pesantemente che a nostro avviso è necessario è necessario un esposto in procura per avere la possibilità aperta di una eventuale azione di responsabilità senza possibilità è andato oltre il termine grazie di ben 16 secondi fiscale come lei con l'opposizione non c'è nessuno al mondo non c'è nessuno al mondo perché adesso il primo che scuola degli altri glielo diciamo è chiaro? lei è veramente fiscale certo concludo se mi lascia concludere concludo va bene quindi questo lo chiediamo con forza e più volte l'abbiamo chiesto in commissione e speriamo che la maggioranza che è la rappresentante degli azionisti perché siamo noi gli azionisti tutti noi abbiamo capito grazie consigliere l'abbiamo chiesto grazie gli devo togliere la parola grazie per lo stesso dica non era una domanda questo è un intervento che non ho capito bene se era la relazione come relatore di commissione o un intervento politico fa tutta la consigliere Landucci va cioè sclafona sia politicamente che va bene lei secondo me non deve dare la risposta ha già risposto abbondantemente allora la parola al sindaco grazie grazie presidente per una breve comunicazione il conto consultivo del 2012 dell'azienda speciale delle farmacie comunali che all'esame della seduta di questa sera del consiglio comunale reca come è stato detto in allegato come di conseto la relazione del collegio del revisore dei conti che hanno validato il testo rivisitato dopo dopo la risultanza della due diligence credo che vada riconosciuto questo atto di giusta e dovuta responsabilità del collegio atto che ha ancora più significato visto che aveva concluso il mandato e quindi non non era conseguente e voglio comunque informare il consiglio comunale questa sera che nei prossimi giorni si provvederà alla pubblicazione del bando per la scelta del nuovo collegio di revisore dei conti grazie grazie al sindaco e quindi dichiaro aperto il dibattito su questa delibera di bilancio i consiglieri sono pregati di prenotarsi prego ha chiesto la parola il consigliere Torrago ne ha facoltà grazie presidente a luce di quanto è emerso vorrei affermare con soddisfazione che questa sera in questo consiglio non stiamo parlando di chiusura delle farmacie ma bensì della riqualificazione delle stesse e soprattutto della difesa dei lavoratori e dei relativi posti di lavoro va anche detto che questa discussione non è iniziata con questa giunta ma dalla precedente già nel 2009 si capiva che le cose non andavano bene e più precisamente il 29 maggio 2009 il consiglio di allora presidato della difficile situazione dell'azienda farmacia comunale determinata dall'accumularsi di diverse cause connesse si era impegnata a studiare rapidamente la soluzione sostenibile del magazzino aprire un confronto sindacale verificare la necessità di ristrutturare delle reti di farmacie tenito conto della loro reddittività e della distribuzione territoriale introdurre elementi di miglioramento nell'azienda per stimolare un aumento del fatturato valutare l'opportunità di alleanze commerciali con aziende del settore per ottimizzare le risorse e infine l'accesso agli approvvigionamenti e ridurre i costi di acquisto dopodiché la questione è precipitata come sappiamo questa giunta appena insediata ha voluto da subito entrare nel merito ha fortemente preteso di vederci chiaro commissariando l'azienda nominando il commissario come commissario il dottor Finazzi che con l'occasione ringrazio per il lavoro svolto finora il primo provvedimento che lo stesso ha preso è in concertazione con la giunta è stato affidare ad una società di consulenza e analisi una verifica dei conti in buona sostanza a una due dirigenza come è stato detto poc'anzi i risultati di tali analisi sono stati portati e consegnati alla corte dei conti pertanto diciamo subito che i documenti alla corte dei conti sono stati portati liberamente non ce l'hanno chiesto e questo non è da poco ed è termine di trasparenza per noi il dottor Finazzi in collaborazione con il nuovo direttore dell'azienda speciale farmacia dottor Colasanto e il consulente dottor Tanchida in tutto questo tempo si sono impegnati con determinazione alla ricerca di soluzioni atti a salvaguardare prima di tutto l'azienda e di conseguenza i posti di lavoro riuscendo con grandissimo lavoro ad uscire fuori dall'emergenza perché di questo è strato sempre nei mesi scorsi il sindaco Monica Chittò insieme al commissario straordinario dottor Luca Finazzi e il vice sindaco Felice Cagliani hanno incontrato più volte i rappresentanti sindacali ed i lavoratori dell'azienda in sciopero gli incontri sono stati diversi lunghi e articolati hanno toccato tutti i temi in discussione dal contratto di lavoro al piano industriale alla proposta di trasformare l'azienda in società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico questo volevo precisare interamente pubblico nella circostanza il sindaco ha rinunciato una dichiarazione che io rilancio e condivido con assoluta convinzione è drammatico ma se siamo qui se abbiamo proposto una gestione commissariale un piano industriale se investiamo sullo spostamento del punto vendito della Peluca se abbiamo deciso di affittare il magazzino di tagliare gli sprechi e di proporre la trasformazione in SRL e questo lo vedremo è perché crediamo che questa azienda sia un patrimonio per la città e che i suoi lavoratori vadano tutelati tutti poi arriviamo oggi consapevoli della serietà del problema e della complessità nel ricercare la soluzione attettale a risolvere il problema economico delle farmacie comunali ritengo comunque ingiustificati gli allarmi sul bilancio comunale 2012 e alla delibera che ci apprestiamo a votare oggi precisiamo subito che i rilie rimosse dalla Corte dei Conti alla quale è stato fornito un esauriente non hanno nulla a che fare con questa vicenda quanto da loro richiesto è una richiesta dovuta peraltro ricordo ancora una volta che i documenti relativamente alla gestione farmacie sono stati con totale trasparenza consegnati direttamente senza che qualcuno ce lo chiedesse in buona sostanza questo sì va detto non era dovuto ma noi l'abbiamo fatto perché lo stesso lo riteniamo giusto diverso è il discorso delle farmacie comunali per le quali è noto l'amministrazione ha avviato un programma di risanamento e di rilancio dell'azienda cosa che facciamo oggi approvando questa delibera concludo rivolgendomi a tutti coloro coinvolti in questa vicenda il lavoro è tanto molto è stato fatto ed è stato fatto perché politicamente siamo convinti dalla bontà delle scelte che questa amministrazione con questa maggioranza e speriamo anche di altri ha fatto siamo anche consapevoli delle critiche che qualcuno ci farà bene ce ne faremo una ragione e la ragione è ristrutturare risanare mettere i conti in ordine e ripartire e noi convintamente lo faremo perché ci crediamo crediamo che l'azienda sia un patrimonio per la città e che i lavoratori valano a tutti i costi ripeto a tutti i costi difesi e tutelati tutti grazie grazie consigliere torraco ha chiesto la parola il consigliere Capone ne ha facoltà grazie presidente ma io intendevo scusate per la voce intendevo intervenire per ultimo per sentire un po' gli interventi da parte della maggioranza dire la verità mi ho preparato un discorso scritto perché è un tema complicato volevo un po' ripercorrere i dati tecnici e la storia ormai in alto delle farmacie francamente dopo aver sentito consigliere Torraco non leggerò nulla perché sento un senso profondo di vergogna se penso lo sperpero di 5 milioni di euro e penso ai nostri concittadini che fanno fatica ad arrivare a fine mese quando dobbiamo decidere di sumentare la tassa lì mutarsi quando abbiamo le strade che sono vergognosamente dissestate quando dobbiamo andare a tagliare i servizi io credo che oggi abbiamo scritto una pagina ulteriormente vergognosa della nostra città e mi spiace usare questi toni forse perché lei parla di inizio di qualificazione io credo che oggi sia l'inizio del declino della vostra giunta signor sindaco perché non avete avuto adeguatamente coraggio lei si è fatta consigliare da persone che sono state più utente a guardare il passato di una gestione che non è stata in grado di rispettare il controllo mentre lei avrebbe dovuto svolgere un ruolo super parte di sindaco rappresentativo della città in forte senso di discontinuità e io credo che proprio sia iniziata una fase di forte declino io vorrei portare l'attenzione soltanto su un tema visto che siamo registrati qua rispondo a tutti il tema della prescrizione non perché siamo in un'aula di tribunale ma semplicemente perché abbiamo un po' di buon senso io sui dati tecnici e di bilancio non ho grandi competenze perché non è la mia materia di lavoro e mi sono fatto consigliare dalle persone del nostro gruppo che hanno competenze specifiche però di fatto noi non stiamo parlando di un'azienda che ha maturato un milione e novecento mila euro di perdite e questo è stato subito detto in commissione immediatamente noi dobbiamo andare a vedere ciò che è successo dagli anni 2008 2009 ovvero l'accumularsi di perdite e il depoporamento delle riserve che sono state accantonate nei precedenti e per questo che io insisto e abbiamo presentato un ordine il giorno collegato e l'ho richiesto in commissione e l'ho richiesto al direttore ma vedo che non risponde perché risponde sempre il commissario Finazzi perché probabilmente non consente di rispondere che è necessario è necessario comunque trasmettere gli atti della procura ordinaria per il semplice motivo che noi non stiamo analizzando il 2012 stiamo analizzando fatti che ritornano a ritroso dal 2008 al 2009 e questo comportamento signori ha un termine che è complicità e uso questo termine forte perché vuol dire comunque andare a coprire e agevolare delle persone se si sono stati dei reati di un certo tipo allora noi dobbiamo essere chiari con la nostra città dobbiamo essere la trasparenza tanto decantata da questa amministrazione io francamente non l'ho vista perché in commissione i documenti ci venivano trasmessi a commissione iniziata abbiamo avuto degli elementi degli specchietti riduttivi rispetto al rilancio dell'azienda è chiaro che il voto del bilancio è già scritto perché noi oggi siamo qua soltanto a fare una presenza e denunciare e aprire gli occhi ai cittadini perché è chiarissimo che verrà approvato la maggioranza ma qualsiasi cosa possa essere riportato nel bilancio stesso perché voi ne fate una questione partitica è per questo che l'Italia va male va male proprio perché non si ha il coraggio di estirpare le radici maligne di questa società invece voi non avete il coraggio non avete avuto il coraggio di ritornare di riprendere in mano questa azienda creando discontinuità col passato perché è stato di fatto cercando di dare una un percorso alla gestione alla gestione precedente romaniello ha già detto comunque tanto la consigliera landucci non siamo alla tua altezza quindi io credo che oggi il voto che dobbiamo dare è un voto che deve un po' rispecchiare il ruolo che ci siamo che ci siamo assunti candidandoci come consiglieri comunali candidandoci a sindaco francamente noi come forza di opposizione ma credo tutte le forze di minoranza fin dall'inizio abbiamo manifestato un grande senso di responsabilità perché non abbiamo affondato il coltello nella piaga abbiamo chiesto soltanto chiarezza e abbiamo chiesto col tanto che venisse fatto tutto alla luce del sole quindi io auspico che da questo dibattito che ha un esito scontato possa veramente nascere in voi un senso diverso di concepire la politica perché la stiamo facendo sulla pelle dei nostri concittadini con tutti i soldi che abbiamo sperperato e che andiamo comunque a ratificare con questo voto grazie consigliere Caponi grazie a tutti che lo chiedeva a doppi dei tempi grazie a tutti grazie a tutti se ci sono interventi io vado avanti ha chiesto la parola il consigliere nostro nella facoltà prego sì buonasera buonasera a tutti quanti grazie quello che stasera stiamo approvando ed eventualmente approvando è il bilancio consuntivo del 2012 sottolineo questo fatto lo stiamo facendo avendo davanti a noi numeri veri e certi e noi a questo come Sinistra Ecologia Libertà ci atterremo facendo presente che il bilancio consuntivo del 2012 è l'epilogo come correttamente a mio parere è stato detto prima un epilogo contabile delle perdite sommate degli ultimi n anni noi di SEL siamo molto arrabbiati ma arrabbiati con noi stessi sono anni che in tutti i modi cerchiamo di far capire che questa azienda aveva il teatro corto le parole erano proprio queste non aveva una sostenibilità industriale economica non aveva una politica industriale che poteva farci aprire la porta e farci vedere il domani sottolineo il verbo aveva non essendo nella cabina di regia del CDA delle farmacie l'avevamo evidenziato in tutte le sedi corrette a iniziare dal consiglio comunale ripetutamente dove a fronte dell'ultimo bilancio consuntivo ci eravamo astenuti ripeto siamo arrabbiati per non essere riusciti a far capire questa situazione ma arrabbiati con noi stessi siamo stati dei veggenti siamo stati capaci questo non lo sappiamo di sicuro e questa è una certezza siamo stati poco ascoltati qualcuno dice forse poco considerati abbiamo un rimpianto di non aver gridato e picchiato i pugni sul tavolo ma non è mai stato il nostro stile siamo politicamente rammaricati di aver trovato uditi poco sensibili e attenti ma forse siamo stati noi che ci siamo spiegati male io la penso sempre in questo modo se qualcuno non capisce perché io mi sto spiegando male è opportuno ribadire che tanti possono essere responsabili della situazione in cui si trova la SFC l'azienda speciale delle farmacie comunali ma senza dubbio non i lavoratori dell'azienda che in più occasioni in passato avevano cercato di far presente i loro problemi e i problemi dell'azienda stessa ma al di là di questa verità che a volte qualcuno dimentica i lavoratori sono dimostrati molto responsabili e attenti verso questa situazione sempre come l'ultimo rinnovo contrattuale ha messo in evidenza da anni quindi i dipendenti della SFC e il nostro partito facevano presente una gestione non avveduta industrialmente delle farmacie comunali dicevamo come accennato da me poco fa usando un'espressione sportiva che avevano il fiato corto con l'andare degli anni sono rimaste senza fiato ricordo inoltre che relativamente al bilancio costruttivo del 2011 in questa azienda 16 mesi fa e 6 mesi prima del commissariamento dell'azienda avevamo detto in questa sede parlando delle farmacie comunali che è come sparare sulla croce rossa in retromarcia in un vicolo stretto perché l'azienda era questa in quel momento il fatto di aver evidenziato problemi di bilancio recentemente problemi che l'azienda industrialmente palesava e manifestava non ci rende felici perché l'azienda è di Sesto San Giovanni dei cittadini Sestesi l'unica certezza rimasta di questa azienda a nostro parere è la professionalità dei lavoratori e la voglia di farla ripartire occorre quindi ripartire da queste certezze forse i lavoratori andavano interpellati prima meglio tardi che mai è passato un anno in cui abbiamo consigliato chiudere una via d'uscita all'inizio si parlava di vendita dell'immobile del magazzino acquisti tramite CISPEL di Lombardia ricerca di aziende pubbliche con cui consoziarci sinergia con Farmacop di risposte ne abbiamo avute poche ma ripeto siamo stati noi che non siamo stati capaci nell'esprimere le nostre richieste avevamo chiesto se praticabile perché non rendere possibile la ricarica delle messe scolastiche anche nelle farmacie comunali si poteva e si può avvicinare nuova clientela nelle nostre farmacie comunali inserendo un tassello al futuro mosaico del piano industriale ma anche qui non abbiamo avuto nessuna risposta l'ho detta in maniera diversa cercando di farmi capire questa volta questo tipo di proposta i costi sociali di cui si faceva carico l'azienda speciale farmacia comunale tempo fa oratorio e farmaci e gli indigenti ultimamente solo questi ultimi ossia i farmaci e gli indigenti hanno fatto sì che il nostro comune non sforasse mai i parametri sempre più stingenti che il patto di stabilità imponeva sottolineo le farmacie comunali hanno aiutato il nostro comune a non uscire del patto di stabilità un po' di gratitudine a questa azienda e ai suoi dipendenti è doveroso facciamo presente che l'avanti di amministrazione per il ripieno delle perdite dell'azienda speciale sono sempre denari e beni della collettività ma è la palissiana questo se si usano per uno scopo non si possono usare per altri scopi e per altre finalità ognuno del vero questa amministrazione non ha nascosto la polvere sotto il tappeto forse si doveva comprare prima l'aspirapolvere l'hanno indicato diverse marche alcune erano in regalo e alcune avevano un rapporto qualità-prezzo molto buono a nostro parere quando dico nostro intendo di SEL sinistra ecologia e libertà nel passato si sono operate scelte aziendali sbagliate e con una mancanza assoluta di visione strategica ma non dimentichiamoci che ci sono stati interventi legislativi sui prezzi dei farmaci con l'avvento dei generici e i margini economici sono crollati una marginalità diminuita per contribuire anche alla copertura dei costi dovuti alla ricostituzione della città dell'Aquila che qui molte si dimenticano certo che tutte le farmacie comunali hanno i vicini e nonostante questo non hanno tutti questi problemi economici noi siamo del parere che una gestione pubblica capace ed efficiente esiste e enti locali e i vicini l'hanno ampiamente dimostrata facciamo altresì presente che la partita dell'azienda secondo il piano industriale presentato in commissione se non erro risulterebbe per l'anno in corso il 2014 di 172.000 euro ossia l'equivalente degli affitti pagati dall'azienda speciale nel nostro comune quindi una partita di giro quindi nel 2014 in teoria l'azienda speciale farmacie comunali chiuderà in pareggio se non erro efficienza attenzione ai costi gestione oculata delle risorse massimizzazione dei risultati sono le linee guida a cui noi facciamo riferimento da sempre perché la nostra azienda possa far fronte all'impegno ordinario e ora straordinario con le proprie forze e offrire sempre un servizio affidabile e di alto livello ai cittadini ma la politica industriale è stata questa è questa sarà questa faccio un piccolo esempio forse è molto più traducibile di altre cose sabato 18 gennaio 2014 ore 17 cronaca vado presso una farmacia comunale per il ritiro di due medicine con la ricetta consegno la ricetta e il dottore molto gentile e disponibile oltre che proattivo come si usa dire si prodiga per la soluzione del problema mi dice che ha un errore di collegamento con il server quindi non può darmi le medicine e inoltre uno dei due farmaci richiesti lui è sicuro che sia mancante ma non avendo il collegamento non riesce a dirmi in quale altra farmacia sia disponibile presenti con me in farmacia altri utenti in possibilità di ritiro dei farmaci in quanto sistema informativo e KPO escono delusi borbottando e non comprano nulla medesimo problema si era verificato anche il giovedì precedente questo era un piccolo esempio per dire che parliamo di piano industriale a volte di progetti inaugurazioni abbellimenti vari sistemazioni di cambi di società ma ripeto parliamo di piano industriale ma è come parlare della TAV e non accorgersi che ci sono linee ferroviarie esistenti che non reggono la pioggia e che sono ancora binario unico grazie 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 consigliere nostra ha chiesto la parola il consigliere la Miranda che ha fatto la richiesta del raddoppio dei tempi prego grazie signor senpresidente mi scuso con tutti per per il ritardo anche attesa l'importanza della delibera in discussione ma se devo dirla tutta l'altro giorno chino sulle carte a riflettere un po' questi sette anni di interventi e di battaglie mi sono posto il problema di valutare e la portata e l'efficacia di tali nostri interventi in questi anni ed anche una riflessione profonda sullo stato attuale della crisi dell'azienda soprattutto il rapporto alle gravi responsabilità che sono emerse a seguito degli accertamenti svolti e dalla due diligence e poi sostanzialmente anche dalla conclamata assenza di controllo da parte dell'autorità politica del governo politico della città mi sono posto soprattutto la riflessione e il problema di valutare in che modo dovevo svolgere questo mio intervento cioè se ricalcare fondamentalmente un copione già visto e quindi addentrarci nel ripetere e nel fare un collage di affermazioni quali faceva ad esempio Rivolta e le nostre risposte che facevamo per poi sostanzialmente far capire a chi oggi ascolta magari la prima volta che tutto sommato era un film già visto nulla di nuovo e che finalmente o impropriamente purtroppo alla fine chi ne paga le conseguenze la città i cittadini perché quello che conta poi alla fine di tutto questo ragionamento che questa sera voglio sviluppare è fondamentalmente il cittadino la cosa pubblica il denaro pubblico e che alla fine qualcuno dovrà rispondere perché qua lo dico con chiarezza non è pensabile che si sistema tutto per dicendo ah abbiamo preso in mano la situazione abbiamo raddrizzato l'azienda abbiamo fatto la due diligence e adesso abbiamo messo a posto l'azienda no non è così perché poi i dati economici ci riscontrano invece un altro andamento del quadro del resto poi il dottor Colasanto ed anche il dottor Tranchida stanno sviluppando anche un'ipotesi di intervento alternativo rispetto alla prima bozza del piano finanziario non fosse altro che stanno rivedendo anche la loro previsione di crescita o di decrescita dell'azienda nei prossimi anni io sommessamente ho sviluppato un'azione di controllo portando rispetto al dato prudenziale del 24% e dispari che è il dato strutturale in questo momento di questa azienda con la zavorra del magazzino alla percentuale invece più prossima a quello che è l'andamento ciclico di un qualunque punto vendita delle farmacie che è fondamentalmente un range di oscillazione tra il 29% e il 33% nella 33% ovviamente nelle migliori ipotesi di gestione complessiva dell'intervento nella peggiore il 29% questo ci porta ho fatto uno sviluppo veloce ci porta ad avere una operatività marginale se non ricordo male l'orda ovviamente quindi dopo vanno dedotti anche i costi di esercizio di un più 700.000 euro sul 2016 per dimostrare che cosa e qui diciamo l'intervento non è proprio specifico sul bilancio in quanto tale ma è di più ampia portata per dimostrare che cosa che non è necessariamente l'SRL anche se oggi non è congetto di discussione la panacea della risoluzione del problema perché l'andamento economico può reggere anche una volta messa ben in ordine un'azienda speciale tanto è vero che esistono altre forme di aziende speciali in altre realtà territoriali così come la dimostrazione se andate su internet non è la garanzia la trasformazione aziendale del non collasso dell'azienda in quanto tale se andate a vedere su internet ci sono diverse realtà e amministrazioni comunali che hanno le aziende speciali o le SRL in liquidazione addirittura alcuni comuni hanno fatto una scelta strategica e non di colore politico ovviamente della minoranza ma della maggioranza di vendere sostanzialmente le farmacie comunali è evidente che è un problema che affronteremo tra qualche giorno o tra qualche mese quando materialmente si porterà in discussione questo argomento quello che invece stasera occorre rilevare è che è vero stasera parliamo di un buco di 2 milioni un buco che si è accumulato in una serie di anni derivante da che cosa fondamentalmente se andiamo a vedere da una prima riassestamento fatto nel 2008 2009 del magazzino meno 800 mila euro e da un attuale riassestamento nell'arco di 5 anni abbiamo dovuto riassestare due volte le cifre del magazzino di 1,100 perché quello è il delta di differenza che andiamo ad approvare nel bilancio tra il bilancio 2012 approvato da CDA nel giugno 2013 e quello che questa sera viene portato all'attenzione e all'approvazione di quest'aula guarda caso quella cifra è somiglia molto alla perdita di esercizio contabilizzato quindi effettivamente alcuni che hanno fatto la riflessione che il punto il bonus di tutta l'azienda forse la gestione del magazzino e soprattutto le modalità di acquisto delle merci credo che abbiano centrato il problema il difetto di questa azienda non sono i punti vendita lo sono nel senso che non hanno un'alta marginalità operativa ma ci si può lavorare tranquillamente con una buona politica commerciale con un buon manager che non sia un politico trombato da qualche parte che viene messo all'occorrenza in un'azienda ma piuttosto che sia invece un signore che abbia anche un curriculum adeguato per gestire e rilanciare un'azienda questo per dire che cosa per dire che quel magazzino ci hanno lavorato in tanti non possiamo ipotizzare che ci sia la responsabilità di uno cioè del presidente brusati perché è comodo scaricare la responsabilità come alcuni hanno tentato di fare perché quel presidente ha anche dichiarato una cosa chiara che all'inizio del nuovo mandato di questa giunta aveva rimesso la propria delega sia vero non sia vero non lo so perché sono la verità di un sindaco e di un presidente e di un CDA noi non c'eravamo almeno io in quell'occasione non c'ero sicuramente e lo stesso ha dichiarato che il sindaco Chittogli aveva rinnovato fiducia sull'operato ora poi a distanza di pochi mesi non si può andare a criticare così pesantemente addombrando responsabilità poi ho visto un ordine del giorno addirittura di ipotesi di reato dove è finito il garantismo della sinistra non lo so perché io da quello che sto leggendo dalla due diligence tutto furché un reato ci sono ci sono una cattivo controllo di gestione una cattiva contabilizzazione c'è sicuramente una negligenza ci sono responsabilità professionali e non solo del direttore e non solo del presidente ma dei revisori dei conti che erano deputati al controllo e soprattutto erano deputati a controllare la veridicità delle poste che gli venivano indicate a bilancio perché se no qual è la funzione di un revisore dei conti chiedeto in giro io non lo so allora a questo punto qual è quello di prendersi anche lui la cagnotta e via non credo proprio c'è un contratto preciso ed è quello di essere professionisti in ogni momento indipendentemente da chi nomina e da chi ci ritribuisce e io credo che oggi la città abbia diritto da questo punto di vista di chiedere e di chiamare a responsabilità chi era deputato a controllare che non accadesse questo perché quello che è accaduto non sono state cattive scelte di investimento perché a questo punto ci può stare e nella logica commerciale punto su una determinata strategia commerciale faccio una partnership con un primario marchio di cosmesi eccetera punto molto sui punti vendita su questo se mi va bene ho fatto il botto se mi va male metto in crisi un attimo l'azienda no non risulta nessuna traccia di questi investimenti di questa natura esiste esattamente un problema tecnico che venivano acquistate merci che non servivano a niente che non venivano scaricate e venivano accumulate nel magazzino nessuno controllava e soprattutto nessuno è andato a verificare l'inventario perché questo è il dato che emerge da quella due diligence e se dobbiamo credere tutti è la due diligence come io credo che dobbiamo credere allora è lì che emerge la responsabilità di chi era deputato a controllare perché magari è andato a controllare nello scaffale di una singola punto vendita della farmacia che ci fosse la corrispondenza di dieci prodotti come inventariati poi magari si è dimenticato però di fare la sommatoria di tutto e facendo la sommatoria di tutto avrebbe visto che non quadravano le cifre semplice matematica questo mi induce a pensare che non sia fatto perché per prassi può darsi male non è quella la funzione del revisore ecco perché io chiedo oggi come ho ipotizzato insieme agli altri colleghi con l'ordine del giorno collegato delle precise responsabilità non sono ancora certificate dalla corte dei conti beh insomma la due diligence dice già qualcosa visto che è stato un motore propulsore per la revisione di bilancio o la rettifica di un falso in bilancio non lo so impropriamente usiamo questo termine gergale va bene non è proprio così però fa sul bilancio un po' diverso però per capire il senso e l'essenza di questo discorso che cosa è cambiato tra giugno e adesso nell'ottica dei revisori che hanno firmato a giugno quel bilancio con una perdita di 400 mila euro e questo ci può stare ma soprattutto con una stima di magazzino di 3 milioni e dispari e oggi sottoscrivono nuovamente gli stessi revisori l'accertamento del magazzino a 200 no così non va signore scusate qui emerge chiaramente documentare la responsabilità perché vuol dire che prima non l'hanno controllato perché quel magazzino in sei mesi non si è volatilizzato improvvisamente perché è rimasto tutto lì stoccato perché le fatture poi dopo di vendita parlano chiaro di scarico e soprattutto di quello che eventualmente è stato conferito per la distruzione che avrebbe portato ad avere l'ammortamento in magazzino non è stato fatto nulla di tutto questo a parte poi una serie di incongruenze che non so poi dopo se altri consiglieri li riferiranno nel dettaglio se avranno interesse perché poi spesso si entra nel tecnicismo che è difficile da comprendere però un dato essenziale ad esempio un'altra anomalia che viene portata il dato della variazione di bilancio del magazzino che viene sottoposto questa sera all'approvazione porta una postazione all'1-1-12 anziché al 31-12-12 questo significa che al 31-11-11 è la stessa valutazione dell'1-1-12 e che non è la stessa però il bilancio 2011 non lo tocchiamo il bilancio 2012 lo tocchiamo è evidente che questa anomalia perché se il dato si sviluppa al massimo era più legittimo appostarlo 31-12-12 non 1-1-1-12 ma al di là del tecnicismo e questo dimostra come nella ricostruzione contabile poi alla fine non è necessario chissà quale cosa inventarsi per riuscire a far quadrare i conti e come molti sanno il magazzino spesso costituisce diciamo un po' il polmone nei bilanci perché attraverso una maggiore o minor valutazione annuale si riesce a tenere in equilibrio i conti è certo pensare che in 5 anni due volte abbiamo dovuto fare perdite per 1,9 di magazzino la cosa è grave se poi sommiamo che in 7 anni abbiamo dilapidato una riserva legale di 2 milioni e mezzo e adesso ne mettiamo altri due nell'arco di 7 anni questa amministrazione ha dilapidato oltre 5 milioni di soldi dei contribuenti di riserva di patrimonio di questa città questa è la vera responsabilità e non è solo politica perché qui c'è stata gente che non ha voluto guardare dentro l'azienda e fuori dall'azienda perché anche i lavoratori non sono immuni da responsabilità su tutto questo hanno beneficiato molto e hanno anche potuto vedere perché se è vero quello che è stato scritto in alcuni comunicati stampa dove erano prima è facile parlare dopo dove prima non credo che qua tra questi consiglieri quelli che ci hanno preceduto nella scorsa consigliatura non ci fossero persone che non erano pronte ad esporsi se era interesse amavano l'azienda e si rendevano conto che c'era qualcosa che non andava un dettaglio uno scritto dettagliato ci si avrebbe consentito di avere maggiori possibilità di un controllo accurato sulle poste no niente di tutto questo non dico che hanno fatto gli struzzi ma hanno comodamente vissuto in questa situazione perché magari anche in una logica di dire tanto è spesa pubblica in qualche modo si sistema il comune paga sempre e insomma non è proprio così che si amministrano le città credo che sia diverso il modello organizzativo da portare e quindi oggi diciamo abbiamo questa situazione dove diciamo vi mascherate dicendo siamo intervenuti alla buon'ora perché siete intervenuti perché se no eravamo già col commissario liquidatore c'era poco da fare e col comune che avrebbe comunque dovuto rimettere i soldi comunque in ogni caso ma con la certificazione ancora più macroscopica del fallimento totale delle giunte che si sono susseguite e che ci sia discontinuità non inventateci questa storiella perché la continuità c'è tutta e in parte per i consiglieri e in parte per chi siede ora in questo momento anzi per chi dirige questa giunta perché comunque c'era sapeva e anche quando ha preso in mano il timore era uno dei punti fondamentali da affrontare subito ed è stata latitata è intervenuta quando? quando di fatto il presidente è scappato perché prima se andiamo a vedere i verbali comunque c'era qualcuno che seguiva l'andamento registrava ma non diceva nulla ora c'era anche qualcun altro che cominciava a dire che non andavano bene le cose esplicitamente prima magari lo si diceva in un modo più tra virgolette accomodante nel senso che dico tra le righe non ufficializzo niente per evitare di avere poi problemi successivamente poi quando effettivamente la barca cominciava a scricchiolare o andeggiare troppo e rischiava di imbarcare troppa acqua lo si è verbalizzato e si è detto chiaramente nei verbali del CDA cosa non andava però qualcuno ha deciso che andava bene lo stesso per incapacità può darsi e allora deve rispondere anche per incapacità a questo punto perché se uno non è all'altezza di poter rivestire certi ruoli dovrebbe comunicarlo prima di essere nominato diversamente se accetta l'incarico ne assume anche le responsabilità e ribadisco parliamo di responsabilità da un lato politica ma dall'altro amministrativa e contabile non parliamo di chissà che cosa di quello che normalmente siamo chiamati tutti noi chi come me fa il professionista a rispondere nel momento in cui faccio degli errori perché è comune è normale fare errori qui non si sta mettendo sulla croce nessuno da questo punto di vista si vuole solo chiamare a una responsabilità amministrativa e contabile io chiedo che questo sia doveroso nei confronti della città e dei cittadini perché gli andiamo a sottrarre risorse per oltre un milione con l'ultima approvazione che adesso fate che avremmo potuto impiegare per altri scopi sociali poi sarò curioso di capire su questo chiesto alla responsabile del settore economico e finanziario di avere anche quali capitoli di prova su quali capitoli quali titoli del bilancio subiscono l'effetto di questo ulteriore impoverimento perché ovviamente le somme sono state dirottate per coprire questo buco così come ho già richiesto questo lo affronteremo poi quando discuteremo la trasformazione di quella somma di quel patrimonio che andiamo a dismettere del comune e che comunque ci produceva una sorta di contropartita economica quali titoli per voce non vengono più coperti da quegli introiti per effetto di questa trasformazione di questo conferimento che si ipotizza l'amministrazione voglia proporre a questo Consiglio quindi fondamentalmente il discorso poi uno può essere d'accordo o non d'accordo sulle modalità con cui è stato fatto appunto diciamo il bilancio perché se poi lo mettete in parallelo il bilancio del CDA e il bilancio del commissario cambiano solo due voci due partiti il resto è una fotocopia unica ed è tra parentesi non molto allineato neanche con la due diligence che ha evidenziato un'altra serie di criticità su questo non sono un tecnico né non ho le capacità tali per poter dire è corretto non è corretto la valutazione di uno la valutazione di altro la sostanza è il dato finale che assomiglia molto a quello che è stato stimato dalla due diligence come debito e quindi diciamo la riconciliazione la si fa usando diciamo o le macro voci o le micro voci all'interno di un bilancio e da questo punto di vista è stata per semplicità probabilmente per necessità dei tempi anche stringenti si è preferito fare l'intervento diciamo utilizzando la macro voce del magazzino e quindi sistemando fondamentalmente quella grossa voce che presentava le più forti criticità però qui ci fermiamo noi non altri perché io l'ho già manifestato ad alcuni sapendo anche dell'attenzionamento che abbiamo da parte della Corte dei Conti su questa questione sappiamo già che l'amministrazione gli è già stato formalmente richiesto di trasmettere tutto l'esito di questa discussione e tutte le relazioni economiche a sostegno appunto del ripianamento e le modalità poi di sviluppo per evitare di avere ulteriori perdite in futuro assicché l'organo deputato al controllo ovvero appunto i giudici della Corte dei Conti abbiano contezza di tutto questo quadro economico io ho già proposto ad alcuni anche noi però di trasmettere a questo organo una nostra controosservazione ma che non vuole essere per forza di contrasto ma semmai integrativa con quei punti e quei rilievi che noi abbiamo ritenuto e riteniamo di dover eventualmente evidenziare mi ha fatto specie soprattutto vedere tra i documenti che già l'amministrazione ha trasmesso il verbale del 30 di settembre io fossi stato giudice contabile probabilmente non lo legge perché essendo un verbale tra virgolette di interventi politici essendo lui un giudice contabile si sarà limitato a guardare ovviamente i dati finanziari ma se solo un attimo si fosse soffermata a leggere quello del 30 di settembre 2013 non quello del novembre 2009 o del 2008 o del 2010 si sarebbe messo le mani nei capelli e avrebbe detto ma che cosa è successo qua o meglio si sarebbe reso conto a maggior ragione di che cosa è successo e di quando da questa parte le cassandre della minoranza abbiano avuto ragione perché poi la sostanza stasera questo viene certificato che per anni si è detto e stasera qualcuno ce lo certifica esterno all'amministrazione esterno alla minoranza poi dice qualcuno eh ma noi l'avevamo fatto l'ordine del giorno collegato di indirizzo dove avevamo fatto un piano di dismissione del magazzino è vero noi non avevamo votato non avevamo condiviso quella scelta all'epoca perché c'era un ulteriore orpello che era per giunto il preludio alla dismissione del magazzino cioè si andava prima a colpire i lavoratori e poi si faceva eventualmente il magazzino noi avevamo sempre detto che andava fatta l'inversione degli addendi per poi dopo non avere che il risultato non cambiasse però era un diverso modo di approcciare la questione la sostanza adesso è che noi chiediamo un atto di responsabilità a questa amministrazione e a questa maggioranza nell'attivare sin da ora come abbiamo scritto quanto meno le messe in mora perché è un segnale preciso di rispetto ai nostri cittadini perché se no non sembra sempre che passi tutto impunito come chi sbaglia si fa niente tanto è cosa pubblica è passata abbiamo sistemato non è sistemato lo sappiamo bene che abbiamo ancora il 2013 che sarà un altro lacrime e sangue il 2014 ospitiamo di no però ci sarà ancora da affrontare grossi problemi e l'equilibrio finanziario non è certo assolutamente in questo momento poi ci sono visioni diverse anche su come si faceva magari questo è un piano finanziario però questo è un dettaglio più tecnico però sicuramente diciamo da questo punto di vista io chiedo a quest'Aula di assumersi una volta tanto con coraggio una responsabilità quella di dare un segnale preciso alla città non ci riserviamo di agire no subito adesso una messa in mora niente di più chiediamo non stiamo stravolgendo il mondo chiediamo solamente a chi abbiamo individuato nell'ordine del giorno che consistono nel presidente perché è quello che ha firmato di fatto il bilancio che viene dichiarato irregolare usiamo questo termine dalla due diligence la direttrice che aveva la responsabilità degli acquisti del magazzino e quindi di inventariarlo e di tenere la contabilità e anche questo la due diligence ci ha detto per l'altro ce l'ha detto anche l'attuale direttore il commissario che è stato difficile anche ricostruire la contabilità per una serie di vizi sulla tenuta e da ultimo il collegio dei revisori dei compiti che hanno avuto l'ardire di firmare il primo ma soprattutto di firmare la loro condanna professionale sottoscrivendo il bilancio rettificato al loro bilancio che avevano firmato e teoricamente avrebbero dovuto controllare nelle poste questo vi chiediamo niente di più senza ipotizzare reati senza riservare al dopo un chissà che cosa perché l'azione della corte dei conti è una cosa anche perché l'eventuale esercizio dell'azione contabile da parte della corte dei conti un'eventuale condanna a risarcire i danni sono soldi che introita lo Stato non il comune di Sesto San Giovanni la responsabilità civile professionale per inadempimenti negligenze colpa ci può stare errore è un'altra cosa ed è quella che genera dal contratto tra l'amministrazione e i professionisti incaricati o nominati e su questo è una partita completamente diverso che ci giochiamo perché quello è il comune di Sesto che dice io ti ho retribuito per una certa prestazione è stata fatta male a questo punto io ti chiedo quantomeno il risarcimento del danno economico che mi è derivato come in che forma e quanto questo ci dirà più dettagliatamente poi all'esito di tutta l'indagine la Corte dei Conti eventualmente però abbiamo già una due diligence che è già certificato molto io credo che questo è quello che noi stasera quantomeno mi sento io di caldeggiare di proporre a voi tutti che non vuol dire condannare nessuno ma non vuol dire neanche dare quell'alia quella sembianza di impunità tanto si va bene è successo abbiamo sistemato va bene no anche perché poi abbiamo visto che in altri casi dove addirittura ci sono sentenze penali con quindi implicite riconoscimenti già di responsabilità civile c'è una latitanza assoluta dell'amministrazione nell'attivare le azioni di responsabilità e di risarcimento dei danni quantomeno una parvenza almeno di dire noi tutti ci sentiamo in dovere quantomeno di metterli in mora poi si vedrà all'esito di tutta l'istruttoria contabile cosa effettivamente è successo o meglio cosa ci certificheranno ufficialmente i giudici contabili di quello che noi già sappiamo che è successo perché è scritto nella relazione della due diligence in questo io limito il mio intervento che come vedete è stato polemico in parte in parte di riflessione meno tecnico del solito ma i numeri sono quelli crudi che spesso diciamo sono pesanti anche da digerire e quindi anche da ascoltare e quindi mi è sembrato più giusto fare un intervento senza fare noi l'avevamo detto perché tanto non cambia niente ma propositivo lo feci già in altre occasioni su altre materie lì all'epoca siamo rimasti inascoltati poi purtroppo abbiamo avuto ragione anche su quello questa volta memori di quello che all'epoca è successo vi chiediamo una riflessione maggiore che vi sganci anche da eventuali direttive che possano essere giunte dalla maggioranza o da chi governa questa amministrazione grazie grazie al consigliere la Miranda chiesto la parola il consigliere De Noia ne ha facoltà grazie presidente io avrei voluto intervenire solo in dichiarazione di voto perché mi ero preparato un intervento che effettivamente va a spiegare la nostra posizione rispetto a questa delibera però è chiaro che a seconda di quello che ho letto in questi giorni sulla stampa e anche poi agli interventi che ho sentito degli altri consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione ho detto forse è meglio che intervenire e dire due parole la prima è magari sui consigli di amministrazione perché spesso e volentieri ci si lamenta ma sia da una parte che dall'altra in più occasioni del fatto di essere o non essere come diceva prima il consigliere Nostra in cabina di regia beh sì è vero non si può stare tutti in cabina di regia cioè tradotto non si può avere tutti un posto in consiglio di amministrazione anche perché altrimenti i consigli di amministrazione ci troviamo qui spesso e volentieri a dire che i consigli di amministrazione servono a poco che spesso e volentieri i consigli di amministrazione servono a piazzare quelli che non sono stati eletti oppure a piazzare il tuo amico o quello che ti ha fatto il favore e poi scopriamo che effettivamente le responsabilità uno se le prende se sta nei consigli di amministrazione facciamo questi consigli di amministrazione di 40 persone così siamo tutti contenti una piccola polemica però ci tengo perché tutte le volte si dice che i consigli di amministrazione dovrebbero sparire che dovrebbero essere ridotti all'osso e forse la delibera che porteremo e discuteremo dopo ci aiuterà un attimino in quel senso poi si viene a dire che è chiaro che tutti vogliono stare in cabina di regia l'altra cosa è un comunicato stampa che ho letto in questi giorni e che mi ha fatto molto piacere mi ha fatto molto piacere perché mi hanno fatto un sacco di complimenti nel senso che a quanto pare io sarei stato un'altra di quelle che il consigliere non Miranda chiamava le Cassandre perché qualcuno mi attribuisce questo qualcuno è il circolo Bruno Valeris dell'Italia dei Valori di cui io al tempo nel 2012 ero segretario e dicono che ero critico al tempo con i miei rappresentanti in consiglio e con il mio rappresentante in giunta critico all'approvazione dei bilanci perché riteneva che l'amministrazione tra le altre cose non tutelasse i doveri dipendenti e che ne mettesse a rischio i diritti perché egli parlava con i dipendenti un delinquente cioè mi stanno dicendo poche parole che loro che erano i miei rappresentanti che purtroppo sono la parte di Italia dei Valori che è rimasta dico purtroppo perché io ho conosciuto veramente persone molto valide all'interno di quel partito purtroppo stanno dicendo che io nel 2012 gli avevo acceso un campanello d'allarme gli avevo fatto sentire un campanello d'allarme perché parlavo con i dipendenti sì parlavo con i dipendenti e mi dicevano che c'era una direttrice e questo lo riportai nella prima commissione in cui la direttrice era presente che non si comportava correttamente con i dipendenti ma non solo che spesso e volentieri a quanto pare sperperava il denaro della società in consulenze esterne e in tutte altre pratiche che adesso grazie alla due diligence e grazie all'azione del commissario straordinario stanno venendo fuori e sono risultate lampanti ovviamente io non avevo e non ho adesso la sfera di cristallo quindi non è che io sapessi tutto o sapevo che si sarebbe arrivato addirittura a mettere in bilancio dei dati fasulli perché alla fine sono dati fasulli semplicemente chiedevo come faccio in questo momento e come ho fatto e lo faccio di concerto con le altre forze politiche perché faccio parte di una maggioranza e quando si prende una strada e quando si sceglie un obiettivo e quando si sceglie un indirizzo lo si sceglie di concerto con le altre forze politiche sono contento e quello che ha fatto il commissario straordinario insieme al dottor Colossanto e a Tranchita effettivamente rispecchia quello che era il volere e la strada scelta dalla maggioranza io concludo qua perché effettivamente credo che serva a poco dire in questo momento io qualche cosa l'avevo detta serve a poco perché effettivamente io credo che il momento adesso sia il momento di agire sia questo il momento in cui perché ne ho l'opportunità perché sono seduto su questa sedia ho l'opportunità di dire alla mia il pubblico di agire perché forse all'epoca è vero non avevo avuto la forza non avevo avuto la forza nei confronti del mio rappresentante in giunta nei confronti del mio consigliere comunale di imporre determinate cose però è anche vero che io credo nella democrazia e credevo che i rappresentanti che stavano che sedevano in consiglio e che sedevano in giunta erano tranquilli mi avevano detto che andava tutto bene e quindi a quel tempo forse io avevo esagerato forse parlando con i dipendenti mi avevano raccontato delle cose un po' strane però non mi sono fermato non mi sono fermato io come non sono fermati gli altri perché quando c'è stata la commissione fatta sotto questa amministrazione quando c'è stata la commissione le domande sono state fatte anche dai componenti della maggioranza all'allora direttrice e io mi ricordo bene che feci la domanda perché qualcuno diceva per i dipendenti l'allora direttrice diceva che parte delle perdite potevano essere imputate al fatto che c'era dell'assenteismo cioè imputate i dipendenti e io gliela feci quella domanda al tempo e gli disse ma è possibile che quelle uno si chiederà perché c'è un aumento dell'assenteismo perché i dipendenti non vengono al lavoro o perché hanno che cosa succede lei disse tranquillamente placidamente che i dipendenti c'era quello che si rompeva il braccio c'era quello che stava poco bene ed effettivamente non ero il solo io in maggioranza non ero solo con i commissari di maggioranza non ero solo con i commissari di minoranza che anche loro pian piano oltre a quelli che hanno storia su questo tema e che effettivamente hanno portato anche tempo dietro ben chiaramente quali fossero le problematiche hanno cominciato effettivamente a pungolare e a capire e a far sentire questo campanello che chi forse era dentro un po' prima già aveva fatto suonare non mi prenderò nessun merito perché non ho nessun merito semplicemente perché adesso mi sto affacciando seriamente a questo problema però vorrei dire veramente che con questo comunicato stampa chi si deve in consiglio al tempo e chi si deve in giunta sinceramente non fa una bella figura me ne dispiace perché sono persone che mi rappresentavano e sono persone con le quali ho collaborato e sinceramente avrei voluto che questa cosa che è stata detta e che io dicevo all'interno di una sede di partito cioè tra quattro mura e non andavo a sventolare i 420 perché erano delle osservazioni che io sentivo e che venivano a me riferite e che io riferivo ai miei rappresentanti hanno ritenuto opportuno farmi fare questa bella figura li ringrazio perché effettivamente mi hanno fatto fare una bellissima figura e terminerò poi con la dichiarazione di voto spiegando qual è la nostra posizione rispetto a questa delibera grazie grazie al consigliere De Noia ha chiesto la parola alla consigliera Franciosi con il raddoppio dei tempi mi ha facoltà prego grazie presidente il 20 settembre 2013 i dottori Nicoletti e Orlandi hanno redatto e consegnato all'attenzione dell'amministrazione una relazione di revisione dei conti del bilancio 2012 delle farmacie comunali nella relazione vengono riportate le seguenti osservazioni assenza totale di procedure formalizzate che definiscano le funzioni e le competenze del personale amministrativo utilizzo di un software gestionale che non permette una chiara e immediata intellegibilità dei dati contabili mancanza di un responsabile del personale mancanza totale di procedure formalizzate che definissero come gestire appalti come gestire gli appalti le forniture le spese in economia la sicurezza sul lavoro che definissero come effettuare il controllo di gestione e quest'ultimo fatto lo sottolineano come e secondo me è importante come tutto questo esporrebbe l'azienda a rischi di natura economica e penale già queste poche righe dovrebbero far restare qualche preoccupazione ma in realtà non è finita qui perché i revisori dei conti hanno poi rilevato altre mancanze che riguardano direttamente le cifre riportate a bilancio queste conclusioni tratte dai due revisori esterni dopo una revisione di dati durata credo circa tre mesi lasciano pensare il fatto che loro siano riusciti a trarre queste conclusioni conclusioni che invece i nostri revisori non sono riusciti mai a portare alla nostra evidenza ed è vero che i nostri revisori avrebbero dovuto avere tutta la documentazione da anni e che certificavano i bilanci tutti gli anni secondo noi tutto questo non è normale non solo ma i revisori rincarano la dose dicendo gli effetti delle differenze riscontrate rispetto ai saldi di bilancio in particolare con riferimento al valore di inventario di magazzino comportano l'azzeramento del patrimonio netto aziendale a nostro giudizio cioè a loro il sopra menzionato bilancio d'esercizio cioè quello che è stato approvato dal consiglio di amministrazione a giugno non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione esso pertanto non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato economico dell'azienda queste parole non vi fanno sorgere alla mente nessuna conclusione penale veritiero corretto secondo me sono affermazioni pesanti ma la conclusione definitiva che è il secondo noi la più pesante è questa a causa della significatività delle deviazioni dalle norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla gestione con il bilancio d'esercizio dell'azienda come fanno loro a non sapere esprimere un giudizio come hanno fatto gli altri revisori cioè i nostri ad esprimerlo a giugno dunque se non è sufficientemente chiaro il bilancio che è stato approvato dal consiglio di amministrazione che comunque ci è costato qualche migliaia di euro non rappresenta appunto in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale l'ho già detto a dicembre sento di doverlo ripetere di nuovo una società privata con una relazione del genere avrebbe già dovuto portare i libri contabili in tribunale e dichiarare il fallimento invece noi siamo qui a fare piani di rilancio sulle macerie voi avete a dicembre avuto anche il coraggio di dirci che non eravamo propositivi perché non eravamo in grado di fare delle proposte di rilancio ed è quello che avete continuato a dire fino ad oggi ma che controproposte vi possiamo fare se dobbiamo ricostruire sulle macerie come si fa a proporre qualcosa di realmente fattibile se queste sono le premesse abbiamo deciso di lasciare a voi e ai vostri tecnici i famosi miracoli laici noi ce ne tiriamo fuori e responsabilmente ce ne tiriamo fuori ma veniamo al nuovo bilancio tralasciamo il fatto che sia arrivato nelle nostre mani il 17 marzo 2014 tralasciamo anche che il documento che ci è stato inviato fosse sbagliato nove mesi in attesa di numeri che arrivano in prima battuta scorretti forse ci saremmo aspettati un minimo in più di attenzione su una questione così delicata la nostra modesta opinione è che il nuovo bilancio di fatto è la fotocopia del vecchio tranne per un paio di cifre cambiate qui e lì e allora sorgono spontanei due domande per quale ragione abbiamo una in realtà per quale ragione abbiamo speso 24.000 euro per fare una due diligence nessuno dei rilievi fatto dai revisori della due diligence è stato implementato nel nuovo documento solo il valore di magazzino è cambiato è stato ulteriormente svalutato rispetto a quanto avevano previsto loro noi abbiamo fatto dei paragoni tra il bilancio non approvato e quello da approvare e abbiamo provato a vedere quali segnalazioni fatte dai due revisori indipendenti venivano recepite da quello nuovo abbiamo addirittura preparato un file excel e se qualcuno lo vuole vedere ve lo possiamo anche fornire come prima cosa si osserva che i seguenti suggerimenti espressi dai revisori esterni non sono stati recepiti la svalutazione del credito a sinde che ammonta 23.000 euro non c'è traccia nel nuovo bilancio la mancanza di spese assicurative per 11.000 euro non c'è traccia l'errata contabilizzazione degli affitti passivi non di competenza solo 2.000 euro ma non c'è traccia la mancata contabilizzazione della sanzione ASL pari a 20.000 euro niente il mancato stanziamento nelle fatture di 4.680 euro relativa al compenso di un professionista niente la mancata contabilizzazione di un credito relativo al 2012 verso l'ex presidente del consiglio di amministrazione di circa 5.000 euro per un compenso non dovuto tuttavia le nostre perplessità maggiori riguardano la rinuncia dei revisori ad esprimere un giudizio su alcuni importanti valori di bilancio a causa della loro indeterminatezza e che riguardano il mancato recepimento di tali considerazioni nel bilancio definitivo che invece accoglie i seguenti importi senza alcuna variazione sostanziale non sono stati recepite modifiche sulle immobilizzazioni immateriali sui debiti verso il personale sembra che nelle variazioni degli accordi sindacali il premio di produzione sia stato valutato in maniera differente e mai completamente chiarito gli immobili la rivalutazione del 2009 sembra essere superiore rispetto al valore stabilito la cassa con tanti non c'è coincidenza dei saldi contabili fra amministrazione e farmacie inoltre mancherebbe la contabilizzazione dei ricavi relativi alla fornitura dei farmaci dagli indigenti così come disposto dall'articolo 31 dello statuto delle farmacie non c'è possibile fornire una cifra esatta al riguardo però abbiamo provato a fare dei conti nel 2012 avremmo dovuto dare 93.000 euro nel 2011 78 nel 2010 58 nel 2009 43.000 euro per una media più o meno di 68.000 euro all'anno che moltiplicati per 10 anni 10 anni riguarda una legge del codice civile gli articoli 2934 e 2963 del codice civile darebbe circa 680.000 euro di soldi che le farmacie non hanno mai ricevuto e che invece avrebbero dovuto ricevere questo a nostro parere porterebbe ad un significativo ridimensionamento della perdita a ridurre l'abbattimento del patrimonio netto e a generare un flusso di cassa positiva vista la drammatica situazione in cui desta la società ma quando ho provato in commissione con tutti i miei limiti a fare questo discorso non solo non mi avete preso in considerazione ma mi sono anche sentita palesemente derisa alla faccia della minoranza che non fa mai proposte che non cerca mai di trovare soluzioni detto questo lamentiamo comunque una forte mancanza di collaborazione da parte di tutti gli organi preposti a fornire in tempi utili alla discussione e alla documentazione da noi richiesta nonostante le nostre domande non ci avete ancora detto chiaramente come intendete procedere per recuperare il compenso erogato e non dovuto al dottor Brusati sempre che vogliate procedere compenso che fa parte del bilancio 2012 non è chiaro quando ci presenterete il piano programma il bilancio pluriennale il budget del 2012 non è chiaro come sia stato possibile per voi accedere al credito non è chiaro il dettaglio dei saldi clienti e fornitori non è chiaro perché mai è esposto il piano di rientro dei debiti verso i fornitori e non è chiaro come pensate di risolvere la questione legata al servizio notturno visto che tutte le farmacie devono farlo non solo la 7 avete intenzione di mettere a norma tutti gli altri 9 punti vendita e quanto ci costerà a questo inoltre non possiamo che dispiacerci del ritardo con il quale si è deciso di lavorare alla redazione e alla successiva implementazione delle procedure aziendali di gestione di controllo che come segnalato nella relazione di revisione sono risultate assolutamente carenti per l'assenza di procedure formalizzate chiare perché riteniamo che questa decisione si ripercuoterà inevitabilmente sui risultati degli esercizi futuri e perché come scritto nella relazione dei revisori dei conti potenzialmente espone l'azienda a rischi di natura economica e penale riteniamo che sia stato un grave errore del commissario dare la priorità al rilancio dell'azienda peraltro con dei risultati 2013 e 2014 che sono ancora tutti da verificare prima avreste dovuto concentrarvi sul passato e sul presente fare chiarezza risolvere i problemi di conseguenza e poi rilanciare pertanto tutte le azioni portate avanti sulla base di questo bilancio non possono altro che generare in noi dei forti dubbi compreso il piano industriale che in ogni caso non forniva neanche lontanamente informazioni sufficienti alla formazione di un giudizio razionale sul futuro andamento della gestione essendo solo composto da un ipotetico conto economico e non conteneva informazioni relative allo stato patrimoniale e al rendiconto finanziario pluriennale detto questo riteniamo che gli estremi per presentare al procuratore della repubblica un esposto non una denuncia un esposto ci siano tutte e altrettanto non riteniamo che questo atto sia sinonimo di giustizialismo questo è portare rispetto nei confronti delle persone a cui state imponendo dei sacrifici enormi per salvare un'azienda che per imperizia per essere delicati è stata fatta morire persone cioè noi tutti quanti noi cittadini di Sesto San Giovanni che stiamo per rinunciare ad un sacco di soldi un milione di euro un milione di euro secondo me ogni tanto dovremmo soffermarci sulle cifre perché un milione di euro è una cifra enorme che avremmo potuto usare per fare altro voi state mettendo le mani in tasca a noi tutti i cittadini a piene mani anche a voi stessi ma dimostrate una tale mancanza di rispetto che è quasi fastidiosa non permettere di credere che ci possa essere giustizia a seguito di un sacrificio non è dovuto è terrificante non dovuto è terrificante perché è vero che avete mandato i documenti alla corte dei conti ma altrettanto avreste potuto fare con la procura sarà poi responsabilità della magistratura dire non ravvisiamo nessun reato da perseguire una segnalazione non costa niente ma è un messaggio fortissimo che avreste dovuto avere il dovere di mandare ai cittadini ai quali stati imponendo il sacrificio e ai lavoratori ai quali avete imposto un grande sacrificio enorme il cambio di contratto state facendo pagare questo sfacelo agli unici anelli deboli di questa catena e noi non lo accettiamo questo bilancio per com'è ve lo votate voi dite sempre che mettete la faccia in ogni cosa voi facciate beh ce la metterete tutta quanta voi anche in questo caso grazie grazie alla consigliera Franciosi ha chiesto la parola alla consigliera Iosa ne ha facoltà prego ha chiesto anche il raddoppio dei tempi prego grazie presidente devo dire che questa è una serata particolarmente difficile dove il tema quello dell'azienda farmacie è stato da noi della lista civica giovani sestesi molto seguito studiato partecipato e discusso abbiamo letto e lavorato sulle varie angolazioni l'angolazione economica legata ai numeri che a volte non tornava quella dei lavoratori a cui come lista dei giovani sestesi abbiamo anche dedicato un'attenta riflessione portandola in discussione in un dibatto pubblico per capire meglio che cosa stava succedendo e l'angolazione politica tutto ciò ci ha portato al pensiero finale che i fallimenti della gestione dell'azienda farmacie comunali sia un'enorme sconfitta che non può nemmeno destare sorpresa perché annunciata dai loro tempo crediamo che questa sconfitta meriti un'attenta riflessione da parte di tutti i partiti politici siano essi di maggioranza o di opposizione e dei singoli amministratori perché qui non c'è in gioco solo la faccia del sindaco o della maggioranza ma di tutti coloro che siedono in quest'aula consigliare dal momento in cui è scoppiata questo bubone la frase che ci siamo sentiti ripetere più spesso è stata noi ci siamo presi la responsabilità politica non ci siamo nascosti abbiamo commissariato mettendoci la faccia ora ci permettiamo però di chiedervi ma visto i numeri che stasera andremo ad approvare ma che altra opzione pensavate di avere aggiungerei poi che una delle criticità che noi dei giovani sestesi avevamo evidenziato è stata la modalità scelta per affrontare il problema cioè per coprire le perdite ovvero prendere i soldi da una parte e spostarli dall'altra in un'operazione che fa veramente poco rumore garantisce che resta tutto fra queste mura e crea poco imbarazzo se non fra quei pochi che si interessano di quello che succede nel palazzo comunale noi diamo un altro significato al ci siamo presi la responsabilità politica che va dal fatto che la gente deve sapere che avete fallito che avete gestito male il bene pubblico che non c'è stato il giusto controllo e che questo ha creato una frattura morale ed economica enorme e che ora state mettendo le mani nelle loro tasche alla chetichella prendersi la responsabilità politica avrebbe voluto dire scendere fra la gente e dirgli è successo un disastro e ora per risolverlo ho bisogno del vostro aiuto economico perché noi crediamo che l'azienda farmacie i suoi dipendenti e il suo valore sociale siano troppo importanti per essere persi o svenduti questo ho sempre sentito dire da quando abbiamo iniziato il ragionamento sulle farmacie da voi ma questa sera noi della lista civica Giovanni Sestesi vogliamo andare oltre perché la sola autoflagellazione anche se in alcuni momenti può essere portatrice di godimento per chi ascolta a poco serve e allora prendersi la responsabilità politica avrebbe potuto anche voler dire aprire una discussione in città integrando e creando sinergia con tutti quei soggetti che potevano essere portatori di soluzioni o di idee invece il problema farmacie è stato preso da lontano prima togliendo ai lavoratori delle farmacie diritti acquisiti negli anni che a torto o a ragione comunque gli avevate dato voi e poi facendo proclami sulla possibile trasformazione dell'azienda che forse nemmeno voi sapete concludendo poi con una solenne o possibile svendita o regalia di patrimonio pubblico questo per noi non è assumersi le proprie responsabilità vorremmo che fosse molto chiaro stasera in modo particolare noi della lista civica giovani sestesi un'attenta riflessione l'abbiamo fatta abbiamo investito molte ore di lavoro cercando soluzioni imprenditoriali affinché un bene di tutti non venga maltrattato dismesso per non dire regalato con incompetenza come oggi risulta sotto gli occhi di tutti dopo un lungo percorso fatto con professionisti imprenditori di settore che al momento opportuno quando parleremo di trasformazione faremo sentire come nostro contributo questo percorso è stato reso ancora più difficile dalla continua frammentazione delle informazioni e delle scelte se è vero che sono state fatte 12 commissioni dopo il commissariamento è altrettanto vero che fin dall'inizio non è stato fatto un piano di azione che partisse da A per arrivare a Z abbiamo rilevato il disastro abbiamo commissariato abbiamo nominato i tecnici accertata la situazione patrimoniale ma come decido di salvarla l'azienda questo noi oggi ancora non lo sappiamo la strategia a noi non è stata detta infatti uno dei primi gesti da parte del sindaco e della maggioranza avrebbe dovuto essere quello di coinvolgere le altre forze politiche invece ci siamo trovati ad elemosinare i documenti ad essere stati attaccati come coloro che divulgano illegittimamente documenti riservati cosa peraltro smentita nella commissione successiva per poi sentirci sbeffeggiare da un consigliere di maggioranza con frasi del tipo è ovvio che i documenti li abbiamo prima governiamo e quindi lavoriamo prima sui dati in risposta diciamo chiaramente che non siamo d'accordo e che vorremmo che fosse chiara una cosa le scelte sono sicuramente di chi governa ma l'informazione è di tutti ed è proprio sulla base di questo ragionamento che quando l'azienda a farmacie fu commissariata noi della lista giovani sestesi chiedemmo di avere un tecnico nominato dall'opposizione che potesse lavorare con voi perché credevamo di poter avere ognuno per la sua capacità di essere portatore di esperienza la possibilità di partecipare al rilancio di questa azienda che oltre all'aspetto sociale è rivolto a svolgere un servizio per tutti i cittadini crediamo fermamente che l'azienda speciale potrebbe essere un punto cardinale economico del nostro bilancio comunale e che se gestita con competenza può dare il suo sostegno sotto forma di servizio ai cittadini il lavoro che i tecnici hanno fatto sommato alle strategie di spostare le farmacie Peluca e Restellone evidenziano già un dato a loro dire di positività e tutto questo ci fa riflettere ulteriormente sulla scelta già anticipata della dismissione del patrimonio immobiliare una riflessione che sicuramente va ampliata perché la cosa più importante in un momento in cui continuiamo a ripeterci che soldi non ce ne sono è quello di trovare il modo di fare cassa attraverso i nostri mezzi e l'azienda farmacie potrebbe essere un grosso aiuto per il nostro bilancio e qui noi della lista civica giovani sestesi mettiamo un punto mettiamo un punto e passiamo alla delibera di approvazione del bilancio 2012 e della copertura delle perdite che noi tutti stasera siamo chiamati a votare anche qui il dibattito e il lavoro fatto al nostro interno è stato tanto come specificato nella relazione del commissario straordinario dottor Finazzi il nuovo bilancio 2012 differisce in modo molto significativo dal precedente a causa di sopravvenienze passive dovute principalmente a differenza nei valori di magazzino accertati in sede di due diligence cifre pesanti una perdita nel conto economico di 1.957.000 euro che genera nello stato patrimoniale un patrimonio negativo netto di 904.000 euro che azzera il capitale sociale in sintesi il nuovo bilancio assume il dato della sovravalutazione del magazzino e ne iscrive la sua perdita ora noi non possiamo e non vogliamo dimenticare che se a maggio dell'anno scorso qualcuno non vi lanciava un messaggio andavamo a votare un bilancio che avrebbe nuovamente destabilizzato e aperto una nuova ferita in questa città riteniamo altresì che in questi mesi l'unica cosa fatta con serietà e con responsabilità sia stato il lavoro dei tecnici che oggi dopo un attento lavoro ci consegnano un bilancio costruito sui cocci di una politica la vostra fallimentare e a quanto pare menzognera dopo un attento confronto abbiamo deciso che questo potrebbe essere il punto zero certificato la situazione che sicuramente non presenta dati positivi ci dà la possibilità di partire e di iniziare a lavorare su dati contabili che oggi ci dicono essere veritieri sulla base della due diligence è stato rifatto il bilancio che è quello che andremo ad approvare stasera noi della lista civica giovani sestesi abbiamo deciso di volere un dibattito di buon senso su questo argomento perché crediamo che l'azienda farmacie e i suoi dipendenti e la nostra città su questo possano ancora vincere abbiamo deciso quindi di dare un voto favorevole a questa delibera per andare avanti e per non interrompere l'attività perché riteniamo e vogliamo che si apra una fase di responsabilità politica che riesca a guardare al bene pubblico con competenza che impari ad usarlo nella più pura eccezione del termine per il bene comune questo lamentiamo sempre questa grande incapacità delle amministrazioni questa grande incapacità anche della nostra amministrazione con questo voto scegliamo nuovamente di esserci di contribuire anche se a onor del vero molti di noi lo stanno facendo da anni insistentemente hanno battuto i marciapiedi ascoltato i suggerimenti le critiche a volte gli insulti per colpa di chi ha trasformato la politica in qualcosa di lontano e per pochi si deve riportare la politica al centro del dibattito e della vita quotidiana di tutti noi non si può solo lamentarsi e subire ma bisogna partecipare e dare un contributo con incontri confronti anche se possono essere duri e aspri ma sempre nel rispetto delle idee e dell'individuo questa è la nostra scelta da gruppo politico la lista dei giovani sestesi che è stata eletta dai cittadini democraticamente seduta in opposizione che conta uno ma che liberamente esprime il suo parere e il suo pensiero per la storia e il suo legame alla città grazie grazie alla consigliera Iosa ha chiesto la parola il consigliere rivolta ne ha facoltà prego ha chiesto il raddoppio dei temi prego sì cercherò di usarne il meno possibile voglio cominciare costituendomi visto che sono stato tirato in ballo il consigliere quello che avrebbe schernito l'opposizione sono io si sa è stato scritto io ho detto altro ho l'abitudine di dire con schiettezza le cose che penso senza usare come dire la retorica e senza usare giri di parole mi viene da dire non parlo in politichese così almeno questa volta la dico io quando io ho detto che era abbastanza chiaro che alcuni documenti fossero stati discussi dalla maggioranza dico una cosa come dire scontata per chi è forza di governo nel senso che non si è discusso il bilancio si è discusso dei documenti e delle parti che riguardavano le scelte strategiche essendo essendo che noi siamo i partiti che compongono la maggioranza e che quindi come dire lavorano e hanno il dovere di indirizzare le scelte quando discuteremo di SRL voi direte che non siete d'accordo sulla SRL sarà una scelta politica non sarà una scelta semplicemente tecnica e da questo punto di vista la politica si assume la responsabilità di sviscerare di fare una discussione a priori rispetto a questa cosa questo intendevo dire poi era meglio che uno dicesse una roba in gran politichese un bel giro di parole non si sarebbe capito e sarebbe stato però il suo fatto così ho l'abitudine di essere molto schietto andiamo un po' con ordine con la delibera di questa sera si vota il bilancio del 2012 viene a compimento un lungo un lungo periodo un lungo lavoro sono credo nove mesi sono i nove mesi del commissariamento sono nove mesi di intenso lavoro del commissario il dottor Fafinazzi che credo sia giusto ringraziare per l'impegno e per il lavoro che ha fatto vorrei ricordare che ha prestato questo lavoro assolutamente gratuito a servizio dell'amministrazione comunale nove mesi in cui il dottor Tranchida il dottor Colasanto hanno come dire messo in atto una serie di misure che pochi minuti fa non io hanno riconosciuto come un lavoro positivo e che avevano il compito di fotografare la situazione delle farmacie comunali quando è stato chiaro che quello che ci era stato presentato era un bilancio non veritiero e cominciare a costruire come dire delle azioni che contenessero la perdita per il 2013 e delineassero una strategia per il futuro e quindi forse io capisco che all'opposizione giustamente tocca il dovere di rinfacciarci gli errori del passato e a noi tocca il dovere di assumerci la responsabilità di quello che è avvenuto ma per chi governa e per chi amministra una città o chi governa e chi amministra una città ha anche il dovere di delineare una strategia per il futuro proprio partendo dagli errori fatti e che sappia dare una prospettiva futura alle farmacie comunali ai dipendenti che vi lavorano e come dire al ritorno economico che devono dare all'amministrazione comunale per cui io credo che sarebbe il caso anche di parlare di quello che è stato fatto in questi nove mesi allora io partirei innanzitutto dalla riformulazione del contratto sì partiamo da lì come dire da quello che si è chiesto ai lavoratori c'è stata una trattativa sindacale si è firmato un accordo è stato firmato a maggioranza dei lavoratori si è ottenuto di sospendere i premi per due anni si è ottenuto due ore di lavoro in più e si è quindi messo si può mettere quindi in previsione un risparmio di circa 200.000 euro l'accessione del magazzino una cosa auspicata nel loro famoso ordine del giorno del 2009 finalmente si è conclusa si è provveduto a tagliare consulenze per cifre consistenti si è già da prima della riformulazione del contratto come dire messo in atto una riorganizzazione dei turni di lavoro e delle sostituzioni che ha di molto ma di molto ridotto il ricorso a professionisti esterni e tutto ciò produce sul futuro delle farmacie comunali la possibilità di tornare inutile e come dire di salvarsi perché la discussione poi vera questa sera oltre alle discussioni sul passato è su quello che è stato fatto in questi mesi involontariamente ma non credo perché il consigliere Lamiranda non fa nulla involontariamente ci ha detto che le previsioni dei del dottor Corasante del dottor Tranchida sono prudenziali e quindi automaticamente ha certificato la bontà di un piano di rilancio perché dice i margini che loro hanno previsto sono sicuramente più bassi di quelli che si potranno avere e quindi come dire involontariamente ha certificato il buon esito di un lavoro fatto in questi mesi io credo che noi dobbiamo avere l'orgoglio anche di partire da questo da quanto di buono in questi mesi è stato fatto non mi convince consigliera franciosi quando dice noi ce ne tiriamo fuori io capisco che lei dica assumetevi fino in fondo la responsabilità di questo percorso noi ce ne tiriamo fuori di fronte a un bene comune onestamente mi sembra improprio come dire non mi sembra da forza che vuole governare una città noi ce ne tiriamo fuori nel momento in cui se noi stasera votassimo tutti contro il bilancio si andrebbe all'ascioglimento delle farmacie comunali significa non avere a cuore come dire il destino di 40 famiglie di 40 lavoratori oltre che di un bene beh il termine l'ha usato lei potevo dare un termine diverso ma siccome bisogna sempre calcare la mano io non chiedo all'opposizione di condividere quello che è stato il passato è evidente soprattutto chi era in consiglio comunale da molto tempo trovo magari curioso che la preoccupazione che ha espresso la consigliera Franciosi sia sulla notte preoccupazione già espressa da qualche duro in commissione cerchiamo di capirci in una città come la nostra le farmacie cittadine comunali e private hanno l'obbligo di stabilire a turno una notte aperta in questi ultimi anni l'hanno sempre fatto le farmacie comunali se ne sono assunte il compito la notte è un costo per le farmacie è stato quantificato che sulle farmacie comunali produce una perdita di circa 70.000 euro si è semplicemente detto che si deve applicare per la notte quello che la legge prescrive cioè le farmacie della città di Sesto San Giovanni hanno a turno il dovere di garantire la notte non è detto in quale farmacia consigliera Franciosi può continuare a rimanere quella di Marelli perché altrimenti non sarebbe stato possibile neanche nel passato quindi si è deciso di aprire tutta questa passione per tutelare l'interesse delle farmacie comunali quando si è parte della parte cioè consiglieri comunali che dovrebbero difendere le farmacie comunali lo trovo un po' originale a occhio perché non vorrei che lei avesse un conflitto di interessi non credo le suggerirei di comprendere fino in fondo che questa cosa permette alle farmacie comunali di come dire ridurre parte della perdita perché la notte verrà ridistribuita su tutte le farmacie presenti sul territorio io trovo anche che dire che c'è stata mancanza di collaborazione lo trovo francamente sì possiamo andare avanti a dire che i documenti non ci sono cioè mi hanno fatto 12 commissioni poi andiamo in una qualsiasi città limitrofa che è un termine che piace quando si deve parlare bene e verifichiamo su cose di questo tipo sufficiente di questo tipo quante commissioni si sono fatte io lo trovo scusatemi poco corretto e poco generoso ma anche poco rispettoso di tutte le ore che noi abbiamo passato perché io poi questa cosa faccio fatica a capirla va bene ci sta la retorica politica abbiamo passato 12 commissioni passando credo due ore a commissione se non tre a discutere a sviscerare a confrontarci a volte eravamo d'accordo a dire che tutto questo è stata una manfrina come dire non rende onore al lavoro della maggioranza ma neanche al lavoro della minoranza il ruolo delle commissioni venire qui questa sera e in sede di domande al dottor Colassanto non porre tutti quei quesiti che lei ha posto poi nel suo intervento beh forse aveva paura che le desse una risposta ben precisa che aveva i suoi dubbi perché come dire di tempo per fare le domande ce n'è stato abbiamo anche capito che bisognava aspettare la cavaleria rusticana che arrivasse per cui si è tirato il tempo perché arrivasse il consigliere Lamiranda e quindi tutti a fare domande che erano già state fatte sette volte in commissione in modo che si prendeva tempo e si dava l'opportunità al consigliere Dammi Lamiranda che giustamente rivendica una titolarità e per cui gli dargli l'occasione di intervenire magari è un segno di debolezza per il resto dell'opposizione ma pace è un riconoscimento di valore al consigliere Lamiranda ma forse è un segno forte di debolezza per chi per chi per chi ha bisogno che arrivi la cavaleria rusticana ecco appunto doveva arrivare è arrivata e quindi siamo qui Corte dei Conti o Procura della Repubblica curioso per molti mesi c'è stato detto che la Corte dei Conti non era la sede corretta per intervenire questa sera consigliere Lamiranda ci ha detto che ha proposto ad altri consiglieri dell'opposizione di fare anche loro una relazione alla Corte dei Conti beh evidentemente quella è la sede in cui si fanno e si pongono delle questioni che riguardano i bilanci e la gestione di aziende pubbliche grazie consigliere Lamiranda è la seconda certificazione abbiamo fatto bene ad aspettarla io credo che la Corte dei Conti sia invece l'organismo corretto quello che appunto che poi è curioso se la Corte dei Conti manda una richiesta al Comune di Sesto per avere delle specifiche rispetto alle farmacie o rispetto agli altri bilanci ci sono decine di comunicati in stampa in cui si stigmatizza questa cosa se invece noi andiamo alla Corte dei Conti o mandiamo i documenti alla Corte dei Conti non ha più valore non ha più significato o è una o è l'altra io credo che la Corte dei Conti sia la sede giusta vengo alla partita dei Revisori dei Conti l'affronto che chiaramente è la più più delicata non mi sottrago non ho l'abitudine i Revisori dei Conti hanno hanno accettato e hanno scelto nonostante fossero scaduti di rifirmare un bilancio non so se si dice firmare un bilancio comunque insomma di rivalidare un bilancio che sanno chiaramente che andrà alla Corte dei Conti punto mi viene da dire punto cioè hanno scelto da professionisti nel momento in cui si sono resi conto che c'era come dire qualche cosa che non corrispondeva ne hanno preso atto di firmare loro un documento che va alla Corte dei Conti come dire mi viene da usare un termine brutto che non voglio usare lo uso come dire tra virgolette si sono presentati spontaneamente alla Corte dei Conti e siccome conoscono qual è il lavoro della Corte dei Conti da questo punto di vista credo che abbiano fatto un gesto di grande trasparenza quanto meno dovuto non dovuto potevano non firmarlo potevano erano scaduti il consigliere Vanducci ognuno la vede come vuole potevano essendo scaduti dire noi non sarà la Corte dei Conti e loro hanno scelto di firmare un bilancio che andrà alla Corte dei Conti di nuovo nuovamente siccome sono dei professionisti siccome sanno cosa significa hanno scelto di farlo punto fine delle trasmissioni per quanto riguarda per quanto riguarda lei no non è un problema io credo che questa cosa vada presa per quello che è e mi fermo per cui sarà la Corte dei Conti anche in quel caso a valutare se c'è una loro responsabilità o no anche perché appunto essendo scaduti potevano dire è un problema vostro potevano dire non riconosciamo la due diligence poteva ci sono molti modi hanno scelto e hanno deciso comunque di firmare un documento che evidenza anche le loro che evidenzia anche le loro incongruenze assolutamente hanno scelto loro mi sembra abbastanza abbastanza ovvio quindi io credo che noi questa sera dobbiamo dobbiamo votare questo bilancio dei prossimi mesi proseguiremo con il programma di trasformazione che il consigliere la Miranda ha accennato nel suo intervento è curioso quelli che ci chiedevano di vendere le farmacie negli anni passati quest'anno ci dicono che non dobbiamo fare la trasformazione in SRL ma tenere la proprietà pubblica come dire è uno sbandamento culturale politico abbastanza forte perché uno non può fino all'anno prima chiedere di vendere le farmacie di privatizzarle e poi stigmatizzare la trasformazione in SRL come se fosse l'anticamera della privatizzazione quando sappiamo che si privatizzano nel momento in cui si decide di vendere oltre il 50% e siccome la politica ha scelto di non fare questa cosa non è il vincolo che si mette che impedisce questa cosa non è la cintura di castità che ci tiene lontano dal lato ulterio è la testa e se no è finita è la testa è la politica che decide che non va verso la privatizzazione perché tiene il 50% non è lo strumento che ci lo impedisce se no evidentemente deboliamo dubitiamo della nostra testa e della nostra capacità politica di indirizzo altrimenti ritiro in ballo a chi chiedeva la privatizzazione cioè se le ultime elezioni fossero state vinte da altri candidati così non personalizzo la cosa che avevano detto più volte che si doveva vendere le farmacie si dovevano vendere le farmacie pubbliche o alcune farmacie non c'era vincolo di nessun tipo bastava una scelta politica e si vendevano non è che il fatto che fossero comunali impediva l'azienda speciale avrebbe impedito la vendita questo per dire che lo dico anche a parte della mia maggioranza che è la scelta politica è la decisione che influisce sul futuro delle farmacie non è un articolo dello statuto non è un articolo non è una scelta di trasformarle in un soggetto piuttosto che un altro ma diciamo questa discussione la affronteremo quando arriveremo poi a dover affrontare la trasformazione però siccome poi il prossimo la prossima delibera riguarda una cosa che è in una certa maniera collegata o propedeutica ne approfittavo anche perché diventa tardi magari la prossima del libera facciamo una discussione più più veloce io chiudo dicendo che noi votiamo perché questo è il compimento di otto mesi di lavoro intensi profiqui che stanno dando buone prospettive che hanno ricostruito come dire la certezza di un bilancio e ci permettono da domani innanzitutto permettono alle farmacie comunali da domani mattina di tirare sulla clare perché altrimenti da domani mattina non si tira sulla clare questo va detto con chiarezza ma soprattutto ci permettono di affrontare come dire con serenità quello che quello quello che verrà certo questo questo costerà al bilancio del comune di Sesto San Giovanni un minuto per concludere grazie ovvio chiaro non lo nascondo assolutamente non lo nascondo credo credo che però in questo quadro vada visto anche tutto quello che è stato fatto di positivo in questi nove mesi e speriamo di poter dire fra un anno fra due anni così come prevede il bilancio così come prevede il budget non è vero che non c'è un piano industriale il piano industriale è stato discusso ampiamente abbiamo fatto una commissione prima di Natale eravamo in sala giunta quella volta abbiamo discusso di piano industriale almeno un paio di serate e sono state poste delle domande è stata anche data la possibilità di mandare le domande prima e dopo cioè io capisco tutto ma non credo che si possa buttare tutto il lavoro di questi mesi nel cestino deve concludere chiudo poi dirà a mente che c'è un altro intervento se vuole si chiudo io niente credo appunto che il gruppo del partito democratico voterà a favore e come dire consapevole che questo è un passaggio che per il momento abbiamo ricostituito un patrimonio stiamo ricostituendo un patrimonio che viene dopo una gestione sbagliata e che mi auguro che a un certo punto si possa tutti insieme discutere del futuro senza per forza dover ritornare al passaggio grazie consigliere rivolta ha chiesto la parola il consigliere gianvecchio nella facoltà grazie presidente niente io sarò sarò breve e volevo intervenire anch'io sul discorso delle farmacie con un'assunzione di responsabilità ecco questa parola qua assunzione di responsabilità è una cosa che che mi tocca mi tocca perché secondo me assunzione di responsabilità è votare il bilancio costantivo 2012 le farmacie comunali la cui perdita è dimostrata essere molto rilevante e che verrà coperta con il bilancio comunale il bilancio comunale che va a intaccare le tasche dei cittadini questo è stato detto però affinché io pongo un punto ben preciso affinché la corte dei conti possa valutare le responsabilità di coloro che hanno omesso il risarcimento dell'azienda fa un grande il risarcimento dell'azienda fa un grande passo avanti che viene dopo il commissariamento ai tagli di spese improduttive l'intervento sul contratto di lavoro e soprattutto l'affitto del magazzino il dottor Colassanto quale vanno i miei ringraziamenti anche a Finazzi che hanno fatto un bel lavoro nella relazione esposta ha messo in evidenza come il bilancio consuntivo 2012 che viene presentato e sottoposto ad approvazione per le differenziazioni da quello precedente reddato dal CDA voci di errate valutazioni soprattutto del magazzino che con l'accessione del ramo d'azienda potrebbero porterebbero a un graduale miglioramento sicuramente c'è molto da fare aver appurato e preso l'azienda sull'ordo di un precipizio ed averla instradata su vie più tranquille è un grande risultato anche perché viene data una prospettiva ai 38 dipendenti delle farmacie assicurare lavoro a 38 famiglie in un momento di crisi come quello che sta attraversando il nostro paese con disoccupazioni alle stelle con miele di famiglie che ogni giorno perdono posti di lavoro risulta essere fondamentale garantire serenità sicuramente sicuramente e siamo ottimisti in questo nei prossimi mesi la situazione dovrà consolidarsi per arrivare al 2015 sessantesimo delle nostre farmacie con la speranza che non si parli più di una loro crisi ma esserà lasciata alle spalle stiamo andando nel verso giusto rimbocchiamoci le maniche ora per goderci dei benefici domani anche perché non approvando il bilancio di stasera metteremo in crisi il proseguo dell'esercizio delle attività delle farmacie con conseguente perrita anche dei posti di lavoro che in questo momento non possiamo permetterci grazie grazie al consigliere Gianvecchio ho chiesto la parola alla consigliere Landucci con la possibilità del raddoppio dei tempi prego grazie presidente volevo rispondere a molti dei punti che ha toccato il consigliere Rivolta che è chiaramente la voce della maggioranza in questo momento comincerei dal discorso del governo e dall'informazione e qui riprendo una cosa che ha detto giustamente la consigliere Aiosa nessuno discute il fatto che la maggioranza faccia delle riunioni sulla documentazione per decidere cosa fare e venga alle commissioni e in aula avendo preso una posizione condivisa mi va benissimo il problema è che la documentazione deve essere a disposizione di tutti nello stesso momento questo è sbagliato non che voi discutiate e decidiate questo è normale il problema è che voi ricevete prima la documentazione questo è scorretto quando succede questo è scorretto punto che voi poi decidiate di seguire una certa strada va benissimo nessuno lo ha mai contestato non fingiamo di non capirci secondo la privatizzazione che noi avremmo voluto e che voi invece combattete primo ho già detto in commissione e ripeto che privatizzare non vuol dire vendere a privati vuol dire trasformare una società di diritto pubblico in una società di diritto privato e questo avviene nel momento in cui si fa una SRL punto non facciamo confusione non ciulliamo nel manico eh per favore perché questo si continua a dire la privatizzazione avviene nel momento in cui si passa alla SRL perché la SRL è una società di diritto privato oltretutto si sa benissimo che entro due anni deve comunque entrare obbligatoriamente un socio privato e non c'è scritto da nessuna parte non può essere scritto che questo socio non possa arrivare alla maggioranza perché sarebbe un patto contro la legge quindi non si può fare c'è un c'è in questo momento un patto politico tra virgolette un impegno meglio non un patto un impegno politico che però naturalmente potrà essere rispettato se compatibile con un bilancio quindi questa è la realtà la privatizzazione avviene nel momento in cui fate la SRL punto punto perché in quel momento c'è un azionista che l'azionista sia il comune o pinco pallino la ragione giuridica della società è la medesima tanto è vero che il commissario Finazzi all'inizio ha detto si discute se un'azienda speciale possa fallire e la giurisprudenza in genere dice di no mentre di una SRL siamo sicuri che possa fallire glielo so dire anche io che non sono un'esperta la SRL può sicuramente fallire e non è vero quello che si stava dicendo se qui non votassimo il bilancio scusate è un anno e mezzo che adesso il bilancio che c'è semplicemente il comune è chiaro che ve lo dovete votare voi decidete voi di ripianare la perdita scusate avete creato un buco della malora e volete anche che vi votiamo come ripianamento questa qui sarà la responsabilità di chi governa abbiate pazienza cioè mi sembrerebbe ridicolo no? ho capito il minimo di gioco delle parti bisogna farlo anche perché noi sono cinque perché io me lo ricordo nel dicembre del 2012 non sotto Oldrini mio nonno che non c'ero non so cosa diceva prima il consigliere De Noia io non facevo il consigliere comunale come no? nel 2012 lo faceva sì il consigliere comunale e staranno tutti lì con i flabelli a lodare il mirabile piano economico di Brusati che ci prometteva che l'anno che quell'anno perdevano poco 120 mila euro ma l'anno dopo che era il 2012 in cui poi abbiamo perso due milioni di euro tanto per godere un po' sarebbero stati inattivo e non uno di quella parte che abbia aperto la bocca tutti a dire bene come siamo contenti ma che bello ma che bel futuro che ci aspetta no? tutti lì tutti questi che ci sono adesso tutti andate a risentirvele alla registrazione perché insomma qui altrimenti facciamo capito far fin non guardare troppo al passato però ho capito non andare agli antichi romani ma il dicembre 2012 non è così lontano consigliere rivolta abbia pazienza quindi lasciamo perdere quanto poi alla colpa noi dicevamo nel momento in cui si è capito che le farmacie non stavano in piedi ed era cinque anni fa che se forse ci aveste ascoltato sarebbe stato meglio dicevamo di vendere il magazzino prima di tutto allora adesso si è affittato in cambio di un pezzo di pane ora si è affittato praticamente per non continuare a spendere perché nessuno le voleva oggi queste licenze ma cinque anni fa si poteva vendere la licenza di grossiste e prendono un sacco di soldi perché non c'era ancora la crisi non c'erano ancora i tagli tutte queste terribili cose che ci sono state dopo quanto una volta venduto il magazzino come dicevamo noi certo poteva anche essere e io non sono ancora non sono ancora del tutto convinta cioè non è che abbiamo deciso non ci sono scritte le tavole della legge abbiamo dieci farmacie e moriremo con dieci farmacie o nove o dodici cioè è chiaro che uno può rimodulare le proprie farmacie che non vuol dire licenziare nessuno vuol dire al limite riutilizzare il personale cioè cosa c'entra non è che se io scopro che una farmacia così com'è non funziona non funzionerà mai sono costretta come una pietra al collo andare a fondo con la suddetta farmacia cioè questa qui è pura follia quindi io rivendico la nostra intelligenza di precedente alla vostra è chiaro quindi questo sia chiaro per quanto riguarda invece il discorso delle farmacie notturne cioè noi siamo stati come dire assordati per anni dal fatto che le farmacie guadagnavano quando le farmacie private facevano i miliardi queste galleggiavano me lo ricordo io nel 2000 che ragazzi le 10 farmacie ci hanno dato 100 milioni di utile madonna che roba ragazzi adesso poi cioè il ricordo ora mi fa paura per come era bello ma devo dire che insomma non era proprio questo come dire a questo fuoco d'artificio di soldi di utili allora però si diceva non fanno tanto utili perché hanno un grande valore sociale noi ci facciamo carico delle medicine agli indigenti noi ci facciamo carico del servizio notturno è vero che io ho sempre detto a Oldrini e se lo ricorda benissimo il consigliere rivolta ma scusa guarda il sindaco che in tutto il mondo c'è una farmacia di aperta di notte non è che l'abbiamo scoperto noi a Sesto ma noi a Sesto è un servizio bellissimo lo facciamo noi ce lo teniamo il nostro fiore all'occhiello quindi questo veniva detto continuamente cioè non credo che quelli privati abbiano detto non lo vorremmo mai fare neanche morti c'era un fiore all'occhiello che lo portava avanti quindi le medicine agli indigenti il fiore all'occhiello di notte c'erano anche i pasti i pasti al domicilio la portava anche i pasti a domicilio anche quello ma che lavoro i pasti a domicilio poi dava i soldi agli oratori perché allora c'era Moulet che faceva che era legato agli oratori e dava i soldi e naturalmente gliel'abbiamo dati anche il giorno prima della campagna elettorale così siamo stati contenti l'ultima volta non c'erano i soldi più ma le abbiamo trovate le farmacie hanno raschiato il fondo del barile e le hanno trovate facevano sempre comodo 30 mila euro agli oratori qualche voto di qualche parrocchione in più e arrivano allora è chiaro che in questo senso se cominciamo a levare abbiamo levato i pasti a domicilio spariti i soldi ai lavoratori spariti adesso se spariscono anche le medicinali indigenti se spariscono anche il lavoro notturno cioè devo dire sono farmacie come tutte che a differenza delle altre ci danno anche un sacco di grane per cercare di farle stare in piedi va bene teniamoci le grane però insomma come dire diamoci anche un'inquadrata perché nei costi delle farmacie bisogna mettere anche le decine di commissioni che abbiamo fatto questo consiglio comunale con gli straordinari notturni tutto questo costa il cittadino sestese non siamo nessuno qui e qui gratis né noi né tantomeno gli impiegati giustamente per carità non è che voi dico di no quindi questi sono tutti i costi che ci stanno costando le farmacie oltretutto volevo dire alla collega Franciosi che di guardando bene ho visto che queste farmacie che occupano dieci locali pubblici cioè dei nostri comunali pagano in totale d'affitto comprese le spese la diceva prima il dottor 176 mila euro ma dico c'è niente c'è niente cioè io so che a Rondò dove c'era la gelateria è stata sfrattata perché non ha voluto pagare 2800 euro al mese di affitto per una gelateria cioè quindi altro che i 94 mila euro che dovremmo dare cioè praticamente noi sono anni che regaliamo i locali alle farmacie perché se le farmacie queste farmacie avessero dovuto stare sul mercato non avrebbero pagato 100 milioni avrebbero pagato mezzo milione di euro all'anno quindi diciamo che siamo pesantemente in credito con le farmacie non in debito per i 94 mila che poi negli anni precedenti erano molto meno quindi diciamo che il comune cioè i sestesi sono anni che danno soldi sangue e ossigeno alle farmacie spero che adesso imparino non a ridarci a noi degli utili che non ci spero ma piano piano a non costarci più niente anche perché scusi consigliere rivolta io vorrei che fosse sempre detto anche da voi perché non ha detto ancora nessuno che non è che questo che il rosso delle farmacie e il costo puro delle farmacie sono i 900 mila euro che ci mettiamo sono i 900 mila euro più i 4 milioni che abbiamo sperperato totale 5 milioni di euro nonostante il regalo annuale dei locali che gli abbiamo fatto e che continuiamo a farli quindi devo dire che stiamo svenandoci svenandoci per tenere in piedi una baracca che speriamo ci stia in piedi speriamo ci stia perché devo dire il piano industriale che abbiamo visto che abbiamo visto e che spero ardentemente che sarà migliorato rispetto a quello diceva che i primi 6 mila euro di utile cioè niente perché 6 mila euro di utile è una risata venivano previsti al 2016 quindi ancora abbiamo un deserto che dovrebbe durare il 2013 2014 e il 2015 quindi la strada forse sarà migliorata però è lunga e dolorosa ancora tutta a carico dei cittadini sestesi e io non capisco qual è il motivo cioè quello dei revisori dei conti il consigliere rivolta ha rovesciato il concetto cioè non il revisore dei conti non sta perché lo decide lui il revisore dei conti non fa mai il revisore dei conti perché lo decide lui il revisore dei conti perché viene nominato e la scelta di mantenerlo toglierlo non è mai del revisore è di chi ce lo tiene a me non me ne importa niente cosa pensavano i tre signori che non ho mai visto e che francamente spererei anche di non vedere perché non avrei tanta voglia di vederli io mi domando perché noi non abbiamo cercato tre revisori di cui fidarci di più cioè che fiducia mi dà questa firma cioè il revisore dei conti è il garante della proprietà perché garantisce che come dire contro l'eventuale errore dell'amministratore quindi l'azionista deve essere sempre cioè deve sempre volere un revisore dei conti di cui fidarsi e noi ci dobbiamo fidare di uno che ha firmato prima una roba del tutto finta e parliamoci chiaro consigliere Rivolta dubito che il bilancio del 2011 fosse questo esempio eh di correttezza di bilancio e forse anche quelli precedenti non andiamo a vederli non andiamo a vederli per carità di patria li lasciamo fare però che vantaggio abbiamo avuto noi a tenere questo perché il problema è di tenere o no i revisori dei conti in proroga è nostro mi domando noi che vantaggio abbiamo avuto a tenere questi signori che evidentemente come minimo non capiscono niente di bilancio come minimo non capiscono niente di bilancio nella migliore delle ipotesi nella migliore delle ipotesi non sanno fare il loro mestiere nella migliore cioè dove che l'abbiamo udita non ne abbiamo altri cioè nella pletora di commercialisti che inondano il mondo non ne trovavamo tre un pochino più svegli ecco cioè non è cioè sembra quasi che dobbiamo ringraziarli perché hanno deciso di fermarsi a firmare ma chi se ne frega cioè io volevo dei revisioni dei conti di cui fidarci io di questi tre non mi fido che abbiano firmato o no ripeto l'ho detto nella relazione lo dico adesso una delle cause fondamentali per cui io voterò no a questo bilancio è proprio quella firma lì quella relazione cioè la relazione di revisioni dei conti inaffidabili io non lo voto un bilancio che è stato certificato da tre che me ne avevano certificato uno del tutto diverso non lo voto non lo voto perché secondo me automaticamente viene inficiato e comunque scusi se noi non votassimo questo non è questione di votare o non votare è questione semplicemente che voi finalmente dovete prendere atto che avete pervicacemente sbagliato per cinque anni finito ve lo prendete ve la portate a casa e la pagate però chiariamo non novecentomila euro cinque milioni di euro ci è costata la vostra convinzione di andare avanti in questo modo cinque milioni di euro e ci continuerà a costare perché ripeto il piano industriale io l'ho visto l'ho visto l'ho guardato e il primo utile si affacciava nel 2016 6.000 euro che se uno starnutiva diventava una perdita perché se uno gli viene il raffreddore diventa una perdita 6.000 euro basta che un farmacista sia male e dobbiamo fare una sostituzione siamo già in perdita che 6.000 euro si fa presto andare sotto quindi io credo che in questa situazione noi dobbiamo sicuramente ringraziare i due tecnici ma certo non dobbiamo ringraziare un'amministrazione una maggioranza che hanno che non hanno affatto capito che le cose andavano male hanno dovuto prendere atto a giugno che era scappato il presidente ed era scappato anche il direttore una volta scappati tutti hanno dovuto dire forse c'è qualcosa che non va ma fino a quel momento ripeto da voi solo elogi per chi ha governato in questo modo le farmacie per quanto riguarda poi la Corte dei Conti e la risposta della Corte dei Conti sono due cose diverse il consigliere Lamiranda l'ha spiegato benissimo noi attraverso una richiesta almeno appunto di messa in mora rispetto agli amministratori ci garantiamo il diritto di fare un'azione di responsabilità che prescinde dalla galera dal penale da queste cose qui che non contano secondo me in queste cose ma che invece risponde all'idea che se tu hai gestito male una cosa per incompetenza alla fine paghi perché non devono pagare i cittadini che non sono colpevoli questo è il problema non lo volete fare per motivi che non si capiscono spero non per amicizia per Brusati e per la gentile signora che non mi ricordo come si chiama no Francesconi era la direttore della revisore dei conti si chiama in un altro modo che non mi ricordo com'è ecco ma in ogni caso noi pensiamo che l'esposto andava fatto la messa in mora andava fatto e io spero che qualcuno della maggioranza vi convinca a farlo anche perché non capisco cosa ve ne viene a non farlo tanto se non c'è niente finirà archiviato non capisco questa impuntatura cioè perché no cioè cui prodest a chi va il vantaggio di non farlo è una cosa che non costa niente perché basta farlo su un foglio di carta libera senza nessun problema se non c'è problema il magistrato dirà che non c'è niente quindi che vantaggio c'è a non farlo questo e questo me lo domando però siete tutti così convinti che questi qui non bisogna farlo quello della corte dei conti era un atto dovuto ma insomma nessun amministratore io credo che la dottoressa Orzetti non avrebbe accettato di dire no facciamo tutto non mandiamo alla corte dei conti ragazzi poi dopo se no chiamano lei a dire scusi dottoressa abbia pazienza perché l'azienda l'azienda speciale è all'interno del bilancio comunale quindi il passaggio alla corte dei conti è un atto dovuto per proteggere i nostri amministratori seri da eventuali chiamate di corresponsabilità quindi non è un atto che scelta coraggiosa che abbiamo fatto era un atto dovuto sperando che non ci siano conseguenze perché non abbiamo vigilato perché un po' di colpa invigilando qui è molto diffusa negli anni scorsi un po' di colpa invigilando ce n'è perché è sicuro perché non è che io e la Miranda avevamo gli occhi chissà come che le cose non andassero bene si vedeva svedeva cioè non è che ci voleva appunto chissà il Guido Carli revivivo per capirlo quindi un po' di colpa indigilando ci assicuro speriamo che a corso dei conti faccia finta di non accorgersi però in ogni caso bisogna anche secondo me fare un esposto per una chiamata di corresponsabilità che non ci costa nulla non capisco perché non vogliate farlo francamente non lo capisco però se decidete così voi votate i numeri sono vostri me la prendete spiegate ai cittadini che non volete chiedere la corresponsabilità di quelli che gli hanno rubati gli hanno fatto perdere 5 milioni di euro i cittadini sono contenti vi siete contenti avete la maggioranza come dice lei consiglia di rivolta voi avete la responsabilità di governare decidete votate alzate la manina e poi andate a spiegare il perché grazie al consigliere Landucci ha chiesto la parola il consigliere Foggetto nel frattempo chiedo al vicepresidente di Stefano se posso studirmi un attimo grazie prego consigliere Foggetto allora grazie mille volevo iniziare dicendo che per quanto ci riguarda ci sono due piani rispetto alla cosa uno riguarda la delibera l'altro riguarda tutto ciò che alla delibera sta dietro ma mi è perso di capire che questi due piani siano abbastanza condivisi da tutti quanti visto che si è parlato poco del bilancio e più di quello che ci sta dietro appunto rispetto appunto al primo piano quello riguardo la delibera in effetti c'è poco da dire nel senso che il documento con tutti gli allegati e le giustificazioni le relazioni date le commissioni o uno ha partecipato l'altra più o meno giustificano i numeri che ci sono su quel bilancio e quindi questo documento risulta e rimane votabile quello che sta dietro tutto questo è quello che sta venendo fuori invece nei vari interventi negli interventi fatti fino adesso tutti più che legittimi e in gran parte condivisibili qualcuno a pieno qualcuno solo in parte ora a noi non interessa difendere nessuno non ci interessa perché una delle cose poche una delle poche cose buone che arrivano con l'età adulta è la capacità di difendersi da sé quindi ognuno e questa facoltà non la vogliamo togliere a nessuno tantomeno però ci interessa sparare ad occhi chiusi nel mucchio e colpire qualcuno o nessuno per raccogliere qualche favoritismo e senza comunque un effettivo obiettivo quello che ci importa è che ci troviamo oggi con un'azienda speciale con due milioni di buco due milioni di buco anche se su questo però permettetemi una voce fuori dal coro vorrei fare un passo indietro 60 anni fa si parlava prima dei 60 anni delle farmacie 60 anni fa l'azienda speciale è nata nasce praticamente da zero da questo da questo zero si è arrivati a tirare su un capitale un capitale che per errori anche gravi ci è stato mangiato da questo capitale ci è stata mangiata una parte con questo che cosa voglio dire che nonostante questa parte di capitale mangiato il capitale il delta rimane ancora positivo nel senso che tutto ciò che ci è arrivato negli ultimi 60 anni dalle farmacie non viene annullato da questi anni e da questi debiti che ci sono e che ci ritroviamo oggi questo capitale ad oggi è ancora patrimonio della della cittadinanza e ci auguriamo che lo rimanga anche a lungo sinceramente leggevo oggi su facebook che in questa grande tribuna politica che è diventato facebook obiezioni dei cittadini per cui come è possibile in così poco tempo così tanto male a questo impulso che ci arriva dai cittadini innanzitutto vogliamo rispondere perché da quello che leggevo oggi forse non tutti hanno capito non si sta parlando di qualcuno che sia scappato col malloppo si sta parlando di un buco e si sta parlando di un buco che non può essere stato fatto appunto per rispondere a questa obiezione non può essere stato fatto in così poco tempo nel poco tempo che si che sembra ci sia voluto pensare che questo buco tragga origine dall'ultimo dall'ultimo periodo è quanto meno poco credibile se in un anno o due ci fossimo davvero persi tutto il positivo aiuto mi sono perso un attimo sarebbe scusatemi sarebbe voluto dire sarebbe quasi come se qualcuno in stile banda bassotti fosse scappato col malloppo siccome chiunque è ancora abbastanza recuperabile abbastanza rintracciabile questa cosa non mi pare non mi pare credibile con questo noi non stiamo non vogliamo dire non vogliamo difendere non vogliamo dire che non ci siano stati gravi errori non stiamo dicendo che quello di cui stiamo parlando non sia successo stiamo solo dicendo che e lo diciamo con forza non è a quest'ultimo CDA o a questa amministrazione che si può dare tutte le responsabilità e le responsabilità di quanto di quanto stiamo discutendo questa sera lo scorso CDA non è non può essere il solo responsabile di questa cosa di questo tracollo e questo sarà il tempo a a dimostrarlo e riguardo a questa amministrazione non non è da questa amministrazione che trae origine questo buco è su questa amministrazione che si stanno ripercuotendo gli effetti questa amministrazione però va detto sta affrontando la situazione critica nel bene o nel male per trovare per provare a trovare una soluzione sottolineo nel bene o nel male perché credo tutti sappiano o per lo più la maggior parte sa che non siamo in tutto e del tutto d'accordo con quello che è il piano di recupero di rilancio che ci si prevede non siamo d'accordo con il passaggio a SRL non siamo d'accordo ma di questo discuteremo successivamente rispetto alla questione dell'amministratore unico però siamo e questo nessuno può dire e su questo nessuno può dire il contrario siamo sicuri che questa amministrazione appunto nel bene o nel male la soluzione la stia cercando noi comunque proposte le nostre proposte le abbiamo fatte e tra le altre cose ribadisco c'è anche il la proposta appunto di mantenere fino alla fine finita il commissariamento di mantenere di creare un nuovo cdi e ci tengo a dire gratuito che confrontandosi con i lavoratori pensi a quale possa essere il percorso migliore perché ancora non siamo del tutto anzi non siamo convinti che l'SRL possa essere un salvataggio per l'azienda certo si può dire che qualcuno ed è stato detto anche prima si può dire che qualcuno qualcosa lo avesse già detto e lo dicesse da tempo strano che questo qualcuno fosse chi fino a poco tempo fa fino a qualche anno fa fino a non più di due anni fa parlava di privatizzare lo ha già detto il consigliere di volta e rispondeva prima la consigliere Anducci certo che passare da vogliamo privatizzare a strenui difensori dell'esercizio pubblico rispetto alle farmacie c'è un passaggio abbastanza ampio in mezzo quindi diciamo innanzitutto che Cassandra si avevo già usato il paragone alla Cassandra Cassandra quindi non l'ho rubato al consigliere la Miranda Cassandra si coerenti più o meno in secondo luogo va detto e come diceva prima appunto la consigliere Anducci va detto che nessuno si nasconde nessuno si nasconde sono stati fatti sono stati fatti dei grossi errori sono stati fatti dei grossi errori anche dalla dalla politica questi errori costeranno questi errori avranno un costo che ricadrà sulla sulla cittadinanza e che sarà ripagato dai cittadini però ci tengo a ribadire quello che dicevo prima per cui rispetto tutto il positivo che è arrivato negli ultimi 60 anni dalle farmacie hanno ancora una valenza che è maggiore rispetto a quella che sarà richiesta i cittadini non è una soluzione quella che stiamo che si sta che si prevede alla quale avremmo saremmo voluti arrivare ma tant'è che in questo momento anche questo diventa diventa necessario salvo poi recuperare in qualche altro modo spero sia chiaro ribadisco che non vogliamo e con questo chiudo che non vogliamo difendere nessuno non vogliamo dire che l'errore non ci sono stati non vogliamo essere accusati di essere difensori di chi ha sbagliato vogliamo solo che non si porti all'agonia chi magari ha responsabilità minori e si lasci chi ha altre responsabilità che si perdono nell'alba dei tempi vogliamo altrettanto che chi è imputato in questa cosa non venga giudicato da un tribunale politico e aggiungerei anche elettorale ma da chi possa averne le effettive le effettive competenze grazie sì grazie allora se ritorno al presidente io vado al mio posto così posso fare l'intervento grazie ha chiesto la parola il consigliere di step nella facoltà prego potevo parlare da lì magari grazie presidente tenterò di essere breve nonostante la discussione visto l'orario però la discussione la delibera sono di importanza strategica in quanto si sono verificate le nostre preoccupazioni iniziali e cioè che i soldi per ripianare il debito delle farmacie molto probabilmente anzi con molta certezza li dovranno mettere tutti i nostri cittadini estesi e il cittadino bancomat non è più uno slogan anzi sta diventando ormai una realtà per una politica locale che è capace di condividere con la collettività i debiti generati al mare del governo di da parte di esponenti bravi a farle vittime pronti poi a un atto eroico ma doloroso per risanare ma poi quel lato lo pagano sempre i cittadini appunto e la vicenda delle farmacie è la punta di un iceberg che è stata presa negli anni sotto gamba nonostante le denunce da parte dell'opposizione come ricordava prima sia l'Alanducci che Antonio Miranda nel precedente mandato già dal 2008 noi avevamo presentato e denunciato in questo consiglio la necessità di intervenire altrimenti sarebbe stato un fallimento sicuro o la necessità di andare con denaro pubblico a ripianare le perdite se non si apportavano dei tagli urgenti alla spesa un riordino dei conti e una dismissione del magazzino e questa sinistra non ci ha voluto ascoltare ha fatto passare ben sei anni e così i debiti sono aumentati fino a raggiungere oggi due milioni più altri tre li abbiamo messi durante gli anni siamo a quota cinque milioni di denaro pubblico e partiamo dal punto fermo che chi governa oggi questa città la governava anche quando il debito è stato contratto è stato generato e chiarito questo oggi scopriamo che un sistema di interpretazione dei conti che investe principalmente chi li ha predisposti e soprattutto l'organo di vigilanza che doveva certificarli dovrà avere delle conseguenze ma non siamo noi sicuramente un'aula di tribunale saranno certamente gli organi di giustizia deputati al controllo oggi in futuro a far chiarezza sulle responsabilità ma la responsabilità penale sicuramente è soggettiva ma quella politica no e oggi ci troviamo in una situazione che è a quanto paradossale o imbarazzante per la maggioranza io comprendo anche certe posizioni dove la componente politica responsabile del buco creato oggi è chiamata a ripianarlo però con i soldi dei cittadini e questa è un affacciarsi davanti al territorio davanti ai nostri cittadini in un modo non molto consono vista il clima di antipolitica che si sta vivendo oggigiorno e questi soldi saranno sottratti principalmente dalla spesa corrente per rifinanziare il debito tradotto per ripristinare un pareggio di bilancio comunale bisognerà o creare nuove entrate e l'unico modo che voi conoscete benissimo è quello della tassazione oppure procedere a un taglio dei servizi come la manutenzione delle strade la manutenzione del verde la pulizia della città e il decoro urbano ma come vedete in entrambi i casi chi ci rimette sono sempre i cittadini sestesi sono stati dilapidati quasi 3 milioni di euro negli anni passati dal 2008 ad oggi e oggi siamo poi a ripianarne altre due siamo a quota 5 5 milioni di euro del patrimonio pubblico questi ultimi due saranno recuperati utilizzando il patrimonio aziendale dove verrà prelevato un milione di euro e il patrimonio aziendale di una società municipale sono soldi dei cittadini poi saranno presi altri 500 mila euro dal bilancio comunale del 2013 e anche questi sono soldi dei cittadini ed infine altri 500 mila euro dal bilancio comunale del 2014 e anche questi sono soldi dei cittadini sestesi e pertanto non possiamo che essere contrari al vostro metodo di sovvenzione forzata alla cattiva politica la società di certificazione ha espressamente dichiarato che i conti non sono certi ed i flussi che consentono certificazione dei costi e dei ricavi sono assenti o approssimati non vi è un sistema di presidio dei conti e però il piano industriale per rilanciare l'azienda delle farmacie si basa su conti incerti nasce proprio zocco da un punto di vista di sostenibilità finanziaria taglia sì i costi come dicevamo noi dal 2008 ad oggi ma non dà alcuna prospettiva di rilancio neppure la consapevolezza di poter raggiungere un utile se magari si arriverà al 2016 salvo qualche imprevisto con un minimo utile di 6.000 euro ma non dà la consapevolezza di poter avere un utile un rilancio delle aziende forte per poter andare a ripianare quello che oggi i cittadini se stesi stanno mettendo per l'ennesima volta a sostegno di questo buco io non so se è meglio la toppa o il buco che è stato generato in questo caso però credo che i cittadini la risposta la sappiano grazie grazie consigliere Di Stefano ha chiesto la parola il consigliere Romanierlo con la richiesta di raddoppio dei tempi prego eviterò di farne uso voglio riprendere un po' di concetti che sono stati elaborati questa sera innanzitutto volevo ringraziare due persone in particolare la Miranda che però vedo che non c'è più la Miranda perché comunque al di là del fatto che si può non condividere quello che ho detto bisogna riconoscergli la robustezza dell'intervento quindi non tutto quello che ha detto mi ha persuaso però mi ha persuaso la sua robustezza di contenuti cosa che non ho visto in altri interventi e poi vorrei ringraziare il sindaco il sindaco perché mi ha dato a me ad altri la possibilità di fare questo percorso in commissione per diciamo così traghettare le farmacie perché ricordiamocelo il fatto che abbiamo fatto dodici commissioni non era per nulla scontato il sindaco avrebbe potuto fare le cose in casa presentarci la proposta questa sera senza che ci fosse tutto questo tutto questo percorso che mi ha permesso innanzitutto di conoscere professionisti seri e mi riferisco in particolar modo al dottor Tranchida e al dottor Colasanto e quando parlo di professionisti seri non lo dico tanto per dire lo dico a ragione veduta sono persone che comunque hanno un'esperienza un curriculum di un certo spessore uno di loro si è già occupato e l'ho ricordato più volte all'interno delle commissioni di risanare un'altra struttura pubblica se stese quindi io posso accettare l'attacco politico la derisione politica da parte di Teluni quello che non posso accettare è l'insinuazione l'offesa verso chi viene qui e per due lire per due lire lavora lavora seriamente perché crede in quello che fa perché approvare o non approvare il bilancio di questa sera significa anche mettere in discussione il lavoro di persone che non vengono dal mondo della politica che stanno sul mercato e che si sono fatti un mazzo così per otto mesi quindi ci sta tutto il fatto che dobbiamo guardare al passato perché il passato ci serve per non ripetere gli errori però andare avanti con la testa sempre volta indietro non ci dà un futuro non ci dà una strategia non ci dà una visione perché io anche stasera non ho sentito nessuno di voi dire io delle farmacie avrei fatto così 12 commissioni non mi ricordo quanti consigli comunali ma ci fosse stato uno che avesse detto io la vedo così vuoto un vuoto non bisogna essere dei geni per capire poi che quando in commissione c'è qualcuno che dice che il documento A è diverso dal documento B non bisogna essere dei geni bisogna conoscere un po' di analisi logica poi anche questa sera anche questa sera ho sentito ho sentito una serie una serie di elenchi una serie di elenchi che riportavano cose inesatte io francamente mi sono anche stufato di fare il professore stare lì a puntualizzare perché poi anche stasera abbiamo ripetuto le 20 domande che stiamo ripetendo dalla prima commissione che risale al 19 giugno 2013 sempre le stesse domande con le stesse risposte neanche la fantasia di inventarsi una domanda nuova per Vinci neanche lo sforzo di inventarsi una domanda nuova sempre le stesse e a questo punto e a questo punto devo dire a un certo punto c'è stata una consigliera che ha detto noi ce ne tiriamo fuori e ce ne tiriamo fuori responsabilmente ma noi dei Ponzio Pilato della politica cosa ce ne facciamo ma cosa ce ne facciamo di gente che non ci mette la faccia manco per dire come la pensa cosa serve che venite qui in commissione in consiglio cos'è che ci serve bisogna combattere per quello che si crede bisogna avere una visione una strategia però per combattere bisogna avere delle idee certo che avere delle idee è difficile perché comporta uno sforzo comporta comunque informarsi comporta leggere i documenti è vero che i documenti non sono mai in qualche circostanza non sono arrivati in tempo è vero è vero ne abbiamo fatte 12 di commissioni avete avuto il tempo poi di ritornare sui documenti che avete avuto in ritardo si presentavano con l'elenco delle domande 20 domande 10 delle quali ti accorgevi che se avessero letto le prime tre righe dei documenti che avevano a loro disposizione erano inutili assolutamente inutili quindi questo dilettantismo questo andare allo sbaraglio così non mi convince quindi onore alla Miranda perché va bene ma lui è anche figlio d'arte probabilmente ha vantaggiato rispetto agli altri poi per quello che riguarda la responsabilità è chiaro voglio dire come non si fa a condividere che bisogna perseguire le responsabilità certo che è condivisibile questo 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 concetto nessuno si sottrae a questo poi trovare il tecnicismo giusto francamente io non lo voglio neanche entrare nel merito se dobbiamo andare alla corte dei conti se dobbiamo andare con la fiamma ossidrica se dobbiamo andare da qualche altra parte non lo so io a questo punto gliela lascio volentieri al sindaco questa decisione assolutamente poi bisogna capire quando diciamo perché poi la Miranda ecco una delle cose che non mi ha convinto parlato di responsabilità e ha citato anche a un certo punto i dipendenti quindi quando lui cerca una responsabilità vuol dire che il perimetro delle persone da andare a coinvolgere in questa ricerca sono anche dipendenti non lo so quindi sicuramente le responsabilità se ci sono vanno perseguite con gli strumenti giuridici più adeguati che il nostro ordinamento ci metta a disposizione su questo siamo assolutamente d'accordo poi trovare il modo più idoneo possibile mi sottraggo alla scelta e non ne voglio neanche sapere poi si parlava non voglio entrare nel merito di quello che sarà il futuro dal punto di vista giuridico dell'azienda perché non è oggetto di questa discussione quello che mi preme sottolineare riappropriamoci un po' di serietà perché poi voglio dire sfruttare i momenti istituzionali per fare propaganda lo si può fare ma lo si deve portare avanti con dei contenuti ora noi ci portiamo dietro un passato doloroso che ci ha portato in questi due anni a tenere un po' sempre la faccia ma anche giustamente per certi versi verso il passato però non usiamo questo per portare avanti delle campagne denigratorie o per fare allarmismo o per insinuare perché poi alla fine qui su questi tavoli c'è gente normale noi consiglieri di maggioranza in particolare del PD ci siamo radunati non so quante volte per parlare delle farmacie e lo abbiamo fatto a costo zero a gratis perché crediamo in quello che facciamo adesso mi viene in mente la commissione speciale dove era successo di tutto di più dove ci si è svenati per avere queste registrazioni poi non so quanti sentiamo sull'argomento grazie era sull'argomento per dire evitiamo gli slogan ora anche lì finita la commissione speciale ci fosse stato qualcuno che fosse stato preso dall'ansia di andare a verificare quelle pratiche che non erano state visionate durante la commissione stessa finito il rumore il fumo è finito tutto probabilmente sarà così anche per le farmacie finito diciamo così l'attenzione da parte della stampa da parte di chiunque ritorneremo nei nostri ranghi e occuparci di cose magari anche un po' più noiose io voglio chiudere e parlare ai dipendenti allora i dipendenti durante questo percorso a un certo punto hanno tirato fuori il libro bianco io ho sempre condannato questo modo di porsi perché il dipendente è il primo garante della propria azienda il dipendente che non si riconosce nella propria azienda non è degno di lavorare nella propria azienda e quindi nel momento in cui un dipendente viene a conoscenza di fatti dal punto di vista penale o comunque anomali li deve segnalare non deve aspettare un cambio di contratto per arrivare a portare avanti questo libro bianco quindi io spero che i 32 impiegati e credo gli 8 dirigenti inizino un percorso che nel momento in cui si accorgono che qualcosa non va siano loro stessi i primi a mandare la mail a chi voglia al sindaco ai consiglieri comunali di maggioranza di opposizione a chi vota ma devono essere pronti a stare e sorvegliare su quello che è l'esito dell'azienda su cui lavorano poi comunque abbiamo avuto anche rassicurazioni da parte diciamo così del commissario che però adesso non sarà più commissario che comunque e questo poi spetterà anche a noi consiglieri comunali di fare delle verifiche periodiche rispetto a quello che è il prospetto rispetto a quello che è la diciamo così la previsione che sono stati fatti nei piani industriali quindi da parte nostra massima anche attenzione a che finito il clamore non si lasci le farmacie al loro destino quindi continuiamo a lavorare in maniera diciamo così sistematica e cercando di cogliere quelle che sono sicuramente le criticità ma anche il gran il gran bel lavoro fatto da tre persone che sono finanzi franchida e colasato che sono venuti qui a farsi un culo così per due lire consigliere Romaniello l'ultima frase se la poteva risparmiare grazie allora prima di trattare gli ordini del giorno che sono stati presentati a questa delibera è previsto sarebbe previsto l'intervento dei relatori e dell'amministrazione i relatori volete intervenire consigliere Landucci chi inizia prima consigliere Landucci consigliere rivolta prego consigliere Landucci prego io volevo soltanto concludere dicendo che in questa che tutti noi in realtà naturalmente speriamo che la situazione si risolva e che soprattutto noi non è vero che non abbiamo dato delle proposte le proposte le abbiamo date ne ho parlato ne ho parlato anch'io prima la proposta era di vendere il magazzino quando era possibile di riorganizzare le farmacie quando era possibile adesso per adesso nessuno ha riorganizzato niente per adesso stiamo solo chiudendo il buco quando vedremo cos'è come è chiuso il buco penseremo a cosa fare io per mese ho chiesto di vedere com'era il buco e tutti mi dicevano ma come guardiamo il futuro no prima di guardare il futuro bisogna chiudere le falle che ci stanno portando a fondo quindi io credo che questo sia un compito difficile però credo che in questo momento la maggioranza si prende la responsabilità degli errori che ha commesso nel corso degli anni quindi in questo caso semplicemente certifica di avere sbagliato per anni e prende atto che questi errori purtroppo non li paga la maggioranza ma li pagano i cittadini e questo è molto grave grazie la consigliera Landucci consigliero rivolta no sì solo per dire pochissime cose vista l'ora una è che onestamente trovo che dire che è stato ceduto il magazzino per un tozzo di pane è un po' eccessivo nel senso che il calcolo ci dice che il risparmio che provocherà come dire l'accessione dell'affitto del ramo d'azienda è un risparmio di circa 400.000 euro insomma non è vorrei avere tozzi di pane così la seconda cosa è che per ribadire che sin dalla prima discussione quando abbiamo fatto abbiamo deciso il commissariamento io personalmente sono intervenuto dicendo che la responsabilità era della maggioranza che aveva governato nel mandato precedente e che stava governando questo l'ho detto più volte in tutte in tutte le occasioni in cui mi è capitato di intervenire a proposito delle farmacie quindi insomma continuerò a dirlo e continuerò a sentirmi dire che non non ci assumi che dobbiamo assumerci la responsabilità però insomma l'ho detto è agli atti è registrato è tutto quanto l'ultima cosa è siccome anche questa sera ci è stato detto che siamo complici è un è un'abitudine pace tra l'assunzione di responsabilità e la complicità c'è una bella differenza mi aspetto che gli altri non siano complici e quindi che diano seguito a quello che hanno detto quindi come dire perché se no altrimenti rischiate di rendere dei complici anche voi o forse invece ci si rende conto che tra le dichiarazioni roboanti fatte in commissione in consiglio e poi la realtà e poi l'efficacia effettiva delle cose che si dicono cioè ci sta di mezzo un bello spazio che quindi forse magari prima di dare dei complici alle persone ci si pensa su insomma si usa un po' un po' di buonsenso perché buttare tutto sempre così non mi viene un sinonimo della parola che non voglio usare forse non aiuta non aiuta chi sta lavorando per come dire rilanciare le farmacie e chi dentro le farmacie lavora punto grazie consigliere rivolta a chiusura del dibattito la parola al sindaco prego grazie presidente sarò breve allora con cosa si sancisce con con questo voto si prende atto di un fallimento di un fallimento si è preso atto quasi un anno fa quando si è deciso di commissariare l'azienda questa sera quello che si farà con questo voto è di consentire l'azienda di andare avanti e non di chiudere il giustamente diceva la consigliera Landucci all'inizio anche se un po' polemicamente lo diceva all'inizio della serata facendo riferimento alla relazione del dottor Finazzi la proprietà non è del sindaco è della città dei consiglieri comunali ma come dire nell'abbreviazione del dottor Finazzi ci stava questa questa sintesi non avremmo fatto se così non fossimo stati convinti non avremmo fatto 12 commissioni consigliari che ritengo essere state doverose nel momento in cui si è riconosciuto un fallimento politico e gestionale un anno fa e altrettante se non di più dovremo farle da qui in poi nel proseguo del percorso perché appunto non è che finisce qui la storia qui si consente alle farmacie di non chiudere la crea domani mattina cioè i consiglieri comunali che questa sera voteranno a favore del bilancio delle farmacie comunali del 2012 consentiranno a un patrimonio che è il patrimonio della città di rimanere consolidato consentiranno a 40 famiglie 38 che lavorano all'interno delle farmacie di continuare ad avere un lavoro perché non è detto e non è dato che un'azienda speciale debba essere ripienata nei debiti dell'amministrazione comunale non è dato e non è detto che le persone che poi perdono il lavoro vengono assunte in comune di questo ci deve essere una chiara responsabilità e chiarezza da parte di tutti i consiglieri comunali che questa sera votano quindi ribadisco con questo voto non è che si sancisce il fallimento il fallimento è stato sancito un anno fa quando è stata commissariata l'azienda quando è stato mandato a casa il CDA quando si è messo in mano tutto l'analisi del patrimonio dell'azienda e dei conti nelle mani di una due diligence quando si è mandato tutto alla procura della corte dei conti certo è un atto dovuto assolutamente io lo considero un atto dovuto non sempre così non sempre così non tutte le amministrazioni lo fanno per noi è un atto dovuto discontinuità dove sta la discontinuità nell'azione dell'azione che abbiamo portato avanti in questi mesi sta nel commissariamento è discontinuità sta nell'aver dato in mano tutto una due diligence è discontinuità ne ha dato persino ne ha dato atto persino il consigliere la Miranda nel suo intervento sta anche nel nell'aver dato seguito e coerenza a scelte di politica industriale che erano state indicate in questo consiglio comunale nel 2009 che non erano state portate avanti sta anche nel prospettare un futuro perché io ho sentito parlare molto di passato e non ho sentito parlare di futuro per queste aziende e se noi non credessimo in un futuro che non so se sarà meraviglioso perché poi le situazioni come dire il cambiamento delle leggi le situazioni economiche cambiano una velocità impressionante ma se noi non vedessimo il futuro in questa azienda non avremmo impiegato un anno del nostro tempo e del nostro lavoro per essere qui questa sera e noi il futuro lo vediamo proprio anche non è argomento ovviamente del dibattito di questa sera anche nella trasformazione societaria perché questa azienda così com'è nella sua forma societaria attuale non può fare delle cose non può farne non ne può fare tante poi quando sarà l'occasione ne parleremo vedremo che cosa si può fare con un assetto societario piuttosto che poi si è parlato di assenza di trasparenza si può sempre migliorare per carità però ripeto un percorso portato avanti con i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione ovviamente vuol dire non tutto è sempre condiviso rispetto alle scelte l'onere o l'onore di una maggioranza sta proprio anche come dire di essere propositiva in questo il consigliere Laminanda parlava di responsabilità amministrativa e contabile ecco il luogo per accertare la responsabilità amministrativa e contabile perché di questo stiamo parlando è esattamente il luogo dove noi abbiamo mandato le carte cioè la procura della corte dei conti non solo è anche la sezione di controllo dove noi siamo andati e a seguito della come dire della nostra visita molto istruttiva devo dire che è stata fatta ci sono state fatte richieste di ulteriori documentazioni o meglio di tutte quelle documentazioni che noi abbiamo raccontato nonché delle azioni che abbiamo intrapreso per risanare l'azienda piano industriale zoppo è stato detto un piano industriale zoppo che non che non dà respiro non rilancia un'azienda forte allora il mercato è quello che è stato descritto molto bene dal dottor Colasanto è un mercato peraltro che probabilmente si aprirà ancora di più allora quello che io dico è un piano industriale zoppo quello che prevede che un'azienda possa trasformarsi da azienda speciale in SRL per aprirsi fuori dal territorio per fare servizi anche differenti da quelli che sono la mera vendita dei farmaci è un piano industriale zoppo secondo noi no secondo noi no la SRL per maggiore precisione non è un soggetto privato agisce in regime privatistico ma non è un soggetto privato quindi quando qualcuno parlava di privatizzazioni nel passato parlava di altro non della trasformazione in SRL io voglio ringraziare anche in questo percorso i lavoratori che hanno seguito sempre con grande attenzione tutti i passaggi che sono stati fatti che sono molte volte stati presenti in commissione consigliare sempre anche molti attenti e rispettosi del 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 reciproco ruolo anche negli incontri più caldi che ci sono stati che abbiamo fatto in tre occasioni ed è per questo che ritengo cioè vuol dire è stato non tanto un cambio del contratto di lavoro voglio ricordarlo i lavoratori che che lavorano attualmente nelle farmacie mantengono quel tipo di contratto hanno visto aumentare però due ore in più vedono una rotazione diversa saranno quei nuovi assunti che avranno un contratto di differente ecco quando per cui quando sento dire che nessuna riorganizzazione è stata ancora fatta io lo ritengo anche poco rispettoso nei loro confronti perché comunque sono due ore in più alla settimana che loro mettono a disposizione della comunità c'è una diversa rotazione dell'orario che questo comporta ovviamente anche un minore utilizzo dei gettonisti questo è soltanto sì anche i primi però se non c'è un utile quello però nella riorganizzazione del lavoro mi sembra anche poco rispettoso nei confronti dei lavoratori dice dire che nessuna riorganizzazione è stata fatta ecco che i lavoratori se lo ricordino che i lavoratori se lo ricordino due ore del loro lavoro non appartengono evidentemente alla riorganizzazione dell'azienda non tutti la pensano così io penso che invece sia una parte fondamentale della riorganizzazione dell'azienda ed è anche un segnale che viene dato viene dato alla città viene dato alla città e anche questo su questo credo che i lavoratori ne siano pienamente consapevoli è un segnale che di responsabilità perché la città si fa carico di questo risanamento di questa riorganizzazione a pagare non è soltanto il lavoratore non è soltanto come dire la responsabilità politica a pagare veramente la città sono tutti i cittadini su questo come dire non c'è ombra di dubbio questo quindi deve essere chiaro a tutti a tutti noi e anche ovviamente ai lavoratori ringraziamento permettetemi di farlo al dottor Finazzi che vede terminare in questi giorni la sua il suo ruolo di commissario straordinario il direttore Colasanto e anche il dottor Tranchida che non è qui questa non è qui questa sera ringrazio tutti i consiglieri comunali i gruppi consigliari che vorranno questa sera assumersi la responsabilità di votare il bilancio ripeto con con il respiro che era quello iniziale quello come dire di mettere un punto e di consentire a questa azienda di andare avanti per cui non posso che leggere con grande piacere e ringraziamento la dichiarazione che è stata fatta con anticipo dalla consigliera a Iosa da parte dei giovani sestesi perché questa responsabilità la responsabilità che alcuni si assumeranno probabilmente non tutti è una responsabilità che si esercita con il voto a favore non con il voto contro e non con l'astensione votare contro o astenersi vorrebbe dire sancire definitivamente con questa sera la fine delle farmacie comunali di Sesto San Giovanni e non credo francamente che questa sia la discontinuità grazie grazie al sindaco trattiamo adesso gli ordini del giorno che sono stati presentati il gruppo Sesto nel Cuore ha presentato in ordine del giorno il primo attinente a questa delibera quindi la parola consigliere chi è che lo vuole illustrare consigliere Caponi o la consigliere consigliere Caponi prego sì grazie Presidente il testo è già stato distribuito a tutti i consiglieri immagino quindi mi astengo dall'indicare le premesse cosa cosa riporta sostanzialmente il nostro giorno mi pare di di capire che tutte le forze politiche hanno centrato l'attenzione sul tema dell'azione di responsabilità e di eventualmente trasmettere gli atti alle autorità competenti ecco il nostro ordine del giorno a mio parere è ampio raccoglio tutti gli ordini del giorno presentati alle forze politiche perché non si fa riferimento ad uno specifico elemento oppure a ravvisare un elemento di reato oppure agire nei confronti di qualcuno nominativamente ma soltanto a compiere la stessa scelta che ha portato a trasmettere gli atti alla procura della Corte dei Conti e alla procura della Repubblica nonché a eventualmente predio magari studi di fattibilità anche avviare azioni di responsabilità contro gli organi sociali e altri soggetti responsabili perché noi non siamo in grado e non ci compete neanche dire chi sono i responsabili in primo perché non abbiamo gli elementi per per trovare per avvisare questi elementi di 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 reato se non delle anomalie ma soprattutto perché non siamo in condizioni in grado di indicare chi al momento dobbiamo eventualmente chiamare a rendersi responsabili del dissesto delle farmacie comunali mentre quanto riguarda la richiesta di trasmissione alla procura della Repubblica lo ribadisco e perché dal dibattito politico dalla documentazione trasmessa dalla relazione del direttore sono emerse delle circostanze chiare ovvero che il dissesto è riconducibile ad anni precedenti alla gestione 2012 quindi è evidente che perdere del tempo significherebbe avvantaggiare in questo senso intendevo dire complici i consiglieri di rivolta significa avvantaggiare chi ha commesso qualora ne essero avvisati gli estremi da parte dell'autorità competente e non siamo certamente noi a dover dire chi e che cosa negli elementi di responsabilità sia civile che penale grazie consigliere Caponi su quest'ordine del giorno è previsto possono intervenire un oratore per gruppo quindi chi vuole intervenire pregate di prenotarsi allora pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare sesso nel cuore inizio votazione prego fine votazione consiglieri presenti 22 contrari 15 astenuti nessuno favorevoli 7 il consiglio non approva passiamo al secondo ordine del giorno presentato dal gruppo partito democratico praticamente quasi tutti i gruppi se lo vuole illustrare il consigliere Tremorata prego grazie presidente do una lettura riassuntiva visto l'orario di quest'ordine del giorno esaminata la situazione dell'azienda speciale farmacie comunali condividendo la scelta di inviare alla corte dei conti la documentazione della due diligence si impegna il sindaco ad acquisire motivato parere legale sulla sussistenza di eventuali ipotesi di reato desumibili dai documenti della due diligence si impegna sempre il sindaco a segnalare all'autorità giudiziaria competente eventuali ipotesi di reato che emergessero dall'ulteriore verifica legale ovvero dall'azione esercitata dalla procura della corte dei conti sulla documentazione inviata in buona sostanza si prende quindi atto della situazione economica e gestionale che risulta dalla due diligence e da tutto il lavoro fatto di cui abbiamo parlato questa sera e si dà un chiaro indirizzo politico ad approfondire eventuali responsabilità politico e non tecnico la sostanza è quella di garantire i cittadini di sesto rispetto ad eventuali errori o a dolo ma senza entrare in un dettaglio tecnico che non ci compete come consiglieri comunali nel quale invece a nostro parere entrano gli altri due ordini del giorno rischiando di di esporci a degli errori procedurali quindi la sostanza politica è la stessa il mandato è quello chiaro senza perdere tempo di procedere su quella strada ma non sta a noi come consiglieri comunali indicare la via tecnica legale da prendere grazie grazie su su questo ha chiesto la parola come gruppo il consigliere Capone prego grazie presidente ma mi pare che nell'esposizione del consigliere relatore ci sia un'evidente contraddizione perché non è vero che non espone ad una analisi e a un dettaglio come lei diceva dal punto di vista tecnico per il semplice motivo che nella indicazione si fa riferimento al fatto che il sindaco acquisisca un motivato parere legale prima di tutto non compete ai legali dare ed eventualmente verificare la sostanza di eventuali ipotesi di reato e mi pare che proprio questo elemento contrasti quanto lei ha chiusato nella parte finale dicendo che non compete a noi di avitare delle direttive di carattere tecniche è proprio l'opposto a mio parere quindi non lo comprendo poi quando si dice il sindaco segnalare l'autorità giudiziaria competente eventuali ipotesi di reato il sindaco non è un giudice e credo che sia lontano da tutti noi l'idea del giustizialismo quindi vorrebbe dire che il sindaco abbia dovrebbe avere le competenze per dire quale tipo di reato ravvisa in certi comportamenti questo significa che da un lato vanificare completamente quella che noi intendiamo l'azione di responsabilità nei confronti di chi si è reso responsabile di questo dissesto ma soprattutto visto che il sindaco chiamava il concetto di trasparenza dire che proprio non è trasparente perché questo imbriglia e mette le mani legate al sindaco ma soprattutto a tutta la giunta perché conferisce soltanto il sindaco di poter segnalare qualora ravvisasse delle ipotesi di reato quindi è fortemente riduttiva questa ipotesi io credo che invece se l'intento vostro era quello di dare una ampia panoramica di indagine che non competa a noi non compete ad eventualmente legali incaricati e tanto meno sindaco era molto meglio al nostro ordine del giorno perché è riduttivo rispetto al nostro quindi grazie consigliere Caponi se non ci sono interventi lo mettiamo ha chiesto la parola il consigliere mi accorgo la risposta allora intanto non si può leggere l'ordine del giorno fermandosi a una riga e non seguire quelle dopo quindi per esempio il sindaco segnala l'autorità giudiziaria competente eventuali ipotesi di reato ma poi va a capo che emergessero dall'ulteriore verifica eccetera eccetera quindi cioè non è che lo decide il sindaco se c'è un reato o no invece la parte precedente dell'impegno è ad acquisire un motivato parere legale proprio nel senso che siccome noi siamo in grado tecnicamente di adentrarci in una materia spinosa è il legale che sarà un tecnico competente in materia giuridica che saprà quale strada è meglio percorrere più opportuno percorrere in questo senso il mandato è politico e non tecnico cioè non che viene deciso nei dettagli questa sera grazie si è chiesto la parola il gruppo popolo della libertà consigliere di Stefano grazie presidente no mi sembra una contraddizione questo questo ordine del giorno nel senso che una contraddizione rispetto all'atteggiamento avuto dalla dall'amministrazione perché per fare un esposto alla corte dei conti non è stato chiesto nessun parere a un legale mentre per fare un esposto alla procura della repubblica volete chiedere un parere a un avvocato pertanto due pesi due misure non hanno senso da questo punto di vista o manteniamo la legittimità del metodo e entrambi entrambi gli esposti vengono fatti dalla proprietà e quindi il consiglio comunale è sovrano oppure non ha senso adottare due metodi sul medesimo problema grazie grazie consigliere ha chiesto la parola il gruppo verso sesto consigliere De Noia prego allora innanzitutto c'è o la trasmissione dei documenti alla corte dei conti è una cosa dovuta o non è una cosa dovuta in questo caso sono stati trasmessi i documenti alla corte dei conti si assume si chiede al sindaco di acquisire un parere legale dopodiché se ci sono se ci sono eventuali ipotesi di reato desumili dei documenti della due di inges come c'è scritto dopodiché quella cosa lì serve per fare ulteriori azioni che varra giusto? è questa meno male che l'avevo capito bene io quindi io sinceramente dato l'orario mentre mi ha discututo ancora di questa cosa qui mi sembra abbastanza chiaro qual è qual è qual è l'orientamento e quello di rafforzare quell'azione che si diceva prima gruppo movimento cinque stelle la consigliera franciosi prego grazie presidente allora noi abbiamo firmato questo e gli altri ordini del giorno perché riteniamo che un'azione di tipo legale o quantomeno un esposto chiamatelo come volete voi una denuncia un atto dovuto di responsabilità debba essere fatto per cui basta che lo facciate ma fatelo l'unica cosa secondo me che credo volessero segnalare è il fatto che come fa il sindaco magari lo sa ma come fa lei a prendersi la responsabilità di caricarsi cioè di decidere se un reato cioè se una cosa segnalata da un legale può essere un reato oppure no non è il suo non credo cioè non è il suo compito fatelo e basta cioè è un esposto non dovete fare una denuncia una denuncia poi ci apre a una controquerela nel caso in cui non ci siano i reati fate l'esposto l'esposto è una cosa che non impegna niente comunque indipendentemente dalla votazione l'importante è che lo facciate grazie grazie se non ci sono più interventi consigliere di Teferrante lei non può intervenire il suo gruppo ha già parlato ah è per gruppo va bene se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione l'ordine del giorno numero 2 inizia votazione prego stiamo votando il secondo ordine del giorno presentato dal gruppo PD fine votazione ed altre fine votazione consiglieri presenti 22 contrario nessuno astenuti 4 favorevoli 18 il consiglio approva l'ultimo ordine del giorno voglio fare una precisazione ho visto che ho visto che presentato dal gruppo PDL giornalista stese Movimento 5 Stelle fa riferimento a delle persone quindi sarebbe opportuno di non menzionarle nei vari interventi che facciamo altrimenti dovrei chiedere la parte del consiglio segretario quindi andiamo avanti così la parola consigliere Landucci per illustrarlo grazie il nostro ordine del giorno va nella stessa direzione di quello presentato dalla lista sesto nel cuore e io credo in realtà anche di quello presentato della maggioranza solo che quello della maggioranza io prima non ho parlato però è evidente che è inutile nel senso che se c'è un'eventuale ipotesi di reato il sindaco che è un pubblico ufficiale è obbligato a pubblicare e che lo può impegnare cioè è quella la differenza sostanziale cioè noi diciamo di fare un esposto a prescindere dall'ipotesi di reato ma se il sindaco si vedeva un'ipotesi di reato e non lo fa è passibile di lei di un'accusa penale di omissione di dati di ufficio lei è un pubblico ufficiale cioè il privato cittadino può non fare denunce tutti siamo pubblici ufficiali tutti consigli per questo noi abbiamo presentato un altro ordine del giorno in cui si dice di fare un esposto l'esposto qualora perché per dare la possibilità alla magistratura di indagare perché per adesso non ci sono se ci fosse l'ipotesi di reato non si porrebbe il problema la denuncia sarebbe obbligatoria da parte di tutti i pubblici ufficiali quindi ho capito che la maggioranza ha cercato di costruire un ordine del giorno anche lei perché non si poteva non fare e dirà l'hanno approvato il nostro ma è un ordine del giorno ridicolo ridicolo proprio per questo motivo perché l'ipotesi di reato l'ho capito consigliere Antonioli che lei vuole solo andare dai suoi col fogliettino a dire abbiamo fatto l'ordine del giorno ma chiariamo io 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 devo dire qui e lasciare che il vostro ordine del giorno è fasullo perché il sindaco se avesse un'ipotesi di reato non è impegnato è obbligato a fare la denuncia è obbligato a prescindere dall'astuto ordine del giorno con prima firma Antonioli e mi scusi io ho 5 minuti e se continuo li piglio tutti se invece la pianta la pianto anch'io quindi veda un po' lei veda un po' lei consigliere Antonioli dopo c'è la facoltà per intervenire quindi è chiaro che i nostri gli ordini del giorno dell'opposizione sono gli unici che possono impegnare il sindaco a fare qualcosa che non è obbligato lo so che non lo voterete perché voi non votate a prescindere e comunque è chiaro che qui nessuno sta presentando l'esposto per motivi che non si capiscono e non sono trasparenti mi spiace per il consigliere rivolta non sono trasparenti perché altrimenti avreste dovuto essere i primi a chiedere per motivi non trasparenti voi non volete fare l'esposto alla procura è evidente che sembra dall'esterno sembra che ne abbiate paura poi non sarà vero che ne abbiate che ne avete paura però dall'esterno sembra così l'impressione è questa quindi voi non lo farete vedremo se riusciremo a farlo noi perché naturalmente non è facile avere gli stessi strumenti della maggioranza perché voi potete utilizzare per fare le vostre cose 500 dipendenti comunali non è la stessa cosa che non avere non è la stessa cosa perché muoversi con alle spalle la struttura è molto più facile che muoversi non avendo alle spalle nessuno quindi noi vedremo se lo facciamo voi comunque sembra che vogliate non farlo non farlo contro gli organi sociali che hanno portato a questa perdita non votatelo e diamo l'impressione alla città come credo che potremo fare un comunicato stampa in cui sarà evidente che la maggioranza non vuole fare l'esposto alla procura e si limita a suggerire è quello che è già obbligatorio e che quindi non si può non fare perché altrimenti il sindaco correrebbe grossi rischi personali di carattere penale quindi da questo punto di vista è una scelta veramente incomprensibile grazie volevo ricordare che l'obbligo come ce l'ha il sindaco ce l'abbiamo tutti noi consiglieri quindi sia la minoranza che la maggioranza la parola al consigliere nostro prego sì grazie mi ferma quando vuole presidente non è sull'emendamento è solo perché ho sentito una frase che mi ha dato un pellino fastidio chiedo scusa scusi è un ordine del giorno sì però è inerente dura due secondi questa frase giuro è stato detto la maggioranza usa 500 dipendenti comunali al limite chiede aiuto chiede alla collaborazione usa mi sembra un po' da oggetto ecco era semplicemente questo mi è sembrata brutta chiedo scusa gruppo PD consigliere tremolata prego sì ritorno su quello che affermavo già precedentemente siccome non abbiamo delle competenze tecniche c'è difficile entrare nei dettagli di tecnicismi infatti io non trovo né nel vostro ordine del giorno né anche in quello di sesto nel cuore la parola è esposto cioè voi ci state dicendo che chiedete è esposto ma la parola è esposto non c'è scritta da nessuna parte forse sbaglio io però siccome non sono un avvocato è evidente che forse è meglio che noi chiediamo il parere di un legale dopodiché se il legale dirà al sindaco attenzione secondo me c'è un'ipotesi di reato il sindaco avrà il dovere è vero di andare avanti nell'azione ma se il parere al legale non lo chiediamo mettiamo la testa sotto la sabbia il sindaco non sa niente e siamo tutti formalmente a posto quindi il nostro ordine del giorno ha un valore per impreciso mentre il vostro il valore che gli date non lo trovo il fatto che riprendo quello che diceva il consigliere Monsa si ritenga che noi di qua abbiamo a disposizione 500 dipendenti comunali assolutamente inaccettabili i dipendenti comunali sono a servizio della città sono a servizio nostro come vostro come nostro noi non abbiamo nessun diritto di fare uso dei dipendenti comunali c'è un'assoluta imparzialità della macchina comunale quindi su questo direi che è assolutamente inaccettabile grazie ha chiesto la parola il gruppo sesta nel cuore consigliere Caponi prego grazie dunque il suo intervento ho proprio chiarito cosa intendevo dire prima innanzitutto noi abbiamo indicato abbiamo usato il verbo trasmettere che è ampio non è denunciare o querelare e trasmettere gli atti quindi esporre una situazione ma soprattutto io mi domando sulla base dell'ordine del giorno che voi avete approvato come maggioranza impegnando il sindaco la persona del sindaco ad trasmettere gli atti o comunque segnalare la procura qualora ravvisasse elementi di reato e credo che volesse dire questo la consigliere Landucci qualora non lo facesse il sindaco e venisse fatto da altre forze politiche e il giudice rapisasse degli elementi di reato in tutta la vicenda il sindaco non l'avrebbe fatto quindi voi con questo ordine il giorno quando dicevo che avete messo le briglie e avete messo in croce il sindaco lo dicevo in questo senso perché è ovvio che qualcuno farà l'esposto ma se non lo fa per il primo sindaco lo facciamo noi e il giudice avvia un'azione penale e lei che fate rispondere non voi lei mi risponderà perché voi avete detto nell'ordine del giorno che impegnate il sindaco qualora venga a conoscenza dei elementi di reato secondo me ripeto il vostro è tecnicismo è tatticismo perché pensate che sempre ci sono trannelli politici a me non sembra che abbiamo presentato un trannello politico perché non abbiamo detto nei confronti di qualcuno o contro chi abbiamo detto soltanto trasmettere gli atti voi avete deciso di fare un favore al sindaco perché secondo me veramente l'avete messo in croce perché nel momento in cui non farà nulla e venissero avvisati il sindaco vorrà dire che ne risponderà a me spiace perché non era certo questo il nostro scopo il nostro scopo era la trasparenza di trasmettere come abbiamo detto gli atti in maniera neutra alla procura trasmettere gli atti punto voi avete approvato un ordine del giorno ben diverso centrando l'attenzione sulla persona del sindaco è vero che siamo tutti pubblici ufficiali quindi sulla base della sua affermazione vuol dire che ognuno di noi sarà chiamato a rispondere qualora non trasmette gli atti della procura della repubblica se il giudice dovesse avvisare in seguito degli elementi dei reati secondo me veramente state facendo una gran confusione e state pensando che dietro ogni intervento ci sia un tranello politico a me non pare che sia proprio così grazie se non ci sono interventi mettiamo in votazione l'ordine del giorno numero 3 non ci sono interventi prego inizia votazione fine votazione consiglieri presenti 22 contrari 14 astenuti nessuno favorevoli 8 il consiglio approva no scusi il consiglio non approva allora andiamo subito con la dichiarazione di voto sulla delibera iniziando dal gruppo giovani se stesse la consigliera Iosa prego favorevole grazie federazione della sinistra consigliere Foggetta favorevole grazie sinistra ecologia libertà consigliere Nossa sì la dichiarazione di voto la dichiarazione di voto è sul consuntivo 2012 del bilancio delle farmacie perché ho sentito parlare di piano industriale proiezioni in futuro però il mio intervento così come il mio voto e la mia dichiarazione di voto sarà sul consuntivo 2012 che era l'oggetto della delibera dunque innanzitutto non è da me però mi piace veramente ringraziare il commissario signor Finazzi l'unica persona che che ringrazio non perché gli altri non lo meritano ma perché secondo me è da ringraziare e non è un ringraziamento di facciata il nostro o il mio in questo caso ma anzi come se l'abbiamo sempre apprezzato in questi mesi di commissariamento dell'azienda la sua onestà se mi permettete la sua passione anche la sua sottile ironia perché le commissioni tantissime che abbiamo fatte me piacevano molto anche perché vi era la sua presenza che era carina grazie sinistra ecologia e libertà pur non avendo mai avuto propri componenti all'interno del consiglio dell'amministrazione dell'azienda ha sempre seguito con grande attenzione la vita delle farmacie comunali e da anni pone con forza l'obiettivo del risanamento dell'azienda una posizione tanto convinta da averci portato ad astenerci sul bilancio consuntivo del 2011 l'ultimo approvato dal consiglio comunale 16 mesi fa circa esattamente per la ragione che in un quadro di debolezza complessiva di progressivo indebitamento di importanti sborsi in termini di interessi passivi eccetera il cda evitava platialmente di realizzare quanto già deciso dal consiglio comunale a partire dalla cessione del ramo d'azienda magazzino di vendita all'ingrosso mi sembra nel 2009 questo le nostre analisi purtroppo si sono poi avverate con una gravità tale da far aprire gli occhi a tutte le forze politiche se stesi come salvare questa azienda secondo noi ricontrattazione di alcuni appalti vedi pulizia trasporto medicinali altro taglio drastico delle consulenze presidio differenziato da punto a punto vendita rimodulazione dell'orario del personale altre operazioni già messe in atto da chi sta gestendo l'azienda in questo difficile momento dicevamo questo e il nuovo direttore insieme ai suoi collaboratori sta mettendo in alto questo aspetto del piano industriale che sicuramente per il futuro è positivo però parlo di futuro noi qui stiamo discutendo invece votando il bilancio consuntivo della 2012 che è una delibera più tecnica se mi consentite che politica non essendo un previsionale l'azienda è obberata dai debiti e può risollevarsi solo con una straordinaria prova di orgoglio che porti la proprietà cioè il comune e di conseguenza i cittadini sestesi a valorizzare ogni possibile razionalizzazione della spesa quanto intravisto dal pi piano industriale va in questa direzione meglio tardi che mai si doveva si deve cercare ogni possibile sinergia con le altre aziende farmacie comunali della lombardia tutte in condizioni di salute migliore della nostra lavoratori si sono impegnati estremamente in un'impresa estremamente impegnativa mettendo in campo tutta la loro professionalità lavoratori che da subito hanno manifestato il loro attaccamento all'azienda e alla città aumentandosi l'orario lavorativo a parità di stipendio e congelando i premi aziendali pur non avendo nessuna colpa di questa deriva dell'azienda ripartiamo da queste certezze ripartiamo dai e con i lavoratori da questo piano industriale che sotto il punto di vista dei costi sicuramente è competitivo e noi non ci asterremo su questa delibera noi ci asterremo su questa delibera per quanto detto ora e nell'intervento precedente di inizio serata grazie grazie al consigliere Nossa gruppo ministro consigliere Landucci prego il mio voto sarà contrario per tre motivi fondamentali che ho detto la relazione delle revisione dei conti che non è accettabile così com'è e l'insistenza della maggioranza a rifiutare ogni discorso di responsabilità degli amministratori passati trovo la cosa assolutamente incomprensibile e come dire molto inquietante e quindi questo non fa sì che il nostro voto sia assolutamente contrario grazie alla consigliera Landucci gruppo movimento 5 stelle la consigliera franciosi prego grazie presidente allora io tendenzialmente evito di rispondere alle provocazioni in consiglio comunale perché le ritengo parte del della dialettica politica però stasera mi sento di volerlo fare e mi riferisco al suo intervento consigliere rivolta io non ho capito a quali conflitti di interessi si riferiva riferiti a me perché non credo di averne poi probabilmente ho interpretato male il suo intervento ma di conflitti di interessi io in questa storia non ne ho prima cosa l'altra questione i miei quesiti dell'intervento non erano quesiti che richiedevano spiegazione da commissione erano semplicemente parte del mio discorso avrei la prossima volta non mi faccio più col punto di domanda finale metto il punto e cambierò intonazione ma non erano domande erano domande implicite che implicitamente mi davano risposta per quanto riguarda invece il salvatore della patria la miranda il mio intervento io l'avevo scritto oggi pomeriggio ben prima che la miranda venisse l'avrei letto e e discusso esattamente come ho fatto indipendentemente dal fatto che la miranda venisse in consiglio oppure no detto questo in settembre dopo aver appreso del risultato della due diligence abbiamo pubblicamente espresso il nostro parere con un comunicato stampa già allora chiedevamo che per una volta pagassero coloro che hanno sbagliato amministratori e politici con un'azione di responsabilità nei confronti del cda del presidente e di dirigenti dell'azienda e le scuse di sindaco ed ex sindaco ai sestesi la decisione di non procedere allora e forse di farlo adesso è squisitamente politica come già allora mi era stato detto vi avevamo chiesto di non far pagare né ai cittadini né ai lavoratori questo sfacelo ovviamente avete preferito altre strade che per noi non erano percorribili non vi abbiamo appoggiato in passato questo percorso non lo faremo certamente stasera e ci prendiamo la responsabilità sindaco di far perdere il lavoro ai lavoratori se il nostro voto negativo implica questo grazie grazie gruppo popolo della libertà e consigliere di stefano voto contrario grazie gruppo verso sesto consigliere de noia grazie presidente prima un piccolo risposto a quello che diceva prima al consigliere renducci non c'è nessuna non mi chiamo fuori da niente io ho detto prima che collaboravo con quelle persone sono in fila come tutti gli altri mi sento responsabile politicamente quanto gli altri anche quelli che c'erano prima dopo di che vado a leggere il mio intervento per la dichiarazione di voto come avevo preannunciato prima il bilancio che siamo chiamati in quest'avola a votare è altra cosa rispetto a quelli passati è altra cosa certamente per l'importanza e la gravità dei numeri una perdita nel conto economico di quasi due milioni di euro che praticamente polverizza il capitale sociale ma soprattutto questo bilancio è cosa diversa per come la gestione commissariale diretta emanazione del sindaco e della maggioranza ha inteso scriverlo attraverso un'operazione verità unica e consentitemi di dire anche assai rara per questo ringraziamo il sindaco per il suo coraggio per la trasparenza dimostrata e di questo ne siamo sicuri in futuro la ringrazieranno anche i cittadini una scelta importante è ancora più importante per la scelta di fare una diagnosi accurata dei conti tramite l'utilizzo della due diligence volendo sapere in modo preciso dettagliato e puntuale quale fosse lo stato gravissimo di salute dell'azienda un'azienda ammortoriata da gestioni quantomeno discutibili anche se altri giudizi li lasciamo alle autorità che spero speriamo vivamente possano presto ammesso che ve ne siano i presupposti fare chiarezza sull'intera vicenda il bilancio che siamo chiamati ad approvare mette un punto fermo sulla questione delle farmacie ed aiuta a ripartire dando un riferimento chiaro anche se grave alla strada intrapresa del risanamento e laminata la sopravvalutazione del magazzino si riscrive la perdita grazie alla riscrittura di questi numeri il commissario dottor luca finanzi a cui esprimiamo la nostra gratitudine per la strada intrapresa ha già iniziato a mettere in fila tutta una serie di strategie virtuose che sono state ricordate più volte questa sera durante la discussione azioni come l'affitto nel magazzino la modifica difficile del contratto con i dipendenti perché è chiaro che la contrattazione con i dipendenti sindacati non è mai cosa semplice soprattutto quando possibilmente va purtroppo a penalizzare il contratto l'uso della tagliola per quanto riguarda le consulenze esterne e il mancato rimpiazzo di unità di organico oltre che come abbiamo visto ultimamente la rinegoziazione delle spese per i servizi e fino ad arrivare all'inaugurazione della nuova farmacia della peluca tutto questo e voglio ricordarlo è stato possibile anche grazie al forte senso di responsabilità dei lavoratori che ringrazio anche per i loro sacrifici e voglio dire loro che sicuramente c'è molta strada da fare e molto riusciremo a fare insieme si è trattato di un percorso difficile e sicuramente impervio su cui le forze politiche di maggioranza e a quanto pare abbiamo appreso stasera anche alcune forze di minoranza hanno dimostrato grande responsabilità e un forte senso delle istituzioni permettetemi però di esprimere il nostro forte disagio perché stasera è venuto a mancare quella che noi chiamiamo collegialità della maggioranza avremmo potuto comprendere questo se avesse riguardato semplicemente l'altra delibera quella sulla possibilità di inserire a statuto la figura dell'amministratore unico certamente non possiamo accettarlo signor sindaco rispetto a questa azione che ha caratterizzato l'impegno della coalizione di governo verso sesto voterà a favore di questa delibera ma sicuramente con una riserva di chiarimento in sede politica grazie al consigliere de noia gruppo sesto nel cuore consigliere capone grazie presidente ma io tutti questi ringraziamenti in una serata simile ritro un po fuori luogo se penso ai cittadini a cosa dovranno andare incontro comunque consigliere foggette si relegrava che 60 anni di attività delle farmacie non siano stati distrutti da cinque anni di cattiva gestione io mi rallegro dal fatto che il suo partito non nomine altri amministratori negli enti pubblici perché mi pare che alcuni suoi rappresentanti si siano protagonisti di questo dissesto e trova anche fuori luogo imputare la minoranza il mancato voto favorevole tranne l'eccezione dei giovani sestesi per la salvaguarda dei posti di lavoro io credo che un forte senso di responsabilità da parte nostra nel salvaguardare i posti di lavoro l'abbiamo dimostrato fin dall'inizio perché avremmo potuto prendere iniziative ben diverse invece ci siamo affiancati alla maggioranza sindaco nel cercare di riportare calma e trovare delle soluzioni e credo che questo debba essere riconosciuto quindi non credo che votare favorevole a questa delibera significhi mostrare senso di responsabilità un conto è aiutare la maggioranza e aiutare comunque un percorso che porti a salvaguardare i posti di lavoro a salvare le farmacie comunali e il loro ruolo nella nostra città un conto sono le responsabilità politiche che devono essere ben chiare e che certamente non verranno da noi supportate e ne sopportate con un voto favorevole quindi il nostro sarà un voto contrario grazie consigliere Caponi gruppo partito democratico dichiarazione di voto consigliere Antonioli prego grazie signor presidente a nove mesi dalla decisione di commissariare l'azienda speciale farmacie comunali con molta calma e con molta responsabilità con il voto di questa sera sul conto consuntivo 2012 si chiude una fase lunga e difficile è stata la fase dei primi interventi correttivi con il taglio delle consenze inutili con la modifica del contratto di lavoro con l'affitto del magazzino centrale tutti interventi che hanno fatto recuperare risorse ed i quali speriamo di vedere i risultati già con il consuntivo 2013 si è trattato di interventi rapidi e coraggiosi che hanno preso il toro per le corna dopo che la due diligence aveva fatto chiarezza sulla situazione aziendale sia sul lato dei conti che di quello dell'organizzazione intera il bilancio 2012 è un capitolo chiuso è stato rifatto dopo che la due diligence ed ha registrato sì la perdita della gestione annuale che il disavanzo provocato dalla sopravvalutazione del magazzino una scelta profondamente sbagliata che mi riempie di sdegno ora occorre procedere prendere scusate ora occorre prendere atto dei numeri coprire la perdita con le risorse del comune per garantire un futuro sia all'azienda che è un patrimonio della città sia alle persone che ci lavorano coperta la perdita sarà necessario andare avanti nella riorganizzazione dell'azienda nella sua trasformazione per renderla sempre più efficace ed adeguata per far diventare le 10 farmacie luogo di erogazione dei servizi sociosanitari e presidio territoriale nei diversi quartieri della città pur non essendo una situazione facile rivendico con orgoglio la decisione del sindaco e della maggioranza di fare chiarezza e pulizia e di affrontare la crisi delle farmacie in modo trasparente si è trattato di una scelta coraggiosa che ha cominciato a dare i suoi frutti anche per questo è motivo il mio voto personale è un voto favorevole e anche quello del Partito Democratico grazie grazie alla consigliera Antonioli quindi adesso sottopongo a votazione la delibera di approvazione del bilancio d'esercizio farmacia comunale 2012 con il piano di perdite e ricostituzione del fondo di dotazione inizio votazione prego fine votazione consiglieri presenti al voto 22 contrari 6 astenuti 1 favorevole 15 il consiglio approva per questa delibera è prevista la seconda votazione per la per l'immediata eseguibilità quindi iniziamo la seconda votazione fine votazione fine votazione consiglieri presenti 22 contrari 6 astenuti nessuno favorevole 16 il consiglio approva quindi passi procediamo con l'ultimo quinto punto dell'ordine del giorno penultimo sì perché c'è l'approvazione azienda speciale farmacia comunale di San San Giovanni modifica lo statuto agli atti risultano ancora come relatore di commissione consigliere rivolta e la consigliera Landucci inizia il consigliere rivolta grazie presidente al volissimo è la variazione che permette di che aggiunge alla come dire possibilità di avere un consiglio di amministrazione un amministratore unico per governare le farmacie è un'opzione in più è comunque non è prevista alcuna remunerazione per l'amministratore unico e quindi è una variazione dello statuto basta semplicemente questo commissione su questo non è successo nulla mi sembra di ricordare la parola consigliere Landucci prego il vero problema che noi dell'opposizione ci facciamo è che però forse il segretario ci può dare dei chiarimenti è che nello statuto del comune si dice che le società partecipate hanno un CDA composto da tre o cinque membri e non so se è possibile modificare lo statuto dell'azienda senza modificare lo statuto del comune quindi questo è molto peggio che una partecipata è addirittura parte del comune medesimo quindi non so secondo noi è una cosa fatta molto affrettatamente cioè per cercare di arrivare alle scadenze che la maggioranza si è data e che alle quali non arrivava con il commissariamento del dottor Finazzi quindi questo è sicuramente perché da quello che abbiamo tutti capito ci dovrebbe essere questa nomina di questo commissario che dopo 20 giorni muore insieme con l'azienda speciale cioè muore nel senso muore dal punto di vista della carica quindi mi sembra che come dire c'è una una corsa ad arrivare a cambiare la seconda modifica che facciamo all'ultimo minuto dell'ultimo secondo cioè non è un buon viatico di partenza le cose fatte troppo in fretta troppo poco pensate secondo me forse avevano ragione mi sembra il Movimento 5 Stelle quando anni fa facciamo subito questa modifica no? l'anno scorso invece abbiamo fatto prima un commissariamento di sei mesi poi non è bastato allora un'altra modifica lo statuto per un altro commissariamento per tre mesi insomma capito forse bisogna cercare di costruire un percorso ho capito che sono questioni formali però a volte la forma fa anche il contenuto ecco si risponde il segretario generale grazie spero di essere sufficientemente lucida come ho detto in commissione nell'ambito dello statuto del comune ci sono diverse norme alcune norme che hanno valenza ricognitiva altre norme che hanno valenza costitutiva sulla base delle competenze dell'ente a deliberare all'interno di un atto normativo nell'ambito dello statuto in particolare l'articolo 114 del testo unico prevede appunto la definizione di modalità di nomina e revoca degli amministratori quindi questa modalità di nomina e revoca non è stata modificata peraltro di per sé questa stessa modalità di nomina e revoca è stata letta evolutivamente dall'ente alla luce dei principi sopravvenuti a livello nazionale per cui si procede attraverso un avviso pubblico sulla base degli indirizzi deliberati dal consiglio a inizio mandato questo nel senso quindi alcune norme all'interno dello statuto sono norme un po' ricognitive di quello che si è deciso all'interno di altri atti tant'è vero che in occasione della seduta della prima seduta di commissione della prima commissione sulla modifica dello statuto comunale ho fatto presente che non era detto che se ci fossero state da qui all'approvazione definitiva degli altri sedi nelle quali si decidevano delle modifiche debite si potesse recepire all'interno dello statuto per quell'occasione eventuale modifica intervenuta si parlava soltanto di questa tematica di competenza dello statuto giusto non so se ci sono delle altre domande su questa è possibile ho detto ho detto che ciascuna sede ha le sue competenze nel senso che all'interno dello statuto l'ente definisce modalità di nomina e revoca degli amministratori questo dice l'articolo 114 rubricato aziende speciali scusi si nel senso che l'articolo 114 rubrica aziende speciali istruzioni prevede che lo statuto dell'ente locale definisca modalità di nomina e revoca degli amministratori e quindi sicuramente laddove lo statuto dell'ente locale definisce certe modalità di nomina ammesso che peraltro i vecchi statuti le abbiano a norma nazionale quelle non possono essere diversamente modificate ma lo statuto potrebbe contenere dentro anche delle altre discipline che di per se stesse non avrebbero sede nello statuto del comune ma magari in quello dell'azienda non so se ho no non so non so se riesco ulteriormente nel senso di dire dov'è che lo statuto del comune non può essere modificato da norme diverse da quelle statutarie laddove lo statuto definisce delle cose che devono per forza essere definite nello statuto cos'è che deve essere per forza definito nello statuto a norma del testo unico lo statuto rispetto alle aziende speciali deve disciplinare modalità di nomina e revoca degli amministratori ok questa è la tematica per cui sicuramente quelle modalità se si decidessero diverse modalità di nomina e revoca sicuramente quelle non potrebbero essere modificate se non all'interno dello statuto del comune le altre modalità sono stabilite all'interno dello statuto dell'azienda si allora ok allora qua c'è una disquisizione che a me piacerebbe tanto ma forse vanoierebbe l'ora e anche tardi nel senso che il carattere sovraordinato cioè a parità di competenza a parità di competenza è sovraordinato prevale a parità di competenza prevale la norma successiva nel tempo ma noi stiamo parlando appunto di competenza dov'è che vanno disciplinate alcune materie secondo il testo unico l'azienda speciale trova disciplina nel suo statuto eccezione fatta per le modalità di nomina e di revoca degli amministratori se stasera in consiglio comunale si modificasse lo statuto dell'azienda modificando modalità di nomina e revoca così come definite nello statuto dell'ente locale non si potrebbe procedere se non prima modificando lo statuto dell'ente locale non so come io le ho risposto però mi spiace che non si riuscita a spiegarlo però facciamo tutto allora nello statuto del dico di più no scusate perché magari cioè ripeto allora lo statuto del comune disciplina tante cose in particolar modo non in questo caso tecnicamente che non si parla neanche di partecipata perché un altro non è una società partecipata è un'azienda speciale che è un ente di diritto pubblico con una disciplina particolare perché non è neanche una partecipata tutur lo statuto del comune disciplina tanti soggetti comprese le aziende speciali comprese le istituzioni con riferimento alle aziende speciali si sta intervenendo sulla figura del CDA aggiungendo l'ipotesi del CDA l'ipotesi dell'amministratore unico leggendo le norme degli ultimi tempi che riguardano le società partecipate nelle quali si è riconosciuta la possibilità di nominare un amministratore unico e di conseguenza in altri enti si è recepito questo tipo di orientamento anche nelle aziende speciali questo tipo di ragionamento solo per spiegare che in realtà lo statuto parla delle società partecipate delle aziende partecipate ma l'azienda speciale non è una società solo come precitazione che però non risolve il suo dubbio come dire posto che il nostro statuto prevede questo perché possiamo modificare questa cosa con lo statuto dell'azienda speciale perché lo statuto è vincolante rispetto alle materie che possono essere disciplinate solo nello statuto del comune e vincolanti sono le discipline su nomine revoca degli amministratori io mi spiace ma non riesco in questo momento a dire cioè non sul tipo di amministratori ma sul modo sì è chiaro no? io posso andiamo avanti non adesso estremizzando il concetto faccio un esempio se nell'ambito dello statuto si viene si viene a disciplinare un qualcosa che a norma di legge deve essere regolamentata all'interno del regolamento di organizzazione c'è di fatto una sede non corretta no la norma di legge lascio perdere il potere poi della norma del testo unico dopo la riforma del titolo quinto nel senso che poi il legislatore nazionale cioè magari l'ora però per dire che se io leggo dico e c'è una proposta deliberativa e se ce la delibera è giusto è questa la sede è chiaro va bene va bene no no non volevo adesso non no no non userei il consigliere Landucci ha chiesto allora mi risulta che ha chiesto la parola la consigliera Iosa apriamo il dibattito sì grazie presidente mi scusi in maniera molto più grezza di quella espressa dalla dottoressa di Girolamo penso che se si ricorda in commissione le avevo fatto questa domanda nel senso che siccome parlavamo già della delibera dove della delibera di stasera dove veniva preventivata la possibilità dell'inserimento dell'amministratore unico le avevo chiesto detta in soldoni tra no tra come si chiama tra lo statuto comunale e lo statuto delle farmacie chi vince brutalmente quindi uno statuto più piccolo come quello delle farmacie può aggiungere una cosa che non c'è nello statuto più grande che quello comunale e lei se ho capito bene mi ha risposto se come stiamo modificando altri articoli in base alle esigenze che sono venute fuori nel tempo se il consiglio comunale prenderà in considerazione la possibilità di inserire l'amministratore unico questa roba qua si può fare poi mi correga se ho capito male no io confermo quello che ho detto prima non riuscire a ripeterlo adesso scusate no 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 volevo no no però quello che sta dicendo lei no quello che sta dicendo lei è vero nel senso di dire per un discorso poi di coerenza indipendentemente dal fatto che la disciplina è stata adottata nella sede deputata non escluso per evitare che lo statuto si svuoti lo statuto che nell'ambito dello statuto si possa anche prendere atto di decisioni che sono state assunte fino a quella data è quello che stavo che ho cercato di dire per dire siccome non si vuole far sì che lo statuto si svuoti al di là del fatto che si decida in altre sedi a quel punto eh lo so però lo statuto scusate lo statuto ha dentro gli statuti comunali hanno dentro tantissime cose che non è detto che debbano essere disciplinate in quella sede così come magari non altre cose però sono quelli vigenti insomma comunque va bene sì io su questa delibera c'è parere sulla regolarità tecnica quindi c'è un parere del direttore del settore a fare istituzione alle gare dottoressa Gabriele di Girolamo con il direttore la dottoressa sorsetti quindi consigliere io prego vado avanti volevo finire l'intervento allora partendo dal fatto che questa delibera introduce una possibilità in più nel senso che o uno o tre o cinque e il nostro ragionamento è partito dal fatto che in base a quello che abbiamo valutato fino adesso diciamo che il cinque più due erano precedentemente cinque non è che ci abbia tutelato più di tanto visto quello che è successo quindi credo che l'importanza poi quando verrà scelta verrà presa la decisione dell'uno tre o cinque sarà chi sono queste persone e perché ne scegliamo una tre o cinque questo dipenderà dalla dalla strada e dalla mission che intendiamo dare poi definitivamente all'azienda quindi non non penso ci sia da parte nostra non ci sono difficoltà a includere la possibilità dell'amministrazione dell'amministratore unico scusate quello che ci interesserà poi capire lavorare su questo argomento per capire le motivazioni perché per il momento c'è stato accennato dal commissario durante la commissione della possibilità e del suo indirizzo che sembra essere quello di andare verso l'amministratore unico ma vorremmo capire il motivo che penso sia compreso poi nelle logiche che verranno scelte per il futuro dell'azienda grazie 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 alla consigliera a Iosa chiesto la parola al consigliere Foggetto mia facoltà prego si sarò breve e conciso perché abbiamo poco da dire conciso non non cadiamo in piccolezze allora partendo dal presupposto che non ci piacciono che non possiamo condividere l'idea di cariche affidate a una persona sola quindi manco manco Bruce Springsteen va in giro senza band pure lui si porta dietro qualcuno quindi le one man band non ci hanno mai fatto impazzire partendo da questo presupposto ne non potremmo essere d'accordo vorrei raccontare una storia che probabilmente qualcuno sa ben più di me un episodio che risale agli anni 90 quando un direttore dell'azienda speciale Fuggi mi dicono in Svizzera con con soldi con denaro pubblico delle aziende speciali delle farmacie e fu proprio un CDA eletto con gli stessi criteri come quello di quelli che sono stati eletti negli ultimi anni a in primo luogo recuperare il buco lasciato dal furto di questo denaro pubblico e in secondo luogo a ritornare a un attivo quindi per dirla in termini calcistici a fronte alla discussione fatta prima siamo uno a uno palla al centro da una parte un'esperienza positiva dall'altra un'esperienza negativa quindi non vedo non trovo la la motivazione di liquidare così in così poche parole in così pochi atti una modalità che è quella del CDA che secondo me non necessariamente è solo negativa se poi si parlasse di costi del CDA siamo tutti d'accordo sul fatto che non siano più i tempi per organismi onerosi come quelli che c'erano stati fino ad oggi però se si parla di amministratore unico completamente gratuito come si parla di uno si può parlare di un gruppo di amministratori quindi si potrebbe riassestare il CDA e farlo passare a titolo completamente gratuito per questi motivi noi non possiamo condividere queste modifiche grazie consigliere Foggetta ha chiesto la parola il consigliere Caponi grazie presidente ma soltanto una una precisazione sull'intervento del collega che mi ha preceduto ricordava l'esperienza degli anni 90 innanzitutto c'erano stati erano stati trattati criteri di competenza nella scelta quindi è vero anche perché il presidente di allora era Bruno Salvatore che era un dirigente dell'Enel che è stato candidato nella nostra lista civica alle ultime elezioni quindi conosciamo benissimo come è stata la dinamica delle scelte il nostro invece è una preplessità sull'interpretazione del segretario comunale oggettivamente perché riteniamo che si parli di figura giuridica più che di interpretazione del testo unico comunque se qual è la sua interpretazione ha chiesto la parola il consigliere Noss prego chiedo scusa sì grazie ma io volevo rammentare rimanendo sempre sulla delibera con quale scopo e perché sono nate le farmacie nel nostro comune e nell'atto di formazione del 55 dove mentre la prima farmacia era la prima nel 59 si parlava più riprese nell'atto costitutivo di farmacie pubbliche e scopo sociale qualcuno mi dirà che i tempi sono cambiati io dico ma siamo sicuri che i tempi sono cambiati perché lo scopo iniziale era quello di venire incontro a problemi con i quali i cittadini sestesi dovevano fare i conti ogni giorno parola del 55 la condizione sociale degli operai degli impiegati e dei tecnici anche qualificati continuava a essere precaria si faceva fatica ad arrivare a fine mese salari e stipendi erano bassi quindi bastava poco per mettere in difficoltà le intere famiglie e a questo punto io dico ma siamo sicuri che i tempi siano cambiati? la delibera per cambiare lo statuto introduce la figura possibile dell'amministratore unico l'introduzione di questa figura a nostro parere ma è a nostro parere è l'anticamera la creazione di una futura società a diritto privato un SRL molto probabilmente e quindi di una futura apertura a capitali diversi da quelli dell'amministrazione comunale obbligatoria dopo due anni vorremmo ricordare a questo proposito ossia l'eventuale creazione di un SRL che la società responsabilità limitata è una società commerciale lucrativa appartenente al genere delle società di capitali caratterizzata dalla responsabilità limitata dei soci i quali non rispondono con il loro patrimonio personale dei debiti della società la quale ne risponde esclusivamente con il proprio se il patrimonio della SRL possibile non fosse sufficiente a pagare un fornitore o altri costi si potrà chiedere il fallimento della società che non si estenderà alle persone dei soci adesso noi mi scusi parliamo della modifica dello statuto la società che sarà in futuro parleremo ai prossimi consigli la ringrazio per avermi fermato niente noi stiamo per mantenere un CDA3 quindi non un amministratore unico di una potenziale forse società o struttura o futura dove vi siano pluralità di pensieri proposte diversificate competenze plurime e che un consigliere sia nominato dalla minoranza consigliare con retribuzioni a carattere onorifico ossia solo con un piccolo rimborso spese d'altronde che rimango sul pezzo se vogliamo prendere ad esempio la legge 122 del 2010 articolo 6 comma 2 riportandola nel futuro statuto dell'azienda speciale farmacie comunali vediamo che questa legge impone perenti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche anche se questo non è il nostro caso ma impone la non remunerazione del CDA è solo uno spunto non un vincolo legislativo noi siamo per questo che ho identificato in queste righe la trasformazione delle farmacie comunali da azienda speciale a non si sa noi non la vediamo a favore non è un'operazione che amare la direzione di mantenere il controllo pubblico quella di creare un potenziale amministratore unico da aggiungere a un'azienda speciale come in questo momento lo statuto dice se i problemi erano di un certo tipo secondo me con la presentazione del piano industriale si sono risolti quindi non capiamo questa prospettiva di nominare un amministratore unico a noi piace essere in tanti quando si decide una pluralità di idee ci ha sempre fatto molto piacere non abbiamo mai visto poi un parentesi qui vado fuori dal tema un privato che compra una piccola partecipazione di un SRL in difficoltà anche perché poi saremmo probabilmente l'unica azienda che non è speciale noi adesso siamo in questo momento perdono l'unica azienda speciale che ha delle difficoltà economiche tutte le altre non lo sono quindi il fatto di inserire un amministratore unico la vedo un po' triste noi siamo del parere che come è stato detto anche da e non vorrei dire una sciocchezza dal sindaco Monica Chittò e dal commissario straordinario Luca Finazzi che in questi mesi sono state intraprese diverse azioni per il risanamento e il rilancio dell'azienda speciale la strada è lunga ma si inizia a vedere la luce da questo punto non capiamo il perché di cambiare lo statuto inserendo l'amministratore unico grazie grazie consigliere nostra chiesto la parola il consigliere De Noia grazie presidente prima ricordavo la consigliera Iosa appunto la possibilità di inserire una possibilità in più nello statuto noi siamo d'accordo con questa cosa anche perché quando penso a un consiglio di amministrazione ho la possibilità di mettere uno tre o cinque mi viene un po' in mente il gioco delle sedie sapete quando si mette sulla musica cominciano tutti a correre intorno alle sedie quando si spegne la musica si devono sedere quando c'è la formazione di un CDA come dicevo prima spesso e volentieri è brutto dirlo ma è così ci sono ci si presenta un po' a seconda del peso politico e si decide chi mettere nel CDA e si fanno rivendicazioni io penso che questi tempi siano un po' finiti penso che la differenza la facciano veramente le persone e che sia uno a tre o cinque noi preferiamo che siano meno possibili non tanto perché crediamo che uno decida meglio di tre o di cinque ma semplicemente perché che siano retribuiti o non retribuiti comunque ci vuole un po' più di snellezza negli organi di governo delle società qualsiasi società quindi introdurre questa possibilità secondo noi va in una direzione giusta e voteremo favorevolmente grazie consigliere De Noia se non ci sono più interventi passerei alla dichiarazione di voto passiamo alla dichiarazione di voto iniziando col gruppo giovani sestesi la consigliera Iosa favorevole grazie grazie federazione della sinistra consigliere Foggetta Sì favorevole mi rubo due minuti per scusate ho sbagliato era un attimino contrario chiedo scusa rubo ancora due minuti per rispondere alle simpatiche rie che mi hanno visto protagonista che arrivano da parte del consigliere Caponi dicendo che io in realtà sapevo che il presidente del CDA di cui parlavamo prima fosse Bruno Maroccolo ci informeremo meglio entrambi e capiremmo per cortesia no no sto parlando di una cosa risalente a tanti e tanti anni fa ci informeremo entrambi e poi scopriremo chi aveva ragione rispetto a quanto detto prima io dico che lei ringrazia ringrazia io un po' mi rammarico che dietro la bandierina della nuova politica si nasconda chi tre consigli fa ci ha dato dei fascisti questa sera ci ha dato dei complici e quindi io questa cosa un po' la trovo fastidiosa ho detto già a inizio dichiarazione che siamo contrari grazie gruppo sinistra ecologia e libertà consigliere Nossa noi siamo contrari grazie abbiamo capito gruppo misto consigliere Landucci no io mi astengo perché non credo che non sono convinta della legittimità della delibera così come è stata presentata allora prima un attimino per cortesia non c'è da fare nessuno spirito su queste cose la delibera è un atto amministrativo quindi è arrivato in consiglio già con dei pareri tecnici e poi si può fare benissimo ricorso al TAP visto che è un atto amministrativo andiamo avanti quindi ognuno è libero di pensare e di fare ci sono sempre altri che vanno a giudicare gruppo movimento 5 stelle consigliera Franciosi prego grazie presidente allora noi ci sterremo su questa delibera un'unica perplessità a dicembre quando abbiamo fatto la seconda modifica dello statuto per prorogare il commissariamento io vi avevo chiesto in commissione ma siamo sicuri che 90 giorni bastano non sarebbe il caso di farne altri 6 mesi no no 90 giorni finiamo ovviamente il percorso non è finito secondo il nostro modesto parere sarebbe stato meglio far concludere questo percorso straordinario al commissario e non passare a un percorso ordinario per poi essere cambiato comunque astensione grazie grazie alla consigliera franciosi gruppo popolo della libertà consigliere di stefano e astensione grazie gruppo verso sesto anche se già dichiarato prego grazie presidente favorevole gruppo sesto nel cuore consigliere grazie astensione grazie partito democratico consigliere rivolta sì grazie presidente ma io trovo un po' originale perché qualche consiglio fa forse l'ultimo consiglio adesso non ricordo sono stanco anch'io abbiamo discusso lungamente sul fatto vi ricordate la delibera del cap ecco in cui siamo stati accusati di come dire di avvallare la creazione di nuove società con nuovi consigli di amministrazione la consigliere Randucci disse anche a titolo gratuito gratuito non esiste niente e via dicendo un'iscussione durata a lungo francamente anche imbarazzante rispetto alle cose che sono state dette adesso noi qui ci troviamo a decidere la possibilità di avere un amministratore unico e quindi di ridurre la governance in una certa misura di ridurre i costi in una serie di cose non va più bene boh io non lo capisco faccio fatica a capirlo faccio fatica a capirlo la sensazione è che l'importante sia fare la bagarre di volta in volta a seconda dei temi mi sarei aspettato che questa sera dopo la discussione di quel consiglio comunale tutti quanti quelli che quella sera si opposero a quella cosa in maniera in maniere diverse con modalità diverse questa sera votassero perché lo statuto si doti anche della possibilità di avere un amministratore unico punto mi sembra veramente strano rivadisco questa cosa la trovo incomprensibile trovo che questa idea poi per cui se possiamo trovare in tutti i modi in questo percorso un cavillo che permetta di far saltare una qualsiasi possibilità e quindi mettere i bastoni tra le ruote a un piano di risanamento e di rilancio delle farmacie la percorro la scelgo così è stato fatto in questi mesi dimostri che da parte di di gran parte dell'opposizione questa idea per cui si possa arrivare a una gestione delle farmacie più consona ai tempi e più come dire capace di affrontare la crisi che ha superare la crisi che ha vissuto sia evidentemente qualcosa che non piace e direi che il dibattito di questa sera lo dimostra ampiamente cioè evidentemente come dire si sarebbe preferito che questa cosa avesse uno sbocco diverso e non positivo così come si prospetta prendo atto e credo che credo che per cortesia va davanti consigliere Landucci per cortesia per cortesia consigliere Landucci consigliera siccome sono le 2.39 abbiamo sentito tutto e tutti posso anche ascoltare il lamentio della consigliera Landucci il mormor no lei non si lamenta mai vada avanti quindi io trovo abbastanza curioso e originale ai consiglieri comunali della maggioranza che hanno deciso di come dire di non votare a favore di questa di questa cosa perché prefigura qualche cosa che deve essere ancora discusso e comunque ribadisco che così come qualcuno ha detto in consiglio cioè che bisogna sviluppare delle sinergie con altre farmacie pubbliche se non si trasforma in SRL non c'è neanche la possibilità probabilmente di sviluppare sinergie perché l'SRL cioè la trasformazione dell'azienda speciale ci permette di operare fuori dal territorio ed eventualmente di incorporare un partner pubblico oppure per esempio i dipendenti delle farmacie basta ribadisco se si ha bisogno della cintura di castità per resistere al peccato pace grazie terminati gli interventi quindi mettiamo sottopongo a votazione la delibera di modifica lo statuto della farmacia comunale inizio votazione grazie fine votazione consiglieri presenti 22 contrari 2 astenuti 6 favorevoli 14 il consiglio approva anche su questa delibera è prevista la seconda votazione un attimo di pazienza andiamo sulla seconda votazione per l'immediata eseguibilità inizio votazione fine votazione fine votazione consiglieri non allontanate perché c'è un'altra votazione dei perbari consiglieri presenti 22 contrari nessuno astenuti 6 favorevoli 16 consigli approva consiglieri Antonio ogni dove va dobbiamo votare l'ultima votazione approvazione dei verbali delle sedute consiglieri dei giorni 17 febbraio 10 marzo alle ore 20 e 30 inizio votazione fine votazione consiglieri presenti 21 contrari nessuno astenuti nessuno favorevoli 21 il consiglio approva io volevo fare un elogio a tutti i consiglieri di come si è svolta la seduta c'è stata un'ampia discussione e grazie della collaborazione buonanotte a tutti grazie